Non mi sembra vero ragazzi, non mi sembra vero! Siamo in live! Allora, sono successe un sacco di cose quindi adesso vi devo parlare assolutamente. Quindi bentornati a tutti nelle livestream di Ricco-kun che sono rimaste ferme per mesi e mesi e prima di tutto come vedete c'è il Song Request ma sono le canzoni di default perché ho deciso di svuotare la playlist diciamo la coda delle canzoni è vuota quindi andate a richiedere quello che volete, il massimo delle canzoni è 10 e seconda cosa che sicuramente credo che si senta però non ne sono sicuro è che c'è un po' di riverbero perché ho cambiato casa! Vedete questo background molto figo con tutte le mie cose esposte perché questa è la mia casa l'ho comprata finalmente ho una casa mia questa è la mia postazione nuovissima e il riverbero purtroppo è per perché la casa è nuova appunto è vuota le pareti sono alte quindi ci sarà un bel po' di lavoro da fare quindi per ora questo riverbero non so se lo sentite io lo sento davvero tanto anche con le cuffie quindi forse se apro la porta è meglio io pensavo che ok si è un po' meglio con la porta aperta in effetti e io pensavo che con la porta chiusa non si sentisse troppo il riverbero invece è proprio la sala perché fuori da questa camera c'è il salotto che è immenso vuoto quindi il riverbero pensavo venisse da lì invece se tengo la porta chiusa è peggio diciamo che magari si dirada meglio il rumore comunque ragazzi buonasera a tutti cioè buongiorno a tutti sto streamando di pomeriggio perché oggi giocheremo ocarina of time randomizer e sono diventato molto più bravo quindi credo di riuscire a finire una partita dall'inizio alla fine mi piacerebbe tanto portare un seed alla settimana ogni due settimane ma vediamo un po' cosa vediamo un po' cosa succede insomma quindi ragazzi buongiorno a tutti ciao giuseppe ados siete sempre voi io vi voglio troppo bene in questi mesi in cui siamo rimasti senza queste live comunque ho visto che la gente su discord c'è sempre niente siete un pubblico stupendo quindi sono stato super super contento di tornare a streammare non vedo l'ora di oggi e niente ci buttiamo a giusto ho tagliato i capelli da un po' anche però sì chi è su discord lo sa ma magari qualcuno non passa troppo da discord e sì ho tagliato i capelli ciao a tutti ciao jerk basumero alfa max nova ciao gamer sì che ti saluto i capelli lezzi ciao night bot anche te perché no ciao ando oddio già parte questa è la prima canzone richiesta è carabria richiesta da stuvi giustissimo bravissimo stuvi vedo che certi meme non devono morire mai nuovo layout come vedete ho avuto il tempo di lavorare anche sul layout e sono abbastanza contento sembra tu abbia 30 anni addirittura ciao gabri it begins ciao neos grazie mille per il bentornato grazie rob e ok ho anche un timer quindi ragazzi io voglio un po' dirvi che cosa succede oggi nel senso sì è bello anche ritrovarsi è bello parlare di tutto quello che è successo mentre non ci siamo visti sono stracontento comunque di essere in live bentornato ricco è già una donazione ragazzi no siete troppo gentili ciao grazie il grazie mille per i due euro e dicevo si è bellissimo parlare di tutto quello che è successo in questi mesi in cui non ci siamo visti ma è anche giusto parlare di cosa faremo oggi ovvero ocarina of time randomizer quindi mi sono tanto tanto esercitato ho finito due seed randomizer cosa che non avevo mai fatto nel senso tutti i seed randomizer che avevamo iniziato in live alla fine non li ho finiti perché vari motivi e invece ne ho giocati due per fatti miei e per mesi no credo settimane a sto punto per settimane non ho addirittura ragazzi no dai riempiendosi di piselli no pagiano vabbè ma ragazzi non ho ancora iniziato a fare niente già mi state donando un sacco siete troppo gentili davvero cioè boh e stavo parlando di quello che ho giocato sì ok e oggi ho finito due seed di randomizer e adesso ce la facciamo cioè dovremmo farcela in massimo massimo credo 8 9 ore quindi credo che saremo in live per tutto il giorno e season 2 short haired c'è il song request sì gamer song request megalomania questa è la forma intermedia tra il ricco con il ricco con calvo il ricco con calvo è il più forte dei ricco con giustamente e niente quindi cosa facciamo oggi ocarina of time randomizer il seed l'ho già generato ci sono tutti i colori mischiati tutti i suoni mischiati negozi mischiati shuffle delle chiavi dei boss ma non delle chiavi piccole perché non sono ancora così sgamato da giocare con le chiavi piccole mischiate e tante 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 cose che verranno fuori danno doppio non quadruplo perché ho un po di problemi di input lag non voglio morire mille volte da phantom ganon e dai stalfos e buona quindi iniziamo ragazzi sarà molto 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 divertente ve lo assicuro io vi consiglio di rimanere il più possibile ma ovviamente la vita sociale o altri impegni possono prendere priorità non mi offendo però ragazzi oggi ci divertiremo davvero tanto 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 perché ho molta più conoscenza adesso del gioco so cosa vuol dire veramente giocare a ocarina of time randomizer non sono scarso ho un map tracker so tutte le location so tutto cioè adesso so veramente tutto sono pronto per giocare ocarina of time randomizer dall'inizio alla fine in una seduta ce la facciamo ragazzi capelli e barba ti danno dieci anni in più va bene una bruttissima cosa dai anche perché la barba l'ho fatta ieri cioè la barba regolata serve perché ragazzi no davvero ultimamente ho scoperto la macchinetta e la macchinetta è la vita è troppo 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 utile ok fatemi sapere se il volume va bene io ho dovuto alzare un po il mio di volume perché sono al riverbero mi stordisce va bene ci sei mancato grazie games ok quindi partiamo cos'è il suono non capisco se è il rumore delle delle rane o che cosa ok e poi quando ci muoviamo nel menù il rumore è la risata di zelda credo ok e chiamiamo il nostro personaggio alessandro borghese però non ci starà mai tutto insieme quindi borghese ok ci sta perfetto borghese ragazzi siete pronti sembra midnight si è vero è già porno stai boom andiamo ragazzi partiamo con il fire medaglion ok segniamoci tutto quindi il fire medaglion ok no ho sbagliato ho già sbagliato a segnare le cose quindi free non free mister free time ma free il coso ok bom andiamo ciao simone bello sto colore comunque ti seguo quando ero un ragazzino su mario kart come plarpon con tartosso che bello ok e mi vedete muovere ancora più spesso con niente ruppie vedete muovere molto più spesso con il back walk o i side flip perché il movimento ad airfield fino a che non abbiamo le le canzoni per teletrasportarci è necessario quindi primi quattro oggetti frammento di cuore inutile una rana a proposito di rane no vabbè questo le segno dopo fatemi fatemi prendere tutte le cose poi le segno nel tracker oddio ecco ok così ora ti fai chiamare rippucum è nerd oh come va scemo sono tanner dell'itis ti ricordi di me a scuola ti bullizzavamo vedo che non molto è cambiato è scusa ma eri un obiettivo facile non ho capito chi ha donato però aspetta che devo recuperarmelo questo perché è interessante e a proposito un'altra cosa oh mio dio ragazzi fermatevi ricordi veronica la ragazza di cui ti eri innamorato a scuola siamo sposati guadagno oltre 200k all'anno e guido una mustang gp immagino che alcune cose non cambino mai è perdente buona fortuna raggingerni l'olio ma cos'è no bo bellissimo non so chi l'ha inventato sta roba però no minchia sta canzone mi sto facendo già morire dentro però vabbè grazie tanner per i due euro e per la fantasia e altra cosa a proposito no ragazzi sta canzone mi sta stordendo ogni noce che troverò nelle nelle cest mangerò una noce vera perchè 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 no perchè dobbiamo fare intrattenimento no quindi lo facciamo quindi ogni decunat che troverò noce e via non ho fatto partire il timer vabbè tanto sto perdendo un sacco di tempo quindi va bene così vediamo se riesco a regolarmi un pochino lo schermo di qua ok ok non riesco a regolarmi lo schermo ho bisogno di tre schermi va bene quindi noce e ah il fuoco di din è buono questo è buono ok iniziamo a segnare gli oggetti fuoco di din no no ho sbagliato questo qua è la trade sequence delle maschere questo ok non sarà facile segnare tutto perchè ho un map tracker nel map tracker dobbiamo segnare tutte le location che visitiamo in modo che poi quando non abbiamo più idee andiamo a visitare solo quelle che ci mancano the gunas challenge esatto andiamo a prendere la spada quindi abbiamo già trovato il din's fire che è buono ci può servire un sacco per entrare nello shadow temple per rubare no che rubare oh jabu jabu sbelli contiene lo zora sapphire buono quindi le bussole ci danno informazioni su ehm cosa contiene determinato dungeon quindi abbiamo trovato la bussola del di jabu jabu minchia raga sta canzone non la sopporto più però ok quindi sappiamo che jabu jabu contiene lo zora sapphire ok perfetto quindi non abbiamo bisogno per finire il gioco non abbiamo bisogno di fare jabu jabu sbelli questo è quello che vuol dire ora dato che siamo in shop sanity dobbiamo andare a visitare anche il negozio perché potrebbero esserci in vendita dei negozi degli oggetti utili vediamo allora non vedo oggetti utili potrei comprare una rupia da 5 per 205 una rupia da 20 per 205 rupie grazie ma no ok quindi niente di utile qui va bene quel tizio che sta accanto ai titoli delle canzoni sei tu da giovane? è con ata ok adesso andiamo al market decisamente andiamo al market perché con con shop sanity i negozi sono veramente stra densi di roba andiamo prima ah giusto anche l'oggetto di sa no c'è va bene no ragazzi andrò in indigestione da noci ma proprio tanto alla mia destra c'è la luce di dio si ok andiamo al castello di euro mio dio ok ragazzi niente l'audio va bene tutto va bene andiamo all'Irule Castle vediamo che cosa c'è no devo risolvere davvero questo riverbero perché in effetti è forte non so se voi sentite il riverbero io si ah ok un'altra cosa del randomizer nuova è che inizia un orario casuale quindi ora non riusciremo ad arrivare al rilasco che merda fanculo ok è un problema del randomizer cioè un'altra opzione che hanno aggiunto nel randomizer è che si può iniziare e il tempo può iniziare in qualsiasi momento della giornata quindi a noi è andata di sfiga è iniziato leggermente dopo l'inizio della giornata quindi ci siamo beccati il ponte chiuso in faccia quindi fa niente backup andiamo a cacarico village dopo il randomizer fare la challenge delle zero rubie beh direi che è un po' più divertente il randomizer che dici in live si può dire la parola con la n prova a sfidare youtube allora di notte a cacarico village cosa possiamo fare possiamo prendere quello scultulla ma non abbiamo modo per ucciderlo perchè io che ho già più beccato niente ho le noci e il fuoco di din ah in effetti si posso ucciderlo con il fuoco di din no perchè non ho la magia ok quindi no niente quello sculturo non lo possiamo toccare che merda come te la sei passata dopo la sconfitta di sakura mentre giocavi a roa con free e obama la sconfitta di sakura questa è una citazione molto raffinata caro il mio e dampe dove sei? non c'è dampe ok perchè non c'è dampe? perchè non c'è dampe perchè prima bisogna no perchè ho sbagliato l'orario perchè dampe in qualche modo spawna non ha tutti gli orari della notte è una merda perchè il problema è che l'orario passa solo aerofield quindi dobbiamo rientrarci no questa è brutta non ci voleva dovevo riuscire ad andare al market allora io dovrei aver giocato dovrei aver impostato il seed con con il kakariko gate aperto quindi possiamo salire a death mountain e poi in teoria posso uccidere questo ma non voglio perderci ah no si ci sono i vasi quindi posso ucciderlo con i vasi vediamo comunque questo rumore della rupee della silver rupee è nato ok questo è salvini esatto kakariko gate aperto quindi iniziamo a segnare le cose del map tracker voi non lo vedete il map tracker però a me serve decisamente il middle house gift from saria cookie di sword e poi abbiamo detto che non l'abbiamo visto altre perchè perchè il market era chiuso ok quindi lassù c'è cos'è l'uovo è un uovo ok quindi sappiamo che il weird egg è là sopra quindi adesso devo trovarlo eh esatto è questo no vabbè ho sbagliato vabbè ce lo ricordiamo dai che quello è l'uovo ora direi che andiamo all'ellosvuls perchè non abbiamo bombe quindi qua non ci possiamo fare niente Rikukun devi leggere più la chat altrimenti potrei diventare il contrario di calmo perdonami scusi Frii non sapevi che avevo tagliato i capelli? allora a Goron City cosa possiamo fare? un cazzo in realtà no andiamo all'ellosvuls io sono venuto qua per deviare all'ellosvuls in realtà quindi di qua andiamo all'ellosvuls ah non posso non posso niente save warp facciamo il save warp ok save warp perchè non ci possiamo schiudare volevo andare al market però è diventata notte e non volevo aspettare quindi niente andiamo andiamo nell'ellosvuls e nell'ellosvul ci sono i decu scrub quindi becchiamo un po' gli oggetti dei decu scrub complimenti complimenti ancora 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 sono riuscito a failare così senti link e sterzili sono cambiato vero? ma sono cambiato in meglio un mentiro e si andiamo all'ellosvuls l'uovo lo prendi con il backflip si in effetti potevo prenderlo quell'uovo però tanto dobbiamo tornarci a a death mountain lo so potevo già prenderli in effetti però ho deciso di non fare quella strada volevo provare ad andare a Goron City non so per quale motivo mi sono dimenticato che non potevo andare a Focchi di Forest senza le bombe ciao Skull Kid allora qua c'è un business scrub quindi andiamo a vedere cosa ci vende di bello tutti i business scrub vendono un oggetto per 10 rupie purtroppo le Gossip Stone ancora non possiamo consultarle per meno male che ho le noci se no non potevo stunnarlo dammi qualcosa la Big Goron ok Big Goron Sword dammi un po' di rupie di resto thanks Majora's Mask è uscito il randomizer di Majora's Mask e ho dedicato un sacco di tempo per sviluppare un map tracker che sta venendo utilizzato e non è per niente facile sviluppare un map tracker non so se qualcuno di voi ha presente un po' come funzionano perchè purtroppo è una parte del layout che non vi posso far vedere perchè veramente occuperebbe troppo spazio LOL abbiamo la Big Goron fantastico ora non abbiamo l'Ocarina non possiamo fare quel minijoco non abbiamo la Fionda non possiamo fare quell'altro possiamo andare... ho sbagliato strada ok c'è un'altra stanza nelle Lost Woods che che ha altri due Deku Scrub quindi cerchiamola che Majora's Mask è meglio di Ucraina off time è un po' la stessa cosa solo che Majora's Mask ha delle meccaniche veramente geniali per quello che preferisco Majora's Mask ok qua ci sono due Deku Scrub BOOM possiamo prenderli entrambi figo Deku Stick ci possono servire i Deku Stick lascia stare oddio sta canzone oh la Kokiri Sword si non ci credo c'è i Deku Scrub mi hanno venduto Kokiri Sword e Big Goron fantastico ciao Fasux ok quindi non possiamo fare nulla credo quindi andiamo andiamo al Deku Tree per me a fare un pezzo di Deku Tree cioè non abbiamo lo scudo eh però possiamo comunque fare qualcosa credo non mi ricordo se possiamo fare il il Deku nella stanza in cui si ottiene normalmente la Fionda senza lo scudo se si possiamo fare un bel pezzo di Deku Tree ok facciamo proviamo e poi dobbiamo andare dobbiamo andare a Hero of the Castle per forza cioè ci sono troppe giusto dove rubaggiarmi la spada allora almeno in questa prima parte devo devo dedicare molta molta attenzione a quello che faccio perché la prima parte del del randomizer è molto è cruciale perché si capisce un po' che cosa devi fare cioè nel senso a seconda di quello che trovi all'inizio decidi un po' che cosa fare quindi sto decisamente prestando tanta tanta attenzione al gioco e non alla chat per quel motivo quindi qua possiamo spuntare questo possiamo spuntare questo ok e poi devo anche stare attento al map tracker perché devo aggiornarlo al map tracker quindi cosa abbiamo ottenuto che oggetti abbiamo ottenuto in teoria basta questi sono gli oggetti che abbiamo ottenuto ok adesso questa cesta è free quindi andiamo free mr free buona ero's love vabbè è inutile però sono contento di aver ottenuto qualcosa da spuntare ok ora qui noi io spero di poter fare questa stanza senza scudo perché sennò devo sei vorpare no non posso farlo cazzo no serve serve lo scudo devo sei vorpare via è un altro ok pensavo di poterlo uccidere con le noci invece no egregio erikukun cos'è il map tracker allora il map tracker è un un'applicazione insieme a quello che vedete sotto di me quindi qua sotto questo qui è l'item tracker esiste anche il map tracker che invece permette di segnarsi le location di tutto il gioco di tutto ocarina of time che che si ha incontrato praticamente cioè praticamente tu ok possiamo salire eh sì devo salire per forza navi mi hai rotto i coglioni quel rumore della silver rupee comunque è navi tutti i rumori sono randomizzati come il colore della mia tunica ci passo? sì questo è un opening di anime sicuro però purtroppo non riesco a vedere tutto ho bisogno di tre schermi no ma raga ma non posso avere tre schermi no sapete la soluzione deve essere che io devo imparare a giocare senza map tracker così che ho molto più spazio nel secondo schermo oppure non devo giocare a schermo intero perchè quelle sono le alternative ciao pic non pensavo ci fossi anche tu ti mancavano le mie live ammettilo qui allora vediamo sta chest prometto di cuore inutile ok ora io lì voglio andare perchè a parte che c'è una chest ma non ho scudi è vero testa ok sto giocando col danno doppio quindi anche le decubaba del cavolo a inizio gioco mi fanno parecchio male quindi comunque ottenere dei frammenti di cuore o earth container non è male ok io che parlo in chat con due account per richiedere canzoni insieme ovviamente jerk star jerk things allora dammi questa scultura ah tra l'altro abbiamo il trail della spada colorata guardate altra cosa randomizzata ok mi devo segnare anche che ho gli scultura perchè purtroppo sto giocando buona la nocturne of shadows si ok quindi nocturne of shadows segniamo questo boom boom ok andiamo CHIURAZ ciao bc pippo ti immagini se ne aveva come rumore le mummie che ti paralizzano si purtroppo ho avuto il rumore delle mummie non dell'urlo delle mummie però sarebbe davvero inquietante quello da parte che adesso il rumore di navi che indica i nemici è ingo quindi è proprio uno dei rumori peggiori del gioco sinceramente ok dai va bene siamo abbastanza in mezzo adesso non abbiamo la fionda non abbiamo lo scudo quindi possiamo fare poco qua sinceramente però ci sono altre chest che possiamo aprire va bene riccardo parlaci di te dai cosa hai fatto allora sono stracontento di questa casa ragazzi ho comprato finalmente sono riuscito a comprare casa perché rimanere in affitto non aveva senso e rimanere con i miei non mi andava più sinceramente cioè a me i miei mi hanno sempre trattato davvero tanto bene però ho sempre desiderato ho sempre avuto il desiderio di comunque essere indipendente e quindi niente sono contento di esserci riuscito questo qua si può prendere senza pionda forse sai sì mamma mia ok buono tanto allora ci dovremmo tornare comunque con la pionda qua perché sennò non riusciamo a finire il Deku Tree però almeno abbiamo uno skull tool in più che forse ci può essere utile prima che torneremo al Deku Tree anche perché col fatto che Jabu Jabu ha lo Zero Sapphire sappiamo già che è molto più possibile che questo dungeon abbia un medaglione quindi il Deku Tree potrebbe essere ah ma sai che forse qui non ci conviene andare non ci serve a niente perché non abbiamo la fionda quindi non possiamo finirla questa fammi, fammi controllare a parte che non abbiamo neanche lo scudo quindi no no via save work, andiamo via ok quindi eh sì, sono davvero contento di questa casa ragazzi non pago affitto ciao Emanuele sono randomizzate anche le cose tipo il colore del vestito di Link sì, sì, è selezionabile non è per forza cioè non devi per forza selezionarlo però sì, sono tutte cose che che si possono randomizzare hanno davvero aggiunto un sacco di cose cioè ragazzi il trail della spada cioè la scia della spada randomizzata di colori randomizzati cioè per intendersi no? qualche stick mi può servire a parte che adesso abbiamo abbiamo la spada quindi gli stick non ci saranno più così tanto allora adesso ragazzi dobbiamo andare a Hyrule Market perché con gli oggetti che abbiamo adesso sì, abbiamo trovato oggetti utili comunque abbiamo trovato la Nocturne of Shadow abbiamo trovato il Deem's Fire cioè praticamente il Sid mi sta dicendo fai lo Shadow Temple però appunto senza Ocarina senza Song of Time da grandi non possiamo diventare quindi ci servono o oggetti utili per Child Link o Song of Time e Ocarina per andare allo Shadow Temple ciao Cusi allora abbiamo altri due colori in realtà per cui potrebbe uscire Link rosa o di qualsiasi altro colore perché ci sono le tre tuniche ho sentito un bellissimo come si chiama? Forsen Boys o Flarpon Boys adesso lo scopriamo ok Forsen Boys quindi ora andiamo per forza a Hyrule Castle quanto ti è costata? beh, vorrei non dirlo su internet quanti metri quadri? 90 quello lo posso dire Realm of the Mad God non credo che ci giocherò più ragazzi voglio dedicare il mio tempo in modi migliori non per dire che Realm è un brutto gioco però è veramente uno di quei giochi che richiede fin troppo tempo per quello che offre a mio parere comunque ci ho giocato talmente tanto che non ho più non ho più il desiderio diciamo di di perdermi qualcosa che aggiungono quegli aggiornamenti o che cosa cioè mi basta averci giocato comunque mi ci sono divertito e basta non credo che ci giocherò più tanto allora abbiamo la spada attenzione abbiamo la spada quanti scultura abbiamo? 1,2,3,4 mi sembra abbiamo la spada quindi possiamo uccidere lo scultura qua dentro senza troppi problemi per quello ho fatto questa deviazione ovviamente mi becco il danno tra l'altro mi ha fatto un cuore solo non dovrebbe farmi due da due cuori strano ok 5 rupie cioè 5 scultura camminare indietro sì in effetti a volte mi dimentico comunque allora siamo in shop sanity quindi i negozi sono molto utili voglio trovare qualche ice trap ragazzi quello è un ice trap voglio vedere come si chiama quindi contesto ragazzi le ice trap sono le trappole che si trovano nelle ceste di ghiaccio cosa hanno fatto i geni? hanno messo degli oggetti utili nei negozi però con le scritte sbagliate e quelle sono le ice trap e a me fanno morire con le scritte sbagliate adesso capite cosa intendo kekari sword sarebbe la kokiri sword però con le lettere sbagliate perché quella è un ice trap quindi che 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 cos'era kekari kekari sword vabbè ovviamente non la comprerò il denario in goleador jerk ma perché hai comprato delle oh c'è una c'è una boschi eh attenzione perché hai comprato delle goleador la chiave del water temple questo me lo devo segnare quindi abbiamo detto castle town bazaar non c'è niente potion shop invece abbiamo la chiave del water temple ok che non possiamo comprare perché costa un sacco adesso e però qua c'è uno scudo deku aha lo compro ok quindi lo scudo deku costa sempre 40 rupee perché questi sono gli oggetti di base dei negozi cioè i comunque gli oggetti di base dei negozi rimangono e vengono aggiunti altri oggetti ora possiamo fare questo minigioco che è una rottura di palle ma lo facciamo va bene kek sword se in un negozio vendono una noce tu la compri per mangiare una vera noce non voglio spendere i miei soldi in cose inutili purtroppo non lo farò però sì le regole sono quelle cioè qualsiasi oggetto io ottenga ovviamente oggetti veri quindi non i drop qualsiasi oggetto vero ottengo che è una noce devo mangiare una noce vera 50 rupee non mi fanno schifo mi possono servire ok eh lo so offri non è facile ti assicuro che non è facile cioè è difficile riprendere comunque non è per niente facile fare tutto e poi non ho organizzato bene lo spazio purtroppo cioè vi giuro che sono rimasto un sacco di tempo per disformi la live e comunque sono arrivato all'ultimo che grazie e comunque sono arrivato all'ultimo che che mi mancava ancora roba cioè non sono riuscito a gestirmi lo spazio dello schermo nel tempo praticamente allora io ho uno scudo quindi equipaggiamo adesso io sono scemo perché se io avessi preso l'uovo adesso potrei andare da zelda e invece niente me lo merito questo ho sbagliato eh ho sbagliato io quindi adesso cos'altro possiamo fare possiamo aspettare notte no non aspetto notte eh però mi serve no devo farlo niente devo aspettare notte e vedere e vedere il check del cane quindi nel frattempo che aspettiamo notte vi cavo perchè ve lo meritate tanto ma questa in sottofondo è la canzone dei fattoni no è una delle nostre canzoni in joke del canale per cui ti consiglio di rimanere sintonizzato per altri meme del genere quindi sappiamo che lo zoro suffer è Jabu che altre cose ah giusto mi segno i check già che ci siamo quindi malon fatta questo l'abbiamo fatto bomchushop giusto possiamo vedere bomchushop e poi andiamo a kakariko e facciamo tutti i check di kakariko semplicemente si si la prossima cosa è andare decisamente andare a kakariko madonna cos'è sto casino controlla anche il bomchushop di notte esatto è quello che voglio fare assolutamente ragazzi ma che cazzo cos'è sta roba skip proprio Giojo Giojo è che ragazzi vedrò Giojo ho dato anche questa bellissima notizia che vedrò Giojo siete contenti? immagino che siete contenti di sapere ciò aspettiamo notte ci siamo quasi dovrebbero randomizzare anche i personaggi del tipo magari Zelda la mummia e la mummia Ganondorf purtroppo ogni cosa che c'entra con i swap dei modelli al momento è irrealizzabile perché è veramente complicato per come funziona per come funziona Nintendo 64 insomma i modelli sono sono gestiti in modo molto complesso rispetto a tutto il resto quindi scambiare i modelli dei personaggi è difficile in qualche modo nel randomizer di Majora's Mask il tizio è riuscito a randomizzare i nemici però non sono veramente dei model swap sono semplicemente dei placement diversi e comunque è davvero impressive come roba è incredibile io non pensavo sarebbero riusciti a fare un enemy randomizer e arriverà anche su Ocarina of Time qua mi dimentico sempre qual è la porta spero che sia questa ok bene vediamo i frammenti di cuore allora non mi fanno schifo i frammenti di cuore perché comunque appunto con il danno doppio o avere un po' più di vita non è male per niente oh lì c'è una Song of Time mi sa Song of Time 15 rupis bellissima questa Song of Time 15 rupis oh mio dio allora puoi comprare qualcos'altro? no non voglio comprare altro grazie 85 rupi è un frammento di cuore potevo quasi farci un pensiero ok ok perfetto quindi adesso ci possiamo togliere questo bom two shot ok dobbiamo andare adesso save warp però perché non voglio perdere altro tempo quindi save warpiamo e andiamo a Kakariko Village oh mio dio sembra una canzone araba spotify esiste? certo che esiste spotify però il song request non so come si colleghi a questa situazione però io te lo dico il song request non funziona con spotify il song request funziona solo tramite input purtroppo come sta andando Sid? allora bene non è male ma non è male non è benissimo diciamo cioè abbiamo trovato la song of time che è una roba della madonna perché vuol dire che possiamo diventare adulti con la song of time dato che sto giocando con il door of time chiuso quindi non possiamo diventare adulti fino a che normalmente nel gioco non hai le tre pietre però le tre pietre in realtà non sono quelle che aprono il non sono le pietre ad aprire la door of time ma bensì è la song of time che ottieni dopo aver ottenuto le tre pietre quindi semplicemente ottenendo le tre pietre non guadagni nulla cioè guadagni il drop appunto dell'Ocarina che ti lancia Zelda e la song of time ma l'unica cosa che serve per diventare adulti per aprire la door of time è la song of time quindi noi abbiamo la song of time ci manca l'Ocarina adesso ma è una glitch run randomizer no non è glitched è semplicemente glitchless cioè giochiamo cioè glitch run spiego per chi non lo sa praticamente io potrei andare anche a vedere Dampe però Dampe lo lascerò per più avanti devo ricordarmi che ne sto facendo Dampe comunque devo aspettare il giorno purtroppo una cosa una rottura di palle assurda è giocare senza Sansong e la Sansong è strautile soprattutto da bambini perché appunto puoi far diventare giorno e notte quando vuoi e tanti check soprattutto Kakariko e Hyrule Castle sono legati sei giorni o notte comunque la logica praticamente ci sono più settaggi per randomizer ci sono quelli pazzi che giocano con logiche glitched cioè vuol dire ogni cosa può essere piazzata dove capita e è facile che tu debba utilizzare dei glitch per raggiungerle mentre in glitchless ovvero quello che stiamo giocando noi è come semplicemente se giocassimo a un gioco fatto apposta per essere completato però tutti gli oggetti sono comunque piazzati in posti casuali non completamente casuali perché comunque devono essere raggiungibili quindi deve essere possibile insomma sostanzialmente Kimeni su Nutaku non so chi è non è il primo randomizer che vedo ok, no stavo spiegando un po' per tutti qua lo so che sai che serve la Song of Time comunque si abbiamo trovato la Song of Time ci manca l'Ocarina abbiamo il Doom's Fire abbiamo la Nocturne of Shadow quindi praticamente il gioco mi sta dicendo vai a fare lo Shadow Temple in sostanza cioè con le bombe adesso con le bombe e l'hookshot veramente potremmo fare lo Shadow Temple quasi potremmo davvero arrivare ben in fondo allo Shadow Temple quindi credo che sarà uno dei primi dungeon che faremo sempre sperando che ci sia un medaglione e non una pietra perché non voglio fare il Jabu Jabu Sbelli ad esempio cioè adesso sappiamo che Jabu Jabu Sbelli contiene una pietra e non lo vogliamo fare cioè non vogliamo fare Jabu Jabu Sbelli speriamo che non abbia dei che non contenga degli oggetti fondamentali perché altrimenti vuol dire che dovremmo comunque farlo dovremmo entrarci meno dungeon riusciamo a visitare meglio è quello è il concetto ora io non so la route delle galline non me la ricordo mai però adesso stiamo facendo quella perché sì perché è un oggetto che possiamo ottenere non ha requirements quindi gli oggetti senza requirements cioè diciamo i check senza requirements come le galline cioè per cui non serve nessun oggetto per completarle è più facile che abbiano oggetti utili perché quindi all'inizio immagina se tutti gli oggetti che puoi ottenere dall'inizio senza requirements non ti dessero nulla di utile sarebbe impossibile e infatti è per quello che è molto probabile che gli oggetti che non richiedono requirements per essere raggiunti che gli oggetti abbiano degli oggetti utili hanno ucciso l'uomo ragno se team la magia e l'ocarina è tanta roba sì mi servirebbe davvero la magia per fare lo shadow temple anche mi servirebbe appunto ocarina e magia e le bombe e l'hookshot perché comunque lo shadow temple ha tanti requirements non ne ha poche non ne ha poche ora io non mi ricordo mai se qua sopra c'è una gallina io nel dubbio vado a controllare ma si può che non ho ancora imparato eh si c'è ok devo stare attento a non cadere nel buco lì perché sennò tutto quello che ho fatto con le galline finora sia zero e mi ha fatto una chaos mod chaos mod non sono sicuro di conoscerla cioè so che esiste l'assalto come si chiama in italiano non lo so l'onslout di ice trap però chaos mod non credo di conoscerlo è un settaggio preciso non so questa canzone chi ha messo questa canzone eh? aspetta crow si può leggere in alto meravigliosa comunque fatemi sapere se è troppo chaos mod tutto randonizzato all sanity allora ma ne manca una che palle all sanity no devo ancora provare a giocare con i token e cosa altro mi manca? i token e e dov'è un'altra gallina? ho perso una gallina? non dimmi che l'ho lanciata nel pozzo ah ok vieni 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 ciao gamer non so se ci sarò dopo cena spero di finire prima quindi si noi andiamo avanti finchè non finiamo sostanzialmente 50 rubie che merda ok abbiamo un sacco di rubie però adesso quindi non ci sono altri negozi che non l'abbiamo controllato però mi sa cos'altro possiamo fare a cucchieri fuori? ah qua si a cucchieri a caccarico quindi caccarico è giusto la backgroth le galline le abbiamo fatte ah ok andiamo a vedere andiamo a vedere qua sopra allora potrei fare uno skip per ottenere il check che c'è qui dentro alla casa di Impa però possiamo semplicemente vedere che cosa contiene e poi decidere se andare a prenderlo o meno andiamo 50 rubie ok sappiamo che questo non ce ne frega niente perfetto e credo che dall'ultima volta che ho giocato con voi devo segnare le cose sul map tracker non è facile però si dopo che dopo che ci prendo la mano con il map tracker e arriviamo ad un certo punto non dovrebbero più esserci troppi problemi a segnare le cose andiamo nella grotta qua dietro ancora sto cucchieri a caccarico questo è un altro oggetto senza requirements quindi speriamo che sia qualcosa di utile perché al momento senza bombe possiamo fare ben poco eh possiamo veramente fare poco sinceramente poi non abbiamo ancora ah aspetta gli insetti forse no gli insetti mi... ecco bella l'ice trap ecco che arrivano le ice trap quindi prendiamo l'insetto però mi sa che scompaiono prima che riesco a prendere non ho sparite non ho sparite cazzo vediamo se riesco a trovarne altri sotto all'erbetta qua si eccoli qua ok mi servono gli insetti perché posso prendere più scultulla così se avessi la stone of agony adesso potrei anche vedere i consigli delle come si chiamano? delle gossip stone però non ho stone of agony no non è il settaggio più alto delle ice trap è quello sotto è il secondo settaggio più alto delle ice trap quindi comunque ci sono tante tante ice trap ora io direi che andiamo a prendere quel freestanding item che è l'uovo perché è troppo utile e poi potrei già che siamo qui tornare indietro e prendere gli scultulla di notte di catarico village direi che facciamo questa cosa gli eli più zelda il meglio mio dio e venite avanti ancora mi da un pugno e venite avanti ancora mi da un pugno skip tetto non mi serve ho visto semplicemente che sono 50 rupie e non mi serve farlo comunque non sarebbe in logic quindi mi sorprenderei se fosse un oggetto che ci serve a sbloccarci l'uomo sul tetto è vero quello si quello dobbiamo farlo quello torno a farlo dopo quello si ehm prendiamo l'uovo è troppo utile e ci sblocca un sacco di check questo uovo quindi vediamo se mi ricordo come farlo beh faccio il modo semplice potrei fare un backflip però preferisco farlo da qui è più semplice poi con il backflip non mi sono mai non mi sono mai allenato in realtà ho sbagliato di poco ce la faccio eh l'ho già fatto un sacco di volte cazzo ok riproviamo peccato non ci voleva l'avevo detto eh io me le chiamo le cose quando dico ce la faccio poi fallisco sicuro cosa è sta canzone stupi cosa mi vai a richiedere pronti al primo game over cazzo no non voglio morirci così ti prego ma forse è meglio se mi lancio da qua no no assolutamente allora se fallisco un'altra volta provo quel backflip bello il rumore dello wealth ok meno male che non è un ice trap raga poteva anche essere un ice trap sta cosa comunque sarei morto sì allora adesso cuori datemi cuori grazie benissimo quindi abbiamo il weird egg possiamo fare Zelda aia possiamo fare Zelda facendo Zelda ci apriamo anche il London Ranch completo quindi poi andiamo all London Ranch sicuro all London Ranch troviamo qualcosa di utile sicuro al 100% cioè perché per forza l' London Ranch ha tipo 6 check tantissimi cosa ne pensi del nuovo Link's Awakening? ehm sono abbastanza contento che esca uno Zelda 2p su Switch avrei preferito un gioco nuovo sinceramente però va benissimo anche così allora adesso dovrebbe esserci anche dump quindi adesso facciamo tante cose qua molto bene devo segnare quindi abbiamo detto weird egg ok ah questo qua l'avevo già preso tutto ero venuto qui apposto ho detto mmm andiamo a prendere ah non ho la fionda merda no non posso fare il man on roof di giorno che palle eh no non posso farlo peccato quello è uno uno scultulla in meno che prendo e il man on roof devo farlo un'altra volta che palle aspetta la notte prendi gli scultulla esatto 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 come e forse arriviamo a 10 7 no per 1 per 1 per 1 non arriviamo a 10 perchè no quello di cacarico del graveyard non posso prenderlo ancora quindi no non riusciamo a fare 10 scultulla qua c'è una scultulla purtroppo ci potrebbe essere una ricompensa utile a 50 scultulla ragazzi questo è brutta eh però si potrebbe esserci ovviamente appena becchiamo la stone wagon vediamo tutti i consigli e queste cose ce le togliamo dalle palle in sostanza poi devo togliere i check di cacarico village questa l'ho vista poi dump adesso lo facciamo ok adesso possiamo fare due check al cimitero quindi facciamo i check e poi andiamo al castello di Hyrule no aspetta si ok cos'è? è bolero è zelda slullaby si zelda slullaby wow figata zelda slullaby figo ok se troviamo l'Ocarina of Time abbiamo un sacco ma un sacco di check veramente un sacco ahhh basta ice trap ok possiamo segnarci anche le ice trap che troviamo sul tracker ci siamo a 2 dunque abbiamo fatto tutti i check di cacarico che potevamo fare sai cosa possiamo fare però? possiamo controllare possiamo controllare che cosa c'è nel mulino quindi vediamo adesso è un frammento di cuore ok non ci serve quindi windmill non dobbiamo farlo sostanzialmente mi devo segnare che quello non è una cosa inutile posso direttamente spuntarlo ok quindi andiamo a Hyrule Castle si facciamo così quindi adesso dobbiamo aspettare di nuovo dobbiamo aspettare di nuovo che diventi giorno è una merda giocare senza Samsung però anche avessimo la Samsung non abbiamo l'Ocarina adesso quindi semplicemente dobbiamo aspettare che diventi giorno ciao Dundee West Virginia come metto una canzone? punto esclamativo song request spazio e il nome della canzone che vuoi però occhio perché è molto probabile che la coda sia sempre piena quindi devi infilarti quando finisce la coda come fanno tutti sostanzialmente e quindi vi chiedo gentilmente di non entrare con più account per chiedere più canzoni perché c'è un limite alle canzoni che può chiedere qui cioè una persona può chiedere o una o due canzoni se non sbaglio dovrei averlo impostato così mi ricordo perché è passato davvero tanto tempo ieri ho iniziato Skyward Sword per ora sono scettico sul motion control e Ghirain mi ha fatto salire l'omofobia si prospetta un gioco entusiasmante io devo giocarlo a Skyward Sword ragazzi vi ho promesso che nella nuova casa avrei settato su la capture card avrei portato Skyward Sword quindi sì devo iniziare a interessarmi per farlo non ho ancora una televisione quindi abbiate pazienza mi deve ancora arrivare il divano, la televisione e una scarpiera e dei mobili per togliere un po' di riverbero perché davvero questo riverbero è del genere ok abbiamo la gallina e poi noi non abbiamo la rana noi abbiamo questo è strano perché avevamo visto una rana vabbè il mio Zelda preferito wow un sacco di gente a cui piace Skyward Sword in questa chat quando stream il gioco con il ragazzo teschio ok Majora's Mask Randomizer è molto frustrante al momento devo dire quindi aspetterò un po' di update per giocare a Majora's Mask Randomizer in live cioè non ho ancora finito un seed fate un po' questa informazione fate un po' ciò che volete di questa informazione ok ma no non ho la rana ragazzi guardate vedi che ho la prescrizione non so perché ho visto la rana prima beh comunque abbiamo la abbiamo la prescription non abbiamo la rana quindi ho messo quella semplicemente allora non abbiamo le bombe quindi non possiamo fare quella fata e non abbiamo neanche l'occarina quindi comunque non potremmo farla e ora dobbiamo fare la parte più fallosa del gioco circa ovvero le guardie però dovrei averle schippate le guardie no perché c'è ci sono delle impostazioni per ci sono delle impostazioni per schippare determinate cose noiose tipo le pone a race le guardie eccetera però non mi ricordo se ho se ho cercato schippare le guardie lo scopriremo tra poco ma quando l'home tour come i veri youtuber ma lo farò sincero cioè sinceramente lo farò vi farò vedere un po' che cosa fa dietro perché sono davvero fiero di questa di questa predisposizione devo ancora mettere su un po' di cose su questa scrivani liberi non so come definirla però è figa molto figa intanto abbiamo la magia quindi cosa cavolo mi serve il beams fire equipaggiato non lo so vai via ok e tra l'altro vedete anche questa cazzine è schippata i blocchi si muovono più in fretta ci sono un sacco di cose che velocizzano il gameplay i testi si possono schippare cioè insomma è davvero davvero veloce come momentum dove ti sei trasferito? io sono sempre in un paese nella periferia ovest di Milano non mi sono voluto trasferire in città non voglio davvero vivere in città mai e quindi ho deciso compro casa qua e invece sono paziente invitami a casa tua così proprio auto invitato dove hai messo il calorifero malzano essere? ah l'ho schippata ok Zelda Slatter ah ok la Zelda Slatter non è non è sciafflata adesso vediamo che cosa c'è da Impa comunque si ho schippato le guardie molto bene una rubia! wow! ok va bene questa cosa in realtà non l'ho fatta tanto per non l'ho fatta tanto per Zelda e Impa quanto per Lollor Ranch ragazzi ho caldo ma ho davvero caldo madonna festino omosessuale a casa di Rikukun no mi sa che non siamo tutti omosessuali qui non tutti almeno ci dai l'indirizzo no non diventare notte non diventare notte ti prego devo fare cose di giorno qui devo fare cose di giorno? non mi ricordo forse ho bisogno dell'Ocarina per il check di giorno no? non mi ricordo se Malone ci dà il check senza Ocarina o con l'Ocarina vediamo ma è morta la musica? ok no questo l'ha messa a pick ok no mi serve la maledettissima Ocarina i Gamma Bomb questa l'ha messa a pick per forza esatto allora però di giorno abbiamo comunque un check serve l'Ocarina sì ok quindi facciamo sto giochino del cavolo che anche lui odio parecchio odio davvero parecchio questo gioco quella lì la vedo quindi questa è una delle tre e poi andiamo a caso due culo? dai la terza mi manca vieni qui i Gamma Bomb ok fatto dai dammi qualcosa di utile please oh gli overboots yes ragazzi questo questo seed mi sta proprio dicendo con una bandiera così shadow temple shadow temple adesso facciamo diventare notte ciao Carlo grazie mille per diventare notte adesso ti faccio fare un moncajiga in diretta i miei video sull'allor maggiore e lo so è una cosa che ho che ho in ballo da un bel po' lo so lo so ragazzi non è facile non è per niente facile shadow temple confirmed hai ottenuto un barattolo di su ok non abbiamo boomerang quindi questo qui non lo possiamo fare ma comunque tre ben tre skull tool li possiamo fare e poi ci sono i deco scrub quindi l'allor ranch è pieno di check davvero pieno di check quindi uno siamo a nove dieci dieci mi sa e ancora ricordi il gameplay che facevi su pikmin e su pikmin con clara come clardon e lo so e porterò ancora pikmin guarda che bello voglio giocare voglio giocare un po' la block sono assolutamente sim ok siamo a dieci adesso entriamo qui che ci sono i deco scrub qua ce ne sono tre addirittura ah abbiamo lo scudo non ci serve di copaggiare le nocce questo è il rumore che odio di più in tutto il gioco come randomizzata urlo di ingo lo odio proprio e vendimi qualcosa bomb bag yes un altro deco shield vedi mai comprare deco shield mai comprare deco shield è una regola tra chi gioca a randomizzata di ocarina of time la regola è non comprare mai scudi perché tanto li ottieni quindi io non comprerò uno scudo ilia ve lo giuro non comprerò scudilie ok ciao sokrao settimana prossima un esame mi ritroveri qui in live random alle 4 di pomeriggio è perché durerà tanto questa live è per quello che siamo alle 4 di pomeriggio anzi sono già alle 4 di pomeriggio e non abbiamo ancora completato un dungeon comunque con le bombe abbiamo davvero sbloccato un sacco di check ragazzi ma veramente un sacco di check ora possiamo fare un sacco di roba che ne pensi dell'ultimo nintendo direct? allora ok cioè è andato ok nel senso però poteva andare meglio diciamo una ruffia blu ok va bene quindi facciamo save work direi no non mi serve fare save work non da qui almeno no no non vedo perché dovrei fare un save work da qui però devo decidere dove andare quindi mentre usciamo da qui devo decidere dove andare quartiere dove andiamo ecco il film ecco il film ecco il film ecco l'assero dei cazzi se vuole fuori tre fero ma chi sta a zitto è stati a intuitare locked for the night ecco la tramite Abbiamo... Cosa abbiamo? Possiamo fare BOMCHU BALLING? Credo... No, non possiamo fare BOMCHU BALLING. Possiamo fare... Ok, so cosa fare. Andiamo a caccarico. Sbora gang. Fagiano. Fota? Venezia, fota anche a te. Beh, sì, so cosa fare. Nel senso, andiamo a caccarico di nuovo. Usiamo le BOMBE. Ovunque, in tutti i check che ci sono tra caccarico Village e Golon City, entriamo a Dodongo Skaven. Perché dobbiamo iniziare a fare dungeon? Cioè, anche se non lo completiamo, anche se Dodongo Skaven conviene farlo da adulti. Se riusciamo a fare progress in un dungeon, è buona roba. Cioè, non riusciamo a finirlo perché non abbiamo la fionda. Se avessimo la fionda, potremmo fare tutto Dodongo Skaven adesso. E va benissimo. Cioè, nel senso, anche non facendola da adulti, Dodongo Skaven va bene. Mi sta benissimo. Ok, quindi possiamo bombare qui. Posso andare anche a piazzare... No, andiamo a fare... Controlliamo gli Skaven e poi vediamo. Dandy, ciao. Vieni a boostar, sezia. Allora, vediamo cosa c'è qui di bello. Ai, diridelle, che palle. Eh, no, 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 mollami. Oddio, mi fa un danno esorbito. Muoio. Ok, mi ha già respawnato qui. Che gentile è già. Muori. Madonna quanto agire i dead. Eh, i danni doppi fanno male. I danni doppi sui re-dead con tre cuori, sai, fanno davvero male. Bomb bag più grande. Wow. Ci sta. Sono contento, sono contento di questa cosa. Cioè, non è che ci aiuti granché, però... Che ne pensi di Jerry Scotti? No, è simpatico. I guess. Oddio di più i ridide o Metagross? Metagross? Sempre. Sempre comunque. Però ci sono Pokémon che oddio più di Metagross adesso. Ecco, vedete che ho detto. Io non compro uno Scuduiglia perché arriverà. E infatti è arrivato. Quindi Scuduiglia dove sei? Ok, ora andiamo su Death Mountain. No, Iveltal non l'odio tanto. Ma tipo... Vediamo. Leggendari sì, ma di brutto. Ma proprio tanto. Fammi pensare a un leggendario che oddio tanto. Nell'ultima gen, almeno. Tapu Koko. Tapu Koko, lo detesto. Ma proprio tanto. Ogni volta che lo vedo vorrei avere un Pokémon... Proprio... Terra solo per lui. Pokémon Terra, comunque, hanno loro perché. Questa parte di questa canzone. Ah, qui c'è solo uno Skulltulla. E ci si può arrampicare qua? Sì. Oddio, mi stavo per beccare il dolore. Pensavo scoppiasse al volo. Vabbè, facciamo così. E siamo a 11. Non ho nemmeno visto cosa mi ha dato il tipo di Skulltulla. Ciao, Sprustle! Forma Gesù. Hai visto. Allora, ora facciamo... No, facciamo il check... il check sopra qui. Poi entriamo a Dodongoskaven. Vediamo se... Se trovo la fionda, ragazzi. Se trovo la fionda locarina... Dodongoskaven... no, locarina non serve per fare Dodongoskaven, te lo dico. Se troviamo la fionda di Dodongoskaven la possiamo fare quasi tutta. Aia! Porca miseria! Oh, battaglia finale contro Ganandor. Per chiedere musica di Zelda in una live street di Zelda. Oh, buono! Dai, un cuore in più. Quando noi abbiamo quattro, è importante. Adesso, a Goron City non ci facciamo quasi niente senza ocarina. Poi abbiamo Zelda Slullaby, quindi aspetterei ad andare a Goron City. Però c'è il negozio, sai. Eh, ma comunque senza... No. Il negozio senza... Però con le bombe... Vedi, con le bombe potevamo andare al negozio. Devo pensarci prima. Va bene. Siccome i canzoni di sottofondo stanno male come a fine. Ok, questo devo ricordarmi che l'ho preso però. Siamo a 12. Io spero che troviamo la Stone of Hagoni presto e uno dei... Come si chiamano? E uno delle Gossip Stone ci dica subito che la ricompensa dei 50 e 40 a Skull Tool è inutile. Sarebbe davvero un sollievo. Ora, qui c'è un Deku Scrub, quindi vediamo cosa ha da offrirci. Non qui, forse in quello di fianco del Deku Scrub. Qua c'è una chest. Altro frammento di cuore. Madonna, ma quanti frammenti di cuore ci sono in sto gioco? Ah, ogni volta che targetto un nemico... Navi deve fare sto casino. Cos'è? Non vedo. Ah, io ero full. Eye Strap. Che mi ha subito rifullato la vita Kai. Grazie. Troppo gentile Kai. Dato che vi interesserà sicuramente... Ho finito da poco Twilight Princess e a mio avviso la battaglia finale è molto meglio rispetto a quella di OT. Ma siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Breath of the Wild letteralmente il soffio e il respiro della selva è il peggior capitolo della storica saga Nintendo. Sì. No, il peggiore no, però. Dei 3D sì. Easily. Ah, giusto. Vedi? Mi serve la Stono Vagoni. Mi serve la fottuta Stono Vagoni. Non posso fare niente con le cossi di stun. Senza Stono Vagoni. Questo è perché prima pensavo che sarebbe scoppiato al volo il... 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 Proprio... Un'appiata per dodo Nel Scaven, c'è proprio... Er... Coming Through. Qua non ci dovrebbero essere che hac'è. Forse c'è uno Scroll Usau. Certo, farla da adulti è molto più come % eh, però... Dato che non posso diventare ancora adulto... Preferisco controllarmi. Do doingすcaven per farmi in base. Però è un duda il giocotini Penter. E no, Bolvagia ancora... Ancora manca un bel po'. Però Volvagia è uno dei boss più facili da raggiungere Perché serve solo e unicamente martello e chiave del boss, del Fire Temple Ah già, dimenticavo Meno male che le statue, forse le statue di default si muovono velocemente E quindi non hanno cambiato la velocità Anche se prenderò prima Odyssey probabilmente stupendo Mi rispetto a Breath of the Wild? Sì, Odyssey Oh, sta canzone Feels, i feels di sta canzone Devo segnare i check che stiamo ottenendo ragazzi Venite qua, venite qua Che male che gli ho fatto Può venire qua uno dei due, per favore Eccoti qua Madonna No, senti, fammelo target Aia Oh, oh, oh Vediamo di non morire contro i Lyselfoss Mamma mia, ci sto rischiando Chi viene? Non ho più stick Ok Niente guori, eh Gentile Dai, devo solo assestargli un... Ah no, due attacchi in salto Perché l'altro l'avevo colpito con lo stick Credo Ehi Dai, attacca Un altro Che rischio Sì, giocare con il danno quadruplo Non è ancora nei miei piani, devo dire Preferisco stare con il danno doppio ancora Diciamo che quella rubia la faccio anche stare giù Oh, cuori Io sto adorando il suono del Lyself Comunque Bloop 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 No, non ho stick Merda 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 Mi serve uno stick per questa stanza Dimmi che nei vasi c'è uno stick qua Ti prego Ti ha caia 69 rupie, nessuno dice niente Eh, vabbè 20 rupie per 10 rupie, contento te Ragazzi, ho pensato ad un nuovo livello di autismo nello scrivere Scrivere le parole con la doppia Con una sola lettera e consonanti singole tutte doppie No, ti prego, è troppo autistica come questa Ho bisogno di stick Se non trovo stick qua non ci muoviamo più, ragazzi Dai, Nintendo ve l'ha pensata a sta cosa Cioè, in uno di questi vasi ci deve essere uno stick No No, ti prego, dimmi Cioè, dimmi, dimmi che stiamo scherzando Non posso più andare avanti di lungo scaveno perché non ho stick Vaffanculo Vaffanculo, sul serio Va bene Eh, niente Ci fermiamo qui Ok Save warp Cosa devo fare? Niente Vabbè Holy Wars Wow Ottimo Qua invece abbiamo Qualcosa beautiful Niente Non abbiamo stick, ragazzi Niente Ok Adesso Andiamo al negozio dei Goron Allora, quindi vado al negozio dei Goron Così se trovo stick Ne compro e andiamo avanti da Dongo Scadan Altrimenti fammi controllare un attacker Fammi controllare cosa possiamo fare Ok, abbiamo le bombe quindi possiamo fare altre robe a Goron City in realtà Non è l'unica cosa che possiamo fare al negozio Non è l'unica cosa che possiamo fare al negozio Andiamo a vedere questo check qui Perché questi sono in realtà sono due check più uno scultulla Quindi è tanta roba Di qua Ok Dai, dai, dai Ocarina, ocarina, ocarina Goron be like Oh Oh Niente Ma quante 20 rupie sto trovando esattamente Mappa di Jabu Jabu Sbelli Quindi abbiamo trovato la mappa e la bussola di Jabu Jabu Sbelli Inutile Oh, oh, scultulla sì Cioè, insettini sì Grazie Ci fanno prendere più scultulla Qua c'è una scultulla E siamo a 14 Dai, dai, che ci avviciniamo già a 20 Spero che non ci siano ricompense fondamentali Sul numero di scultulla Però nel dubbio Ci potiamo andare Sabato inizio Metal Gear Mi dispiace delugerti Ora dobbiamo fermare questo cavolo di Goron Che ci metterò un sacco di tentativi A quanto pare Sbaglio qualcosa nel fermare sto Goron Perché le altre volte che lo tentavo di fermare A quanto pare Lo stavo facendo con i Bomchu E con i Bomchu Non va bene Ecco, vai Con i Bomchu a quanto pare Non va bene Bisogna farlo per forza Con le bombe E sotto qua Se adesso non mi dà l'oggetto Io mi impazzisco Ok, grazie 5 minuti Va bene Almeno me l'ho sfruttato dalle palle Ora andiamo al negozio E senza L'Ocarina purtroppo non possiamo fare i check di Darugna Ho fatto scoppiare anche un Bumplow Allora Oh, la lettera No, però la lettera di Ruto Non puoi dirmi così Non puoi dirmi così Yuji Rupee Per 80 rupees Wow E niente Compriamola Cioè la compro Perché comunque È strautile Però Il senso Io spero di non dover andare Da Jabu Jabu Ecco Questo è il senso Però comunque Così mi apro L'Ice Cave Comunque è buono averla comprata Va bene Ok Quindi adesso fammi pensare cosa possiamo fare Devo un attimo organizzarmi Allora Quindi Goron Shop l'abbiamo fatto Rolling Goron l'abbiamo fatto Andiamo a Death Mountain Sì andiamo Andiamo a Death Mountain Ok Quindi usciamo di qui Andiamo su a Death Mountain Va bene Ed è decisamente il momento Per andare a Death Mountain Perché c'è un maledettissimo Ed è maledettissimo Deku Scrub Che c'è solo Con Deku Con Con Child Link Quindi comunque A Death Mountain A un certo punto bisogna andare Svegliarsi alle 16 Dopo il turno di lavoro notturno E trovare un Apple Life Hai visto che bello Lorenzo Siamo tornati Siamo a un'ora Ma stiamo andando bene Dai stiamo andando bene Non Non disperiamoci Che non abbiamo ancora ottenuto Nessun medaglione Ci può stare No ragazzi Metal Gear Prima o poi la dovrò giocare Però Datemi Datemi il tempo Di organizzarmi Il setup E tutto quanto Poi Inizierò a pensare Ai giochi su console Da giocare Oppure lo emulo Però non vorrei emulare Tutti i giochi Che voglio giocare Oddio Ma il rumore Di quando diventa notte È tipo la spada Che sbatte contro Una parete O qualcosa del genere No ma ragazzi Fidatevi Cioè Sì La fortuna Gioca Gioca il proprio Fattore È vero Ma non così tanto Cioè Alla fine Prima o poi Si trova la strada Prima o poi La strada giusta La troviamo Non è un problema Questa è una delle cose Che ho detto di più Di tutto il gioco Comunque Cioè Che quando sali Death Mountain Ti devi parare Da sti cazzo Di sassi E perdi un sacco Di tempo E soprattutto Con il danno doppio Non posso ignorarlo Cioè Devo per forza Pararmi Non posso Non posso andare A cazzo E così Manuel Fiore Ciao Come stai? Stai mangiando Anche adesso? Io non mangio Da un po' Perché non sto trovando Noci Che è una buona cosa Comunque Posso stare fermi E questi non ti cagano Sì però Devi girarti Questa è un'altra perla No 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 Ma cosa sta dicendo? Dove vai? Come vai? Cos'è che sta dicendo? Allora Tu non mi servi Non ho la Non ho l'occarina Quindi non posso fare La grit fairy Magari trovo l'occarina Qua dentro Che ne sai È qualcosa in italiano Comunque È meraviglioso Questa cosa Che avete messo Come mai? Ah ok Come mai? Oh attenzione È uno dei diss È il diss a Sans Undertale Però è un po' basso Cavolo Peccato Allora Adesso Abbiamo trovato ancora un ostia Quindi Io mi sono dimenticato 15 scultura Buono Adesso andiamo a prendere il check qua sotto Forse ci muoio Vabbè Non è un problema Però Cioè riesco a prendere questo Però non riesco a prendere l'altro Sicuramente Bombchoo Ok Possiamo fare il bombchoo bowling Che è buono Qua mi sono Mi sono ammazzato Perché voglio Resettare il timer Ok Ah cazzo Però ho preso un sacco di danni Aspetta un attimo Fammi pensare Undersgarbi Allora Allora qua Che progettare Che progettare Questo Questo l'abbiamo Questo l'abbiamo fatto Questo l'abbiamo fatto Questo segniamo che è uno strength upgrade Poi dove andiamo Possiamo fare il man on roof Questo l'abbiamo fatto Posso andare allo Zora's river Però non ho né la silver scale Né la Zelda's lullaby Cioè non ho l'ocarina Per suonare la Zelda's lullaby Quindi non posso fare Non posso andare allo Zora's domain In questo momento Non posso proprio andarci Quindi andiamo a Gerudo Valley Direi Sì Gerudo Valley Il Ducub scrub di Death Mountain L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto Ok non so cosa fare Sborra gang ancora Io inizio ad avere un caldo Fottuto Ma proprio tanto ragazzi Mi devo Mi devo cogliere il maglione Perché mi faceva freddo E quello l'ho fatto Mi avete messo caldo voi ragazzi Ma è in galera Ho bisogno di Ma si pochi mi sono bloccato A Zongoscaven Perché non ho stick Ok ma che balle Ok lì c'è una grotta Poi passiamo al lago Iglia Poi andiamo a Gerudo Valley Oh c'è i droni Madonna guardali Si alzano in cielo Sono inquietanti proprio No Spero sono tipo Sono un po' ritardati Vanno in giro Svolazzando la casa L'uomo piccone Non tocca poco I've got samurai quest Basta mappe inutili Le mappe non servono a un cavolo Praticamente Ok Sostanzialmente Datemi le bussole Con le bussole Almeno capisco Se in un dungeon c'è una pietra O un medaglione Quello sì Quello mi servete Wow vedo che non avete perso la qualità Nel sangra questo Bravi Allora qui c'è anche La grotta nascosta Quindi Go 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 Avete bisogno dell'occarina O della pionda In questo momento Sono gli oggetti che più ci sbloccherebbero Cose Questo è metal No Ciao six man Buongiorno Basta Quanti cecchi inutili Andiamo alla guiglia E poi Ci teletrasportiamo No Perché devo andare alla guiglia Spam pensare Perché devo andare alla guiglia No Non ci vado alla guiglia Vado a giro dove va Le direttate Tanto alla guiglia Ci andremo più avanti Dallo zara domain Al momento non ci serve Cioè spero Cosa che c'è adesso Alla guiglia Potremmo fare C'è il fishing Però l'ho eliminato Dai cecchi Ho tolto tre cecchi Che sono i più pallosi di tutti Ho tolto la mask of truth La pesca E la pesca Dalla guiglia Basta Influenzato dal meta Questa è questa canzone È influenza metal Perché è estremo Oh mio dio Cos'è la sigla di Rossana Femministe No 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 Ma adesso Adesso ce la facciamo Ah è vero Questa grotta qui È praticamente inutile Cioè qua dentro c'è Forse uno scultulla Però ci serve Ah no ecco perché Non sono da tolto la guiglia Perché tanto ci andiamo Adesso tramite Geraldo Valley No no ragazzi Adesso Vedrete che ci sblocchiamo Vedrete che ci sblocchiamo Ve lo assicuro Quindi Poi possiamo andare Allo zona river Tra l'altro Questo l'abbiamo fatto Questo l'abbiamo fatto Ah cazzo Non sono andato in un Vabbè Ci andiamo Ci possiamo Non ho problema Non ho boomerang Quindi quello Non posso prenderlo Ok qua ci sono due Ciacche importanti Oh ci arrivo eh Non è che ho sbagliato Il salto Ok Vediamo No no Stai qui No Non cadere Ok Devo riuscire a rompere La scatola E non far cadere La gallina Ok perfetto Quello non lo prendo Perché non voglio rischiare Di perdere la gallina Cioè sì Mi potrebbe servire Il frammento di cuore Ma per carità Se fosse stato un portacuore L'avrei pure offeso Però non volevo rischiare Di perdere la gallina Ma questo sarebbe per andare qua Non volevo perdere tempo Di tornare Mettiamo gli insetti qui Altra scultura Rikoku Ma quindi ti piace Questo modo di scrivere Preferivo solo La rimozione Delle doppie Molto più stupido Perché quello È impronunciabile Ci sono consonanti Che doppie Non si riescono a pronunciare No Ehi Io non ti ho parlato Cosa vuoi Rikoku Canta con noi Non la so a memoria Questa non la so a memoria Dai Uno carina Uno bella Bello Così almeno faccio dungeon Così faccio dungeon Con la fionda Possiamo fare Dekutri E dodungo scaven Che potrebbero avere medaglioni Quindi tanta roba Se hanno medaglioni Facciamo finta di essere In youtube del 2009 Con la qualità 144p E il farore Abbiamo tutte e tre le magie Cioè abbiamo tutte e tre le Ehm Ah no è niente È una extra Quindi non abbiamo Tutta la gente Allora Cerchiamo tutto quello che abbiamo fatto Waterfall fatto Crate fatto Adesso andiamo Ah giusto Ci sono i tre I tre Deku Scrub E poi c'è un altro Deku Scrub Poi andiamo a Iron Castle E poi direi che andiamo Nelle Lost Woods Sì credo che poi andremo Alla Lost Woods Decidete voi Vi lascio Vi lascio la scelta Il limite era sotto i 10 minuti Sì Era 11 a un certo punto Mi ricordo E Rosana sei proprio Una bellissima ragazza Che sto leggendo Ok Andiamo allo Zora's River Sì perché allo Lost Woods Possiamo andare da Saria Adesso Mentre allo Zora's River Ci sono due Tracek Interessanti E poi No perché Ok Facciamo così Andiamo allo Zora's River E poi facciamo Save Warp E' la cosa migliore Con il Save Warp Poi andiamo allo Lost Woods E' decisamente la cosa migliore E a sto punto Aspetterei a continuare Da Dongo's Kaven Devo farlo volare via Perché rischia di prendermi Ma questa è la fulla proprio No lo scudo sbagliato E sto finendo E sto finendo le noci Cioè sto proprio finendo le noci Ho bisogno di noci Sia nel gioco Che nella vita reale Perché sto aspettando Di trovarne Nel gioco Per poterne mangiare Basta Ice Trap Basta Ice Trap Oh mi stanno massacrando Si trova un altro Ice Trap Sono morto Ok bombe Vabbè Datemi i cuori Datemi i cuori Mentre i cuori Megalovegna Samsung Che belle tutte queste canzoni Però è che non abbiamo Lo carina Oh cuori bravo Ma i cuori Quanto tempo Quanto tempo escono dopo Quella tizia più porca Della serie di Zelda Ok si Non abbiamo altri check Ok La tizia di Twilight Princess Quella nel fiume Hai presente no? Comunque di Twilight Princess Si La mamma di Link Quando possiedi tante canzoni Ma non uno strumento FeelsBadMan Allora Quindi abbiamo fatto i check Della guiglia Adesso facciamo questo E poi andiamo Allo Zola River Nel momento Allo sei capelli neri Comunque si Quelle lì di Twilight Princess Quelle che sono lì a pescare Quelle lì Ah è quelli Per forza Sei mai stato a Molino Torino? Sì Sì Stupido Perché questa domanda? Sì Silver Scale Cazzo Sì Questa è buona Oh Silver Scale è buona Finalmente un oggetto utile Cazzo Buono 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 Le fate linfomani Anche Anche Sì No Le marina Loro Dai Per forza Loro Loro Quindi andiamo Allo Zola River No in realtà Ragazzi Sapete una cosa Sapete una cosa È meglio andare Allo Lost Woods Dato che abbiamo trovato La Silver Scale È meglio andare Allo Lost Woods E da lì a Zola River È meglio così È decisamente meglio così Quindi save warp E via Ok E appena troviamo La fionda Andiamo a Depo 3 Cioè proprio Nell'istante in cui Torniamo la fionda In qualsiasi punto del gioco Siamo Andiamo a Depo 3 Dove nascondi il barattolo Di scuola Ce l'hai equipaggiato Non vedi Su C C Giù Invece a precotto Sei mai stato Sì sono stato anche a precotto Segui la pagina TM Shitposting No però Dato che Vado a Milano Per lavoro Tutte queste fermate È ovvio Che io le conosca Non abbiamo La fionda Nell'ocarina Di nuovo È la seconda volta Che passiamo di qua E non possiamo fare nulla All right Possiamo fare tutti questi check Nell'Ost Boots E poi torniamo indietro E facciamo Andiamo allo Zora's River Qualcosa troviamo eh In tutti questi check Qualcosa troviamo Fionda Eccola qua Perfetto Non andiamo allo Zora's River Andiamo direttamente al DQ3 Siamo qui Fionda 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 Perfetto Ragazzi ve l'ho detto Qualcosa dovevamo trovare Se no non ci poter Cioè Se no il SIEVD Sarebbe stato impossibile Stavamo iniziando a finire Stavamo iniziando a finire Le opzioni Quindi per forza Qualcosa doveva esserci qua Qua dovrebbe esserci una rupia Però Cazzo è vero Praticamente in questo gioco Se non guardi l'esplosione L'effetto dell'esplosione Non c'è E quindi Cool guys look at explosions In questo gioco Ok qua invece c'è qualcosa Sì Però sai cosa Il problema è che adesso Io non vorrei andare Cioè ormai sono qui Io direi che finiamo Finiamo nello Svods Come check Perché se no poi Non ci torneremo più Praticamente qua non ci dobbiamo più tornare Quindi finiamo i check Sì è decisamente la scelta migliore Finiamo i check Fireharrows Fireharrows Non sbloccano check Perché abbiamo il fuoco di Dean Però non male E la bussola del Del bottom of the way Ma vaffanculo Ecco la bussola di Breath of the Wild Abbiamo trovato Tutte viste Ok sì Andiamo Andiamo al Forest Meadow Ma ragazzi Guardate che Non ci conto che questa live Rimarrà salvata sul canale E sappiatelo Non ci conto Tutto il giorno col Songre Quest Difficile Molto difficile Molto molto difficile Oh stick Sì Mi servono Mi servono un sacco di stick Dovevo fare il figo Invece no Dai ma quanta vita hanno da davanti Madonna Hanno un sacco di difesa davanti Devi proprio aspettare che si girino Finchè non si girino da davanti Gli devi Gli devi tirare le cannonate Per ucciderli Come si girano Boom Esplodono Strength upgrade Buono Vabbè ragazzi Dato che dite che Potrebbe essere sotto copyright Io nel dubbio Non è schifo Però non è schifo altre A caso Perché se no poi la gente si dita Ah Io dico che la sua è sotto copyright E quindi gliela facciamo togliere Però mi fido di voi Ok quindi abbiamo preso Strength upgrade Strength upgrade E Fire arrows Ora andiamo da Saria Perché siamo qui Ah che balle Vabbè io qua Me la faccio di corso Decisamente Madonna ci muoio Ci muoio Questa è la canzone di pokemon Sì pokemon black and white Mamma mia Quanta Quanta cultura Riconosco le ost così Proprio Shhh Shhh Al volo Oddio Dammi cuore Dammi cuore Dammi cuore La musica del miglior gioco di pokemon Dammi il check di Saria 20 rupie Mamma mia Potentissimo Ok quindi Save warp E togliamo il check di Saria Togliamo Questo Togliamo questo Togliamo questo Andiamo al deco tree Decisamente andiamo al deco tree Che palestra era? No non mi ricordo No ma era tipo Mica era tipo un percorso Non era una palestra Oh la musica di stallord È un po' bassa però Peccato È che non sto a regolare il volume Per le canzoni ragazzi Cioè sennò davvero ci perderai un sacco di tempo Già ho mille cose a cui pensare Ma proprio mille Ho la chat Il gioco Il map tracker L'item tracker Ogni tanto devo saltare per forza le canzoni Perché sennò mi esplode il canale Insomma Un sacco di cose a cui pensare Non riesco a regolare anche il volume Sperate che le vostre canzoni che richiedete Abbiano un volume bilanciato Musica serie di Twilight Rises Ma Twilight Rises ha veramente un ST bellissimo Il povero Basumero Non riesce a mettere una canzone Ok quindi Prima di fiondarci di sotto A finire il Deku Tree Perché ormai possiamo finirlo Il Deku Tree E dobbiamo incrociare Raga incrociate le dita Che il Deku Tree Abbia un medaglione Perché se ha una pietra Siamo in alto mare ancora Devo dire Perché Se iniziamo a trovare solo pietre Abbiamo anche la bottiglia di Jabu Quindi abbiamo tante cose che ci consigliano di andare da Jabu Jabu Cioè al momento noi possiamo andare da Jabu Non possiamo finirlo ma possiamo Possiamo iniziarlo Quindi se troviamo una pietra anche qui è brutto È molto brutto Perché vuol dire che poi L'unico tempio che possiamo quasi pensare di fare È lo Shadow Temple Che è lungo lo Shadow Temple Quindi niente Speriamo di Speriamo di beccare un medaglione qua È già buono che abbiamo iniziato con un medaglione comunque Questo è il Bolero Che è buono A me piacerebbe però poterle usare Tutte queste canzoni che sto trovando Sapete? Quindi abbiamo trovato la Samsung E il Bolero Cuore Oh Holy Wars Megadeth Ho una maglietta dei Megadeth Adesso tra poco mi tolgo Sì ho tirato giù la scala per niente Vabbè Tra poco mi devo togliere comunque il maglione E potrebbe essere il momento giusto per farlo questo A proposito Non ti staccare controllo Perché guarda Mi raccomando Ecco qua Megadeth Mamma mia Quanto sono fitting Andiamo avanti L'Albero Deku come si riproduce? Beh lo vediamo anche nel gioco che si riproduce no? Ok finiamo Deku 3 Ma poi sono arrivati i Rikukun e Arancia Io e Arancia abbiamo rovinato la quinta gen di Pokémon per sempre Fantastico Non è vero che tanto devo far scendere l'acqua Deku 3 per noi tu sei davvero grande E per noi tu sei davvero forte E viva Deku 3 Navi cosa vuoi? Ma tra l'altro vogliamo parlare di questa navi nera Che figa Fantastica Quanto è figa sta canzone dai In Master Quest qui c'è una chest E bisogna prenderla con la Song of Time Cioè è proprio bruttissimo dover tornare nel Deku 3 con la Song of Time Nel Vanilla intendo ovviamente In Randomizer poi benissimo arrivarci già con la Song of Time Adesso Stick Ah tra l'altro ho imparato a fare la Quick Kill su Goma Quindi adesso la vedrete Tra poco vedrete la Quick Kill su Goma Bellissima Troppo figa da vedere E' una delle cose più soddisfacenti da fare In sta Kill su Goma Spero di non fallirla Non abbiamo il Boomerang Quindi non possiamo prendere lo Skull Tulla qui Ma poco importa Volevo tirargli un fuoco di Ding Ma poi mi sono ricordato di non aver la magia Ups Ups Quindi niente andiamo così I sassi quadrati Hanno la bandiera turca sopra Ho capito quale intendi Devo imparare a fare lo Skip di tutta questa parte Del Deku 3 Cosa possiamo fare con lo Strength Upgrade? Niente in realtà Cioè ci fa comodo ad un Dongo Scaven Però non ci sblocca niente al momento Da adulti si però I Silver Gauntless ci servono Cosa ho fatto? Wow Preparati al Meme Reaction più spettacolare e lungo della storia Ovvero perché ovviamente voi state postando su Platform Meme Se intanto è come giusto che sia Dai è però Senti facciamolo così No Ho bisogno per forza Mi sa Dello scuro Deve rimbalzare loro E continuano a bloccarmi Ah no Andrò veloce a guardare Platform Meme Dai Insta kill su gomma Insta kill su gomma Quindi slingshot I due check li ho fatti Basement Cosa è questo? Basement Ah si ok Bomb ragazzi Andiamo Medaglione Dammi un medaglione Coma Mi raccomando Ok Non sono ancora così sgamato da riuscire a fare l'insta kill su gomma Vabbè Due cycle A me Vabbè No se le avesse tirato subito la fionda avrei fatto l'insta kill facile Però volevo fare quella difficile Praticamente bisogna tirare una noce Fare un attacco in salto Altra noce E poi due crouch stab Però Non ci sono riusciti Medaglione Una noce Mangiamo una noce Medaglione Si Cazzo Light medaglion Bene Molto bene Ok Ora Andiamo A Zora's Reaver L'unico boss che sconfisse prima di troppare per sempre Zelda Ando Ando Noce Ok Quindi come siamo messi Facciamo un po' un recap Abbiamo finito il Deku Tree Abbiamo un medaglione Possiamo finire da Dongo Skaven Quindi io direi che andiamo a Dongo Skaven Quindi io direi che andiamo ad Dongo Skaven tra poco Qua c'è un check Adesso che abbiamo la fionda in proposta Cinque rupi Nice Nice Ok Andiamo a Zora's Reaver Altra musica di Black and White Ragazzi mi state facendo venire un sacco di nostalgia di Black and White Ma proprio un sacco Quindi lo rigiocherò Dovrò rigiocare a Black and White Stendendo un sacco di arte Questa non ci serve Ok Grotto E i Bings Ok Qua si può fare il salto Si Boom Fatto Allora questa qui dovrebbe essere una grotta Della Song of Storms Però non mi ricordo al 100% Quindi io provo una bomba La provo proprio qua Esatto si Song of Storms Qua c'è uno Skulltulla invece Dove vai? Cioè questa è una canzone di Pokemon bianco e nero Siamo a 17 Skulltulla Io adesso devo comprare i fagioli no? E so che sta gallina mi scapperà Maledetta Spero che li devo comprare I fagioli non sono random Disney Gating Beans Ah non ho più Non ho più Vabbè tre mi bastano Piso fact Non ci interessa No non lo prendo perché rischio di Non credo di aver sentito bene Non ho sentito bene Certo che ce l'ho ragazzi Me l'ha data Lui Lui me l'ha data Ah n-word pass Mi è venuta in mente etica Che toglie l'n-word pass Agli spettatori Questa canzone? Oh mio dio Fri Cosa hai tirato fuori? Oh ma ogni volta che facciamo Che facciamo song request Questa canzone appare prima o poi Ah tra l'altro il pisso forte Stando in un glielo posso prenderla qui Scusami gallina non volevo ammazzarti Ah ma questa è una contana inutile Quindi qua dobbiamo entrare Soffro ogni volta Ma abbiamo dei Dei insetti? Sì Ok Mappa ancora Mappa dell'Eiscaven Molto utile Ok Quindi cosa facciamo adesso? Do dongo scaven? Ci arrivo? No non ci arriverò mai Sì Andiamo Oh oh Ok Ok Devo pensare Devo andare adesso Non mi ero preparato Al fatto che Lo Zeros River Sarebbe stato inutile Quindi questo l'abbiamo preso Magic beans Li abbiamo presi Li abbiamo tre Abbiamo i bomb Bomb chou Ok abbiamo questi due Non mi ero ancora segnato gli stick Le noci Ok quindi possiamo andare a fare il bomb chou bowling Facciamolo Facciamolo adesso È una merda il bomb chou bowling Momenti succosi Questo era decisamente un momento succoso È come quando ti tirano un calcio nella patata E soffri ma low heat ti piace Cosa? Hai già in mente la prossima serie Live sabato nintendo? No sinceramente no Non mi sono ancora preparato a nulla Avevo solo una voglia assurda Di streamare Ocarina Time Randomizer Poi penserò al resto Ok facciamo bomb chou bowling E poi andiamo ad Ocarina Non ho altre idee sinceramente Cioè dove possiamo fare dungeon Facciamo dungeon Cioè sinceramente Adesso possiamo finire da Ocarina Tra l'altro quindi Senza lo carina va bene così Allora quella è una bussola A me una bussola non dispiacerebbe sinceramente E poi ho imparato un setup Per fare questo minigioco Quindi adesso non impazzirò più Per questo minigioco si spera È abbastanza semplice L'unica cosa difficile è questa Ok basta Una volta che si fa questa Qua centrale è finita Adesso il setup consiste praticamente Nel tirare fuori un bomb chou Farselo esplodere in testa E poi dopo aver subito il danno Praticamente ti riposiziona già Nella posizione esatta Per tirare il terzo bomb chou Quindi basta fine Abbiamo finito È facilissimo Con il setup è davvero facile Che cos'è Bussola del water temple Che contiene il water medallion Quindi vanilla Ok dovremmo fare il water temple La cosa mi piace Sinceramente Perché Quello è l'arco invece Quello lo devo avere Ok guardate che cavolo di check Fighi che stanno venendo fuori Da questo minigioco La fine dell'era delle galline di merda Meno male Meno male Quelli un pochino più difficili Per cui non ho un setup Sono quelli laterali Però dovrei averlo preso Ok Facciamo il setup Ok ciao Ma l'hai messo per due lati di fila E' colpa di sakurai E' colpa di sakurai Arco Mio Nooo Un ice trap Ma sei serio Cioè ma era un ice trap Ma davvero Ma vai affanculo Ok Va bene Non aveva più check in teoria Dovrebbero essere due Sì Ok Quindi ice trap E Cosa avevamo ottenuto Non mi ricordo già più Ah la bussola del water temple Ok Ok Ora Io so dov'è la chiave del water temple Tra l'altro Quindi possiamo fare il water temple Appena abbiamo il portaruppie grande E il long shot Ci serve anche Long shot e iron boots Va bene Dai ci sta Ci sta Mi piace come sta andando sto seed L'unica cosa che ci sblocca tanto adesso È l'ocarina Cioè Ci serve l'ocarina Punto E ci sono due posti dove possiamo trovare l'ocarina Tra l'altro Perché L'ocarina è uno degli oggetti progressive Cioè Se trovo la prima delle due ocarine Sarà sempre la fairy ocarina La seconda sarà l'ocarina of time Che non serve a niente Cioè non cambia nulla Qualsiasi cosa Qualsiasi cosa fa l'ocarina normale Lo fa anche l'ocarina of time È inutile l'ocarina of time In questo gioco In l'ocarina of time L'ocarina of time è inutile Pensa a te Ok Cosa possiamo fare ancora Possiamo prendere uno scultulla Quanti ne abbiamo a proposito Abbiamo 17 scultulla Non è worth andare al graveyard Per prendere un altro adesso Non è proprio worth Facciamo il man on roof Il man on roof Non è bellissimo Da Di giorno Rick posting Bacon di scimmia Ciao black dragoner Non c'è il rischio di bloccarsi Ah no è da adulti Che il man on roof è brutto da fare Da bambini è facile Quindi tac Oh ma è una roof Dammi lo carina No non c'è il rischio di Non c'è il rischio di bloccarsi Perché È fatto molto molto bene Questo randomizer E sono riusciti a prevedere una logica Per cui sicuramente Il seed generato è battibile Sempre Cos'è Rick Rick posting Vi consiglio di vederlo Oh mio dio Anche questo Wow Hard Ok finiamo dopo Con scala Semplicemente Ma è bus boosted Spero Ok Non è la versione normale Perché se fosse quella versione normale Sarebbe Incredibile Io ho bisogno della stone O vagani Però Mi fa ridere Questa canzone Perché mi viene in mente Quel video che hai postato Jack Di quei due Goofy Che sembrano alieni Non lo so Mi ha scioccato Quel video Devo dire Comunque è buono È molto buono Questo seed sta andando bene Cioè Come troviamo l'ocarina Possiamo fare Quasi Lo shadow temple Quindi c'è tanta roba Ci serve la magia Per fare lo shadow temple Mentre se trovassimo Il martello Non sarebbe male Entrare nel pet temple Vediamo Vediamo cosa succede Cioè Diventando adulti Adesso Non è che possiamo fare Tutto sto granché Quindi mi sta bene Continuare a fare Dodongo scaven E magari iniziamo anche Jabu Se non troviamolo carino Dobbiamo iniziare Jabu Mi sta bene Fare un pezzo Di Jabu Jabu Due belli Perché comunque Lo shadow domain Dobbiamo ancora esplorarlo Lo shadow domain Può avere tanto Quindi Il prossimo 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 location È sicuramente Lo shadow domain Che bello Trocattare i nemici Con il verso di Ingo Comunque In realtà Ridi perché È morto Tra l'altro Mi ricordo Che mi avete preso In giro Cioè Non è che mi avete preso In giro Io pensavo Mi stesse Prendendo in giro Invece Era morto davvero Ma rì Jabu Jabu È il dungeon Più schifoso Di Ocarina of Time No Mi piace In realtà Da fare Preferisco Sicuramente Jabu Jabu Belli Tipo Allo shadow temple Shadow temple Io non lo so Perché lo sento Davvero pesante Da fare Shadow temple E credo Water temple Vero Cioè Il water temple Vanilla È veramente Una merda Da fare Mentre il randomizer È facilissimo Cioè Una volta che trovi Il long shot E gli iron boots E la chiave Del boss È finito Cioè Puoi fare Puoi fare Subito morto Vai Te la togli dalle parole Che scusa Che scusa Soul nomad OST Non so cosa sia Soul nomad Frammento di Cavolo Stiamo finendo le bombe Devo Devo usare meglio Le mie bombe Cioè Devo usare i fiori Bomba Sostanzialmente È un po' Che non faccio La Da dongo scaven Da bambino Negli ultimi Negli ultimi Seed L'ho sempre Fatta da adulto Perché Comunque È più conveniente Facciamo C'è questa Cazzo Ah giusto Mi sono dimenticato Come c'è Vabbè Tanto ci dobbiamo Tornare Alla Lago Inia Vabbè Così Devo controllare Un attimo Il check Che sto Spuntando Ok Ok Siamo Siamo Allineati Qui check So cosa Dobbiamo fare So cosa Abbiamo fatto Ragazzi Stiamo andando Molto molto bene Sono contento Nuovo iscritto Non vedo Però Rocco Lattanzio Benvenuto Benvenuto Canale Rikukun Randomizing Rikukun Randomizing Tu va bene Sei mai stato Innamorato Ma sì Dai Fortunatamente Sì È un plagio Dalla musica Dei post Di Dark Souls Ma che cos'è Questo No 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 Il mio scudo Mio dio Il mio cuore Ok Muori Grazie Ho salvato Ho salvato Il mio scudo In estremis Proprio Dark Souls Era previsto Dagli egizi Sì Oh Preso Figa Staparte La trombetta Mi piace un sacco La trombetta In questo momento Ma quindi so che Le armi si rompono No Sono gli scudi È lo scudo di legno Che si rompe Con le fonti di fuoco Praticamente Solo quello E poi c'è La spada La spada spezzata Che però Cioè appunto Dice il nome È semplicemente Una versione peggiore Della Big Orange Sword Che Quindi è giusto Che si rompa Cioè è fatta apposta Per La serenade of water Ragazzi Ma stiamo trovando Tipo tutte le canzoni Ma l'ocarina no Allora Raga La serenade of water È tanta roba È una delle canzoni Che più permette Spostamenti comodi Cioè La serenade of water È davvero comoda Quella È il prelude of light Cioè Serenade of water E prelude of light Sono le migliori canzoni Per spostarsi Perché ti portano Proprio in posti Molto molto comodi Collegati a tutto Cioè il prelude of light È la più comoda Di tutte Però la serenade of water È la seconda Fa suonare le canzoni Con le scoreggi In mancanza di ocarine Che cos'è È bellissima È una versione Di Lost Woods Fatta con Un altro strumento Bella Vieni qua Ma perché scappi? Crouchtab Allora i crouchtab Cosa sono? Praticamente Dopo che Link effettua Un attacco in salto Conserva Quell'ultima fonte di danno E il crouchtab Aiuto No non posso fare il coglione Adesso Mi sono Di morire Di morire Dammi il cuore Sì Praticamente Dopo che io effetto Un attacco in salto Link conserva Quella fonte di danno Che darà sempre Con il crouchtab Che è un attacco Non previsto Dal gioco Sostanzialmente Cioè Non so perché In realtà non ho mai capito Se l'animazione Era prevista o meno Credo di sì Però L'errore Diciamo Di programmazione Di tutto ciò È che il crouchtab Effettua danno Con l'ultima fonte Di danno Che Link ha emesso Quindi Se io faccio un attacco in salto Il crouchtab successivo Farà come l'attacco in salto Uguale per La Big Goron Ad esempio L'attacco in salto Con la Big Goron Che è il danno più grande Che Link può fare Se io poi faccio Un crouchtab Faccio quel danno Che è tantissimo Quindi Informazioni utili Grazie Night Mi sono evoluto Super Mealord Hai visto? Allora io Lì sotto ci devo andare Ma non adesso Non adesso Perché se no Mi devo rifare Tutta sta strada Soul Novat È un gran bel gioco Mi informerò Ma quando una live So Breath of the Wild Mai Ok Quindi abbiamo fatto questo Adesso io Ho 5 bombe Devo usarle bene A parte che posso Posso peccare i bomb drop Dai 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 laser Rosso Come cavolo No 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 Ho sbagliato tanto Volevo dropparla giù E me l'ho sovrappata Se un boss Ho sbagliato Come la prende No me la prende Bene Peccato sia per PS2 Ah io pensavo fosse Un gioco moderno Non lo giocherò mai Allora Perché PS2 Non mi ha preso L'esplosione Perché mi sono allontanato Fantastico Adesso ho una bomba Riku Questa bomba Deve entrare Perché se no Hai visto Alita Oh gli Aeroboots Yes No non ho visto Alita Alita Ho una bomba Mi deve entrare Perché se no Devo mettermi a fare le cagate Con i Bombchoo Non è bello Fare questa cosa Con i Bombchoo Ragazzi Ve lo assicuro Non è bello Ok I did it Zero bombe però No però Johnny Banana Mi ha fatto venire voglia Di andare al cinema Adesso sai Alita Alita Mi ha fatto voglia Di venire voglia Di andare al cinema Ci andrò Sabato prossimo Ok Abbiamo Aperto la bocca Del Dodongo Quindi possiamo andare qua Datemilo carina Kyens Kyens Esce il film di Dragon Ball Al cinema No Ah un Earth Container O era il Double Defense No era l'Earth Container Il Container Sì Vabbè Rupie Ok Però Ma una playlist Solo Vaporwave Puoi pur sempre Richiedere un sacco Di canzoni Vaporwave Ma io faccio prima Save Warpare Quasi sinceramente Cioè Save Warp Faccio prima E intanto Mi segno i check No vabbè Tanto il Dongoscaven La sto facendo Tutta in blocco Non mi serve Segnare i check Singoli Singoli Sinceramente Borghese Alessandro Borghese Andiamo avanti Questa è Sword Art Online Ma perché le sigle di anime Sono così Metal Allora io devo tentare Di ottenere delle bombe In questo momento Quindi facciamo così Lo svantaggio di fare Do Dongoscaven Da Child Link È che Ah ya Ok No ma preso Merda Grande L'incontro Queste 5 bombe Mi serviranno Per far King Do Dongo Dicevo Lo svantaggio di fare Do Dongoscaven Con Child Link A parte appunto Stare attenti A non farsi bruciare Allo scuro Ok No mi prende E vabbè Cambio il scudo È che Questa zona La dobbiamo fare Mentre normalmente In Da adult link Questa parte Si può schifare Completamente E vabbè Però non è un problema Perché qua c'è uno scultulla Quindi mi sta bene Fare questa stanza Quindi Mi posso arrampicare Facciamolo con Il Bom Choo Voglio tenere le bombe Mi servono di più le bombe In questo momento Mamma mia Ma ragazzi Ma quanto sono diventato forte Cioè Faccio le pazzie Con i Bom Choo E le noci Cioè Davvero Troppo forte Ti sgancio anche Un Bom Choo Ad osso Ma vai via Dai Sono il maestro Dei Bom Choo Citazioni a Momenti su Così quattro Hai avuto esperienze gay Nel periodo di assenza? No No Non Credo mai Non credo che avrò mai Non credo che Sperimentino mai Questo lato Della vita No Sono gusti Eh Non ho mai troppo gusti Sei mai andato in calore Sei mai andato in calore? Sì Io sei lì Hai qualcosa contro i gay? No? No Assolutamente Anzi Conosco tante persone Ovosessuali di persona E sono persone normalissime Che sono miei amici Sei un gay represso allora No Non sono proprio represso Sono sicuro Della mia sessualità Fagiare Allora vuol dire che non hai ancora visto Jojo Ecco Qualcuno doveva citarlo Sicuro Allora Gli insetti preferisco tenerli Vorrei prendere una Qua potrei prendere una fata Però No Cura mi e basta Tengo gli insetti Amici qualcosa di più Wow Bombe Buono Buono Ecco Praticamente questa roccia qua Si può buttare giù Con Con adult link Semplicemente saltando Qua sopra Mentre c'è il link Bisogna farsi tutto al giro Andiamo a fare King Dodongo Ragazzi Se King Dodongo Ci da un altro Medaglione Cioè Proprio Questo seed È Oro Oro colato Davvero Dammi Dammi un altro Medaglione Oro carina Oro carina Come art container Lo sbiancamento anale La zora tunic No A goron tunic Sono cieco A goron tunic Ma onesto Mi piace Vediamo Quindi tolgo Com chu Adesso E stiamo King Dodongo Mi hai pensato Ti ho pensato Lo sbiancamento Altrimenti Sei omofogo E perseguibile Dalla legge Ricu ma sei fan Di Plarpon Sì Yes Eh è vero che non si può fare Crowdstab A King Dodongo Aia Però a King Dodongo Lo massacriamo In due spadate Ragazzi Guardate Cioè Con il Deku Stick Perché il Deku Stick Fa molto più male Dalla spada Nanda Ciao Ciao Oh mio Dio Oh mio Dio Rick conosce Plarpon Chiraz Questa è Sepoltura Dead Embryon Embryonic Ah ok Non l'avevo mai sentita Questa Medaglione Medaglione ocarina Sarebbe la cosa migliore Il Boomerang No No Il Boomerang vuol dire che il gioco vuole che io faccia Jabu Jabu Anche se contiene una pietra Che palle Dammi un medaglione tuo almeno dai Vabbè però il Boomerang raga Il Boomerang è il Boomerang eh Tanta roba Con la Big Goron One Shot di Kingdodong Sì Oh spirit medaglione ragazzi Sì cazzo Buono Ragazzi sì Cioè sì Tanta roba Come faccio Toglimelo Ok Ok Molto molto bene Quindi noi andiamo allo Zero Domain adesso Cioè Andiamo allo Zero Domain Precisamente Mamma mia ragazzi Abbiamo già un altro medaglione Troppa roba Troppa roba Aia Goron Calmati Decutri l'ho fatto Sì E ci ha dato il Light Medaglione Vedi qua sotto Sarà un 100% No L'obiettivo è finire il gioco Semplicemente Finiamo il gioco Ok Ok cosa possiamo A Goron City non possiamo ancora fare niente Perché non abbiamo L'Ocarina Ragazzi iniziamo a sentire davvero tanto il bisogno di L'Ocarina Ma proprio tanto Ma proprio tantissimo Cioè con L'Ocarina adesso possiamo diventare adulti E quasi provare il Cioè Togliete il quasi Possiamo entrare nel Fire Temple e farne metà Cioè È tanta roba Quindi adesso andiamo dallo Zero Domain Per forza Zero Domain E poi proviamo Jabu Cioè Pucciamo i piedi dentro al Jabu Jabu Sbelli Che potremmo finire in realtà adesso eh Possiamo finire al Jabu Jabu Sbelli Ragazzi stiamo facendo i dungeon in ordine Mi sento triste Per i dungeon in ordine il randomizer è brutto Ah ma sono Babu Non dovevo venire qua Dovevo andare alla Gorilla Dovevo andare alla Gorilla Sì Che figa sta canzone Molto Nei sepultura Sono tanta roba Molto molto utile Sepultura Ok E niente La strada più veloce A piedi Andiamo a piedi alla Gorilla Perché se avessi L'Ocarina Vedi se avessi L'Ocarina Sarei già entrato nella zona Domain Perché avevo la Zelda Slullaby Oppure mi sei potuto Te le trasportare Direttamente con la Serenade of Water Invece Non posso fare niente Quindi nel dubbio Io mi prendo anche un altro fagiolo Già che siamo qua Anzi altri due fagioli Ho la Ruto Slatter Sì Tutti questi fagioli in realtà Non mi servono Non li userò tutti Però È meglio avere di più Che non ne abbiamo abbastanza Perché in realtà Di fagioli necessari C'è tipo Solo e unicamente Quello Dello Spirit Temple Credo E Quello della Gorilla Quindi in realtà Ne basterebbero due Però Avermi altri due o tre Non è male Perché un altro Lo puoi mettere dentro Death Mountain Un altro Lo puoi mettere al cimitero Io non so fare lo skip Di quella cosa Quindi mi sta bene Farlo con il fagiolo Quindi Sto pensando Se c'è un modo più veloce Per arrivare alla griglia Ma non c'è Quindi dobbiamo andare a piedi Quindi back walk Ho fatto più freestyle Che piatti di pasta What? La nostra esistenza È il male Cazzo mi sono incastrato Duel Masters Ragazzi Io ho le carte Di Duel Masters Ma ero proprio Ho preso bene Con il Duel Masters Ma tanto No Mi interrotto Il back walk Ok Devo pensare Se posso fare Altri check Nel frattempo La guardia Posso dare La lettera Alla guardia In effetti Potrei fare altre cose Oh La sigla di Needless Ragazzi Civì Io non vedo Perché in questo momento Non vedo La mia Cioè non vedo Non vedo la mia webcam Non vedo cosa vedete Però lì Ho deciso di fare Un angolo Della Della mia insola Tutto Needless Ok Ok lì Mi sono dimenticato Di entrare qui Se qui ce l'ho carina Ho perso un sacco di tempo Solo perché ho deciso Di non visitare Questo boom qua Ciao Daniel Ok c'era Un'inutilissima mappa Del pari temple Mi sta bene Allora Che Che lo abbia saltato Comunque Sono dovuto tornare Qui comunque Perché Dobbiamo prendere La route slatter Cioè il check Della route slatter Che in realtà La route slatter La abbiamo E andiamo Allo zero domain Andando allo zero domain Ragà Lo carino La troviamo Cioè stiamo finendo I check Davvero Stiamo finendo I check Non abbiamo più Niente da controllare Dopo lo zero domain Dopo Cosa c'è questo Cos'è questo Check a death mountain Ah è lo strength upgrade Che non possiamo prendere Poi abbiamo Basta Non abbiamo più niente Ragazzi Se non c'è La route slatter A zero domain O a jabu jabu Cioè se non è lo zero domain È per forza dentro Jabu jabu È quello il concetto Ora già che siamo qui Possiamo piantare I fagioli Il fagiolo Il faciolo E cazzo Ho il boomerang Avrei potuto Se fosse notte Avrei potuto Prendere un altro Sculptulla E forse No vabbè Non dico che aspetto La notte Però No non aspetto La notte Mi cazzate Cosa ho perso Due ore Di randomizer Stiamo andando Molto molto bene Ragazzi No davvero Adesso sono Decisamente più bravo Dei primi strength Che ho fatto Quella lì È davvero una rupia Cioè il check Della route slatter È una rupia Ah no È la È il portaruppie È un portaruppie più grande O è il bomb bag Più grande No mi sacca la bomb bag Purtroppo Sì è il bomb bag Che cazzo Vabbè Avrei preferito Di gran lunga Un portaruppie Più capiente Nairus Silent Rear Cos'è? Ah è Twilight Princess? Sì è Twilight Princess Ficcata Sta canzone Cioè credo Sì è quello No Non capisco Il franzo Nè Ma in un live Mentre ero fuori casa Vabbè Bentornato Riccogon Yeah Biscay Ragazzi È Kai È Kaien Abbiamo trovato Kai Come testo Sciaffalata La Biscay Tenuti E poi niente La Biscay È un ice trap Comunque Wow Oh la stick Sì Ok quindi Allo zona domain Abbiamo detto che il negozio Non fa nulla Non ci serve In nessun modo Bis Doppio Kai Ma noi possiamo già mostrare la lettera Se l'abbiamo Così mi libero la bottiglia Per prendere il pesce Ah meno male che hanno fatto la cazza In me di loro Che si muove Raga Io non trovo mai La Stone Wagon Mai Non la trovo Non riesco a trovare la Stone Wagon Non riesco a beccarmi I tip Delle 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 Gossip Stone È bruttissimo È veramente brutto Perché Cioè sono stra utili Cioè io finché non trovo La Stone Wagon Tutte le Gossip Stone Che ho incontrato Devevo ritornare a passare Cioè le devo ripassare Per avere i tip Perché Cioè ovviamente Non è che vado fuori strada Per vedere i tip Delle Gossip Stone Però Diciamo che le Gossip Stone Possono in questo momento Possono dirmi Che cosa Che oggetto c'è Dietro ai 50 Skulltulla E io non ho intenzione Di fare i 50 Skulltulla Senza sapere Che cosa c'è dietro Perché sono tanti Sono davvero troppi All right Quindi ora possiamo Fare Vabbè non cambia Devo comunque fare Avanti e indietro Quindi direi che Prima Porto No Facciamo Andiamo appena Parlando Non so Ragazzi Sono solo due ore E siamo messi molto bene Abbiamo già Tre medaglioni Porca miseria Tre medaglioni Tra l'altro abbiamo Il Light Medallion Con il Light Medallion Possiamo Con il Light Medallion Possiamo prendere Un check in più Da Da Shake Da Shake Che è per quello Che nel Light Hand Tracker Il Fire E Water Medallion Sono segnati Iguali Mentre il Light Medallion È separato Perché praticamente Il Light Medallion Dà un check A sé Cioè Avendo il Light Medallion Shake ti dà Un oggetto in più Praticamente sarebbe Quel check Che ti danno Quando Diventi adulto Appena diventi adulto Rauru ti dà Il Light Medallion Solitamente E Non so se è veramente Così nel gioco vanilla O meno Però Shake Ti dà l'oggetto Solo se hai Il Light Medallion Quindi Ovviamente Nel randomizer È una cosa che impatta Ciao Kaller Hai visto i capelli? Dai sto bene Sto bene Sto molto bene Eccola qui Boom Perfetto Non dobbiamo fare Jabu Non facciamo Jabu Non c'entriamo ragazzi Ottimo Mamma mia Mamma mia Che bontà Che bontà Guarda quanti check Mi sblocca Quanti check Mi sblocca Madonna Mi sblocca tantissimi Ma tantissimi check Mi sblocca Ah tra l'altro Guardate cosa hanno fatto Quei pazzi Andiamo Diventiamo adulti Subito Cioè Non perdiamo tempo No forse Fatemi pensare Fatemi pensare A cosa fare Allora Fatemi pensare Allora abbiamo fatto Questi check qui No? Ok Noi potremmo andare A fare Il minigioco Dell'Ocarina Ma anche no Possiamo andare Possiamo diventare adulti Possiamo andare a prendere Il check da Malon Possiamo prendere La scarecrow song Che direi che è utile Possiamo fare Le cose a Goron City Sì Andiamo Andiamo a Goron City Cioè Facciamo Kakariko Village Goron City E diventiamo adulti Quindi La strada più veloce Ottimo Hai mai esperienziato Ciò che si Prova nell'inserire Il tuo chiselo In una rifizia Di qualsiasi tipo Di animale Vegetale O non vivente Animale Di che tipo Addio Jabu Esatto Jabu Non dobbiamo farlo Mi sa Non credo Che Jabu Ci serva A questo punto Perché sappiamo Che Jabu Contiene una Spiritual Stone Quindi Se possiamo avvitarlo Lo evitiamo Abbiamo il Boomerang E' vero Potremmo farlo Potremmo farlo tutto E ci sono altri check Comunque dentro Jabu Che potrebbero essere utili Però Se possiamo evitarlo Ora Jabu A tutti e tra gli archi E hookshot Minchia Sarebbe la cosa peggiore Che può succedere In questo momento Letteralmente Cioè Se Jabu Ha hookshot Siamo un po' più utili Quella è una cosa Che veramente No Comunque avete visto Cosa hanno fatto Quei geni Da Randomizer Cioè Hanno messo L'Ocarina Nel Nel D-pad E ci sono anche L'Iron Boots E gli Overboots Però non avevo ancora fatto Una partita con L'Ocarina Nel D-pad Perché ho aspettato un po' Per Ah è vero Non ho Non ho la Saria Song Non ci ho vero Fammi contemplare A più sicurezza Cos'è che ho? Song of Time Sun Song E Zardas Non da bene E poi ho Bolero Serenade Ma che figo Ma sono messo bene Ragazzi Sono messo davvero Molto bene Mi è andata bene A trovare Bolero E Serenade E soprattutto La nottuna Perché non per me è Nel Stato Tempo Io non ho una sorella Stupendo Il negozio L'avevo già visto Ok Ho 40 bombe Quindi direi che possiamo Tranquillamente fare La fase del Bigelon City Aia Vediamo Dai di bello Bolero E pianto il fagiolo Sì, stavo infatti pensando di iniziare a usare le Warp Song per fare cose utili Perché non mi ha dato... Raga, io non capisco davvero questo check, non lo capisco Non capisco perché ogni tanto mi dà... Ah, forse perché prima devo far ballare da ruina Sai che io veramente non capisco questo check? Non lo capisco Vabbè, non lo so Non lo so Sì, Link girava, era possunto Non capisco perché quando si attiva quel vaso Quel vaso impazzisce Cioè Link impazzisce quando fai girare il vaso Allora, ho visto una domanda di Giuseppe Quindi i medaglioni li puoi trovare solo a finiti i dungeon Adesso ti do la risposta completa Ma io questi qua non lo spunto perché non l'abbiamo fatto, naturalmente Quindi... Allora Che due palle Il problema... No, senti, non lo faccio adesso, dai Cioè, faccio sì, vado al... Uso il bolero Uso il bolero per piazzare il fagiolo E usare gli insetti Che è uno sculto leppio, non fa schifo Però le fate non le faccio Cioè, le fate adesso non le faccio Non ho il prelude E qui non posso andare, che merda Vabbè Quindi E sto pensando a che cosa fare, insomma Allora, uno e due Questo sicuramente Hai una possibilità su tre, davvero? Una possibilità su tre? Ah, ops Vado a studiare storia, torno tra un'oretta al massimo A dopo Riccardo ragazzo con i capelli corti Riccardo ragazzo Sono io 20 scutulla, buono Quindi usiamo... Adesso devo piantare il fagiolo, non dimentichiamoci Inserisci il fagiolo nel buco Il piselo È letteralmente un piselo Non mi ricordo la lockdown of shadows Comunque Il rumore dell'ocarina Sembra normale Ma è randomizzato anche quello E non capisco esattamente Credo che sia tipo L'ocarina di Saria O qualcosa del genere Io spero di potermi arrampicare qua Ok Sì, non è la locarina normale Cosa sono i check? Allora, i check sono sostanzialmente Tutti i punti del gioco In cui si può ottenere un oggetto Cioè, non li chiamo scrigni Non li chiamo fonti di oggetti O cose simili Perché semplicemente check è veloce Che è check Quello è un check Cioè, qui stiamo Bastardo Qui stiamo per controllare Un check, ad esempio Ah, e se trovassi l'energia magica Adesso sarebbe una bomba Tra l'altro Aiuto Devo farli fuori per forza, questi Dai Niente, sono Sono incapace con la fionda Su emulatore Ok Ecco, sto iniziando a pensare di Di modificarmi la Wii Per giocare A Ocarina of Time Randomizer Su console Perché c'è molto meno input lag Ed è molto più facile mirare Con fionda e cose simili Mollami, mollami, grazie Infatti Infatti tanti Giocatori di Randomizer Giocano con Con le console Non su emulatore Però è semplicemente più comodo Giocare su emulatore Perché è più veloce Cioè, è molto più accessibile Comunque qua possiamo usare la Samsung Per quello che sono venuto qua Perché c'è un check E io ho la Samsung Ah no, ma non è vero Non devo suonare la Samsung Devo semplicemente prendere il check E nell'altra tomba Che c'è la Samsung Da prendere Da usare Se ti uscisse l'energia magica Allora, io adesso Questa stanza la detesto Perché ci sono questi Gridhead bastardi Guarda, da un chilometro Mi ha stunnato Se ti uscisse l'energia magica Allora sarebbe una bomba Ma hai già 40 bombe Significa che Allora Per la proprietà speculare 40, 39 energie magiche Oh mio dio Come ti è venuto in mente questo Row, row, fight the piselo Eh, lo so Però modificare la Wii Per giocare a Ocarina of Time Sarebbe figo Sarebbe Sarebbe davvero figo Qua piantiamo Non ho più insetti Cavolo Qua Con gli insetti Sarebbe stato bello Qui piantiamo il fagiolo Perché non so fare questo skip Cioè si può prendere Quell'oggetto Qua sopra questo check Si può fare anche senza Anche senza Fagioli Però io non sono in grado Quindi non lo faccio Ora qui non mi ricordo Ah, è vero Allora suoniamo la Samsung Oh, ce l'ho fatta Qua c'è il mio diss Intanto in sottofondo Ah, lì c'è una scultura Che posso prendere Tra l'altro Intanto è uscito Sharp Perché ho sbagliato a parlare Non volevo parlare con la bomba Sei un pallone gonfiato Sei un pallone gonfiato Purtroppo questo diss ha veramente un volume bassissimo Quanto dovrò ancora live? Oggi è il mio compleanno E non credo auguri Daniel Auguri Comunque durerà ancora tanto Perché Devo finire il gioco Quindi ce ne avrò ancora per Credo 4-5 ore Cioè Cavolo 4-5 ore sarebbe il mio record Per ora il mio record di Di randomizer completato È Di 8 ore qualcosa 8 ore e mezza Circa D6 dissing col volume basso In versione E-rape Magari No Cavolo È perché era in salita Praticamente Normalmente Con i Degustic Si riescono a dare due colpi Con un attacco in salto Però dato che il Redead era in salita Gli è arrivato uno solo Dissing al silenzio Sì sembra un po' un silenzio per voi Io lo sento a malapena Quindi immagino che voi non sentate proprio niente Di questo Di questa canzone in sottofondo Ocarina of Time Soundfont Oh sono le Ice Arrows vere Perché sono abituato che quando vedo le Ice Arrows In realtà è un Ice Trap Perché prima Prima di Prima di questo ultimo update Ocarina of Time Randomizer Adesso è in versione 4.0 E prima della 4.0 Le Cosa dovevo fare adesso? Aspetta che devo pensare Cosa devo fare adesso È importante E poi devo anche dare la risposta seria Giuseppe Allora Sonk Questa l'abbiamo presa Vabbè Non riesco a ceccarlo Vabbè Qua mi manca Cosa devo fare? Io direi che andiamo semplicemente Diventiamo adulti E basta Diventiamo adulti Sì andiamo Ok quindi La risposta Vera Del perché i medaglioni Si possono trovare solo alla fine dei dungeon È La seguente Praticamente A Link to the Past Randomizer Che è il Randomizer Originario diciamo Cioè Giusto controllare Le sculture Questo Diciamo Il Randomizer vero Che ha dato il via A tutti questi Randomizer di Zelda È A Link to the Past In A Link to the Past C'è una versione Di Per giocare a Randomizer Che è Triforce Hunt Praticamente Avete presente Wind Waker Che a un certo punto Bisogna trovare I sette pezzi di Triforza Praticamente Cosa hanno fatto questi geni? Hanno Creato Un oggetto Che in A Link to the Past Non c'era Ovvero Il pezzo di Triforza E l'hanno Hanno detto Se tu giochi In Triforce Hunt Questa versione Per giocare A Link to the Past Randomizer Il tuo scopo È semplicemente Trovare Trenta pezzi Della Triforza Una volta che trovi Trenta pezzi Di Triforza Che possono essere In qualsiasi check Del gioco Hai vinto Basta Non devi Ne battere Ganondorf Ne Niente di niente E Lo stesso È lo stesso motivo Per cui Non esiste Il Randomizzare Cioè Il mettere i medaglioni In posti casuali O nel caso di Di A Link to the Past I cristalli Perché È ridondante Nel senso Se vuoi giocare In quel modo Cioè Senza Mischiare Gli oggetti Di Dungeon Esiste Il Triforce Hunt E il Triforce Hunt Lo stanno facendo Anche per Ocarina of Time Quindi Una volta che ci sarà Il Triforce Hunt Su Ocarina of Time Sarà inutile Schafflare i medaglioni Perché Schafflando i medaglioni Non fai altro che Fare un Triforce Hunt Con meno oggetti Cioè È la stessa identica cosa Quindi Semplicemente I medaglioni Rimarranno Un oggetto Vero Con un significato Quando non giochi In Triforce Hunt Mentre in Triforce Hunt I medaglioni Non ci saranno È semplicemente Per non creare confusione Ecco È quello Cioè Infatti tanti stanno chiedendo Cioè È una delle domande Più comuni Cioè Perché i medaglioni Non sono mischiati Con gli altri oggetti È semplicemente Per quello Cioè Perché Così Si mantiene Una modalità di gioco Separata Cioè La modalità di gioco Vanilla Anche se Randomizer E la modalità di gioco Triforce Hunt Che è il vero Mischiare tutto Cioè Non ha più senso Non ha più un valore Maggiore Combattere i boss E cose simili Cioè Quello Ciao Ado A dopo Aiuto La mia volta che sento Come Su Sir Todd Mi viene in mente La scorsa estate Questa canzone Mi ha caratterizzato Tutto il mio periodo Dell'anno scorso Che bello Aveva le canzoni Che caratterizzano I periodi dell'anno Ok Quindi Diventiamo adulti E cosa facciamo? Cioè Abbiamo pensato Io no Cosa possiamo fare? Allora Prima di tutto Andiamo a fare un salutino Alla Grande fata Di qua Perché Perché poi da adulti Non possiamo farlo Mi hai smegmato Mi piace il cazzo Scusate Era mio fratello Dai però Una Stono Vagoni Ma datemi la Stono Vagoni Ma fatemi felice Che palle Tutte ste Maledette Gossip Stone Che non posso farci niente Ho bisogno Della Stono Vagoni Vai sì Quasi Almost there E quindi Io non vedo l'ora Che esca Il Tricorce Hunt Su Cadine of Time E In qualche In qualche modo Dovrò riuscire a rifinire Alink to the Past Perché Con la conoscenza che ho adesso Di Alink to the Past Non ce la farei mai A giocare a un randomizer Mentre rigiocandolo tutto Ce la farei Però Devo Appunto Devo Cioè Diciamo che giocare a un randomizer È molto più veloce Che giocare il gioco di base Perché Ci sono i testi Le cutscene Mentre nel randomizer Tutte queste cose Sono state rimosse Diccucun Ma tu sei pro contro l'aborto Ando oggi È preso bene Con le domande scomode E comunque È molto È molto soggettiva Come cosa Nel senso Io sono contro A chi Fa figli E poi Non se ne perde La responsabilità Cioè nel senso È un po' La domanda sbagliata Secondo me Sei pro contro L'aborto Cioè nel senso Perché uno dovrebbe Dover Perché uno Dovrebbe abortire Cioè Sei coglione Allora Lo sbaglio l'hai fatto Cioè Il impedire di farlo Secondo me no Però sei coglione Tu che l'hai fatto Cioè È Non dovevi farlo È semplicemente quello E con quelle persone Che contro cui Bisognerebbe prendersela Non con Il dare il permesso O meno Di farlo Quello secondo me Sì lo so Io do risposte serie Perché comunque Cioè mi piace Mi piace rispondere Anche alle domande Del cazzo Che mi fate Sei a favore Dello sterminio Dei gay No Cos'è sta canzone Ragazzi Ste cose The weeb Ah no È Zatchplank Vabbè C'è lì Stone of Fegony No no Quello no Gerky Infatti io non ho mai detto Di essere contrario Capito Io me la prendo Io me la prendo Con chi Fa arrivare A quel punto Cioè Non dovrebbe Non dovrebbe esserci Il bisogno In un mondo ideale Capito Come dico Cosa ne pensi Di hit Cosa devo pensare Sei a favore Sei a favore Dello sviluppo Di randomizer Per randomizer Che ti sciaffla Tutto il codice Sorgente Tu scarsi Ma stanno facendo Delle cose Veramente esagerate Su quel livello Quasi Sto facendo Il plandomizer Che praticamente Permette Ai giocatori Di scegliere Le location Di determinati Oggetti Puoi generare Il seed A partire da quello Cioè È una follia Che cazzo sto facendo Non ho lo hookshot Non posso prenderlo Quindi O forse sì Non dovrebbe esserci Il bisello Il bisello Quando ti sei tolto Il baglione Ma un po' Di minuti fa Che mi è iniziato A avere caldo Adesso invece Sto avendo freddo Fai un momento sponsor Mostrando la tua maglietta Sexy Allora Prima che c'era La canzone ideale L'avevo Quasi L'avevo premostrata Comunque È una maglietta Dei mega Il bisellino Allora ragazzi Cazzate a parte Dobbiamo decidere Che cosa fare Adesso Quindi La grid fairy L'ho fatta Quindi Adult Dove andiamo 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 A Goron City No Goron City Grotto Ma io non ho La Song of Storms Vero Ok ci sono due negozi Adesso In realtà Kakariko Due Ok si abbiamo Abbiamo dei check Dai facciamo cose Ma i gay piace il pipì? Ah guardate I fantastici Boots Ah devo sentire Che rumore Fanno gli overboots Che rumore Che rumore Scusami Non fanno rumore? Si sente solo l'ultimo Perché tutti gli altri Vengono Vengono Resettati subito Ok È È il rumore Del Mamma mia Ma io dove sto andando? Io sto andando a casa No 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 Non sto andando a casa Era giusto Praticamente Il rumore Degli overboots Sono i Sono Gli Armos Solo che Si sente solo l'ultimo Perché tutti gli altri Vengono sopra scritti Bellissimo 50 rupie Non è Non è Non è Non è Non è No pad Cosa ne pensi Dei vaccini? Non risposerà E Cerchiamo Dampe E facciamo Dampe Sono check Praticamente Gratis Quindi facciamolo E non mi ricordo mai Quella è la tombstone Di Dampe Doveva essere Questa Si Che che ha richiesto Sta cosa? Ovviamente Robby Ovviamente Confermato Antivax Oh due ore e mezza Già Cioè è poco in realtà Per quello che abbiamo fatto Finora Ok quindi sappiamo Che non dobbiamo uscire Da Non dobbiamo uscire da qua Perché ci possiamo Tranquillamente Odio Dampe Mamma mia Odio È più difficile che fare i boss Che fare questa cosa Odio Devesto questa cosa Perché ti lancia le fiamme Dietro agli angoli Non riesci a schivarle No No non abbasserò il volume Di questa cosa Non sono una pussy No in quattro ore Ragazzi Non sono ancora così bravo Però Già se riesco a finirlo In meno di set Ragazzi Per me È un record 59 Però devo rifarlo comunque Perché sì Ci sono due check Per Dampe Però comunque Per prendere il secondo check Per farlo in meno di Un minuto Bisogna rifarlo Quindi Dobbiamo rifarlo adesso Un secondo check Wow Meraviglia Per rifarlo senza uscire Basta fare così Tac Molto semplice Ho preso un sacco di danni Per fare questa cosa Ma va bene Perché ricordo che sto giocando Con il danno Sì proprio Cioè Ma io non ho parole Però Proprio su un angolino Dove dovevo girare E che Ammetto che La visuale di Ocarina of Time È bella Ma Negli spazi stretti Cioè È tremenda Guarda Io cosa potremmo fare Che mi sono trovato la fiamma Proprio Ragazzi Non ce la faccio qua Sotto al minuto Credo di farci Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Quasi mi prendeva Dai che ce l'ho fatta Che culo Ragazzi per due secondi Meno male Meno male Meno male Bombchiu Vabbè Ah no Pure un ice trap Non contento Che era un oggetto inutile Ice trap Ehm vabbè qua lo farei dai Così mi prendo quel frammento di cuore E mi curo Ok quindi cosa abbiamo ottenuto Un cazzo Niente Link blanco King to Ridu Ciao Quanto tempo Ragazzi abbiamo bisogno di più canzoni di pokemon bianco Non siete d'accordo Ah ma io ho gli overboost Adesso anche questa è un ice trap Tu mi devi dare un check Sì due in check Sì due in check Senti dal check Ok Pene pene Quindi Kakariko Village Bello zeppo di check Da adulti Dimentichavo che dovevo suonarla Quindi abbiamo ancora i due negozi Sì la canzone Fantastica rubia Gravia Pledge L'abbiamo presa? Sì l'abbiamo presa Dump l'abbiamo fatto Ok Quindi possiamo vedere i due negozi adesso No mollami mollami Ok Faremo in live su B-Secret Laboratori Non so se l'hanno aggiornato tanto Non sarebbe male tornarci Un po' di feels per quel gioco ce l'ho Ma la ricetta La ricetta la devo mostrare a lei mi sa Sì Vero? No No la ricetta è per il dottore No la ricetta è per il dottore Alla guiglia Però non lo farei adesso La trade quest della piccola Vediamo cosa c'è in negozio dai Hai mai sentito parlai di entropia? Sì Sì è capitato Ah ma che palle Sì Song of Time Song of Time al posto della Samsung Grande Rico Inizia a farsi buio e a fare freddo Non è proprio bellissimo Ah meno male che sono entrato qua Così non devo ritornare Non devo ritornare a piedi qua Sì tra poco mi rimetterò il maglione decisamente Allora Cosa mi vieni di te? Deku Stick Green Potion Huge Rupee Piece of Art Beh potrei quasi comprare Il frammento di cuore Però vediamo prima se c'è qualcosa di utile che vende lui No niente È proprio zero Bombs Ma proprio zero Ok Allora compro il frammento di cuore Sono qui Compriamolo Why not? Boom Ma sì perché no Ok Quindi abbiamo fatto quasi tutti i check di Kakariko Andiamo Non posso farlo quello Mi sa perché non ho l'arco Che palle È possibile che non ho trovato nessuna delle tre paredi Che brutta roba Bussola dello spirit Attenzione Ok no Dei dongoscaven sappiamo già che ha lo spirit medaglia Ok Quindi Saliamo a Death Mountain Saliamo a Death Mountain Yes Ok il problema è che noi abbiamo il volero Ma non abbiamo il martello No però abbiamo la loro 2 Ok Possiamo andare al Fire Il Fire Temple Sì Sì Facciamo il Fire Temple Facciamo un giretto a Goron City Facciamo un giretto a Goron City E poi andiamo a Death Mountain Direttamente con il volero Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Ok Ok tra l'altro abbiamo il volero E abbiamo messo il fagiolo Quindi non devo risalire a piedi Sto andando a Goron City Sto pensando se c'è qualche posto strano In cui possiamo passare Quello di Ghost E poi uso il volero Così ottenizio il tempo Fammi vedere i check Fammi vedere che ci posso fare Goron City Le Maze Ok c'è il Maze Ma non abbiamo No Non abbiamo il martello Non possiamo farlo Eh sì Buonanotte Non lo fermerò mai Devo usare i Bom Choo dai Con i Bom Choo Riesco a fermarlo Vedi se Link ha il martello Link chiami Ma le Mucche Random No non le hanno ancora messe Purtroppo Dammi il martello zio Dai Dai Ok 5 rubini Bene Ok fammi pensare Se io vado alle Lost Woods adesso C'è qualcosa? O mi conviene aspettare il me No No Non mi conviene niente Andare alle Lost Woods Perché se vado adesso alle Lost Woods Non c'è niente Perché non ho né la Saria Song Nel Minuet Quindi non posso andare a Al Forest Meadow Inutile Ah ragazzi Non abbiamo ancora visto Di che colore è la tunica rossa Blu Giusto Giustissimo Allora Qui c'è una fata No Però non ho Modo per entrarci Ok Ora Io Prima di andare Dentro al Fair Temple Vado A vedere la fata fuori E poi uso il volero Facile Mi sembra ovvio La tunica rossa e blu Link Super Saiyan God Super Saiyan 4 Quello sarò io in late game Con la Big Goron E gli Over Boots Con la Zora Tunic Che non sappiamo ancora di che colore sarà Pensa se è nera Quella è davvero Anzi bianca Link Blanco La Big Goron E gli Over Boots Si sta diventando buio Infatti tra poco accenderò la luce Li metterò al maglione E staremo tutti al calduccio Ciao Daniele Grazie mille per essere passato Ok Dicevo il trucchetto che volevo fare È questo qui Ovvero con gli Over Boots Forse riesco ad arrivare all'oggetto là sopra Che è uno strength upgrade Quindi è utile Vediamo Non l'ho mai fatto Non ce la faccio mai ragazzi Non ce la faccio No fammi usare il bolero e basta Ma tanto ho messo Non mi serve un cazzo Ho messo la piantina Mentre suono il bolero Mi metto il maglione E accendo la luce E accendo la luce Eccoci qua Allora L'altarino Nintendo Si ho fatto gli altarini Proprio inerenti ai giochi Ho fatto quello di Metroid Prime Non so mi andava Mi andava di fare l'altarino a Metroid Prime Ok Quindi ci prendiamo il nostro strength upgrade Fantastico Silver Gauntlets Ecco qui una cosa interessante È che se non fosse stata Una Un Silver Gauntlet Ma fosse stato Ancora un Goron Bracelet Quello sarebbe stato un Ice Trap Quindi vedendo che era un Silver Gauntlet Era per forza Un Super Gauntlet Vero Ok Fire Temple Non abbiamo il Farore's Wind Non abbiamo la Bosky Quindi possiamo fare Non abbiamo il Martello Quindi non è che possiamo fare Granché Però qualcosina lo possiamo fare Per Rikokun otteniamo tutti il Gay Che carino Lo apprezzo tanto Lo prendo come un complimento Ecco allora Questo qua è un check gratis Quindi facciamolo Allora intanto fammi controllare Oh mio Dio Cosa cavolo è sta canzone? Fai standing peace on heart Questa l'abbiamo presa Sì Shaking Crater Ah Shaking Crater È vero Dobbiamo fare quel check Quando usciamo E poi fare il tempo Sto segnando i cosi sul Maffaker Sì posso fare Ice Cave e Jabu Però cioè Vorrei evitare di fare Ice Cave e Jabu Capete Non mi serve Non mi serve andare alla Zoro Mountain Se Se non Ovviamente se non ho Più opzioni Però sicuramente dovrò andarci Cos'è? Requiem of Spirit Raga Questo è importante Raga Requiem of Spirit Possiamo andare allo Spirit Temple Adesso Cioè proprio adesso Possiamo andare allo Spirit Temple E abbiamo un sacco di check Con Child Link Possiamo fare tutta la parte D'acciaio Questo è Questa è stata molto importante Ah e non abbiamo chiavi Quindi non No Com'è possibile? Com'è possibile? Non abbiamo chiavi Questo significa Ok ho capito Questo significa Che non possiamo venire nel Fire Temple Giusto? Fino a che non abbiamo il martello I guess Sì esatto È così Ok ragazzi È proprio questo Vuol dire Praticamente Vi spiego Le chiavi piccole Sono mischiate Solo nel dungeon Quindi io adesso Vado Vado a prendere il check Di Shake Allora praticamente Le chiavi piccole Sono mischiate Solo nei dungeon Mentre le chiavi dei boss Sono mischiate In tutto il mondo Cioè per come ho messo Gli settaggi E così Poi ovviamente Ognuno può giocare come vuole A me piace Questo vuol dire Che le chiavi piccole Del Fire Temple Sono per forza Alloccate dietro al martello Perché il gioco si aspetta Che noi arriviamo qui Già col martello Ad esempio In questo sud È capitato questo E Se noi invece Avessimo trovato Una small key Come primo oggetto lì Qua c'è un check Per la cutscene Di Shake Che è l'arco Mamma mia Buonissimo Buonissimo Quindi possiamo fare Un altro check A Kakariko Prima Stuvi Certo che ti saluto Hai due check free Alla Zoros Fontaine Sì è vero Alla Zoros Fontaine O non vado a fare Io sto pensando A cosa voglio fare adesso Però Fammi Fammi Tornare indietro Alla pianta Vado a Kakariko Ma posso tornare indietro Con la pianta Sì Ok praticamente Cosa faccio Vado giù a Kakariko Faccio il check di Kakariko Torno bambino E faccio La parte di Di Child Spirit Con Con Child Link Sacco di danni Ah ok È vero La parte adulta Non ci si deve parare Proprio Non si deve parare Sassi Quindi sì Divento bambino Voglio fare la parte Di Spirit Temple Con Child Link Direi che è una buona idea Non lo so se è una buona idea È che non ho il prelude Non ho il prelude of life Mi servirebbe quello Ricky meglio Un fuciliere Lottatore O Spadaccino Non lo so Sinceramente Non ho mai giocato Con Con i Mii A Smash Mai proprio Ma cosa che però non mi Sai che è vero No Non posso sollevare le rocce Devo Devo spaccarle Devo spaccarle col martello Quelle Quelle rosse bisogna spaccarle col martello Sono quell'argento che bisogna Sollevarle con i silver gunpress Benvenuto a un nuovo iscritto Non posso vedere perché ho il map tracker a full screen Cerca di parlare sopra le bestime per essere family friendly Sì avevo notato che era Che era una canzone blasphela Ciao Jack Jack 16 Samsung Meno male Meno male che abbiamo la Samsung Perché c'è veramente la Samsung Il pane Il pane Necessario E appunto Quella è argento Ah con i golden No Con i silver gunpress No Io so che c'è una roccia Argento Ma sono scemo Sono appena salito per entrare lì Non abbiamo la Song of Storms Tra l'altro ho notato adesso Non abbiamo la Song of Storms Quindi non possiamo entrare nel bottom of the well Neanche volendo Non che io voglia entrare nel bottom of the well Assolutamente Vediamo di non fallire questo minigioco Questo vuoi Ok dovremmo esserci No Cazzo Cazzo Vabbè dovrebbe farmi Dovrebbe farmi fare una Un'altra partita gratis Esatto Mi ha fatto fare una partita gratis Perché ho preso 8 Non mi sembra 8 o 9 Non ti fa pagare un'altra partita Mi tiene qualche più di tutti Per prendere l'oggetto Vediamo se abbiamo fatto bene No Non abbiamo fatto Ok Ora ordino le pizze perché sono polentone Ma anche io dovrò ordinare le pizze Tra l'altro raga che ne sono Sono 6 ok Quindi alle 7 7 posso ordinare le pizze Quindi ci prendiamo la pizze insieme Bene Abbiamo fatto questo No facciamo così Sì Pizza in live Sì Con quelli d'ora sollevi solo i peni neri I peni neri Giuseppe mi fa morire comunque Allora perché ho usato la sand and water Bella domanda Ci sto pensando eh Ci sto arrivando Ci sto arrivando Ok per prendere il piece of art Poi in cima Poi in cima Pizza due giorni di fila No io non ce la farei mai Allora Sono venuto qui anche per il dottore Eh no le Cazzo sai che è vero Le fly raro Allora io posso vedere l'oggetto Però fino a che non No eh ma dai Ma sei serio Ma che palle Sti corvi però Che tra l'altro sta pianta Fa il giro del mondo Che odio Niente devo aspettare la mia pianta Bastardo Bastardo Che canzoni mancano Riku Canzoni intendi In game O del song request Della trinità Dici Vai utile Molto utile Ok Quindi ora devo decidere effettivamente che cosa fare Ma sai che io me ne sbatto Di Child Link Io uso il Requiem Spirit adesso Però senza Ma hai visto Ho i Cyber Gumpers Ma cosa sto dicendo Ma andiamo a fare lo Spirit Temple No eh In game ci mancano E poi una song che ci fa andare a Gerudo Valley Saria Song Song of Storms Minuet Minuet potrebbe essere inutile Semplicemente con la Saria Song E ci manca Ah io ho segnato il prelude al posto del Requiem Babbo Ok niente questo Ok adesso vediamo se È vero che non posso sollevare i sassi grigi Con i Silver Gauntlets Ma vedi che li puoi alzare I Golden Gauntlets servono solo per Per le colonne Al castello di Ganondra Quindi bene Altri due check Abbiamo fatto benissimo Quindi è qua Oh Porta lupi è buono Sei invecchiato come il vino No Non ho rupi No non mi mancano due rupi Giuseppe cos'è questo smielamento Ecco una rupia Me ne serve un'altra Ragazzi venite qua Caratto Questi sono i nemici più stronzi In One Hit KO Perché si si può giocare anche in modalità One Hit KO E cioè tipo Sollevare questa roccia senza farsi colpire da quei cosi Non so come ho fatto Cioè vi dico Non so come ho fatto Fabrizio Perlini Mi sa che si rompe Ah no è quel Mirror Shield Che le noci imbalzate si rompono Eccola si Stono Vagoni Finalmente Ragazzi Finalmente la Stono Vagoni Oh Cazzo si Possiamo vedere cosa ci dicono le Gossip Stone Finalmente Bene 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 Ok Adesso andiamo a vedere che cosa Che cosa ci dice la prima Stono Vagoni La prima Gossip Stone Dovrebbe essere sulle Gossip Stone Sì ecco Allora vediamo Ah ok E cazzo E' un problema Questo è un problema ragazzi Porca miseria Vuol dire che a 40 Skulltulla C'è il portarupie da 500 che ci può servire Può essere necessario Brutto questo eh Però ce l'ho segnato Non lo so eh Possiamo evitarlo Cioè nel senso non è necessario Però mi ricordo che abbiamo la La chiave Abbiamo la chiave del Water Temple Mi sembra Locata dietro a 250 rupie Quindi nel In Randomizer ci sono In realtà ci sono più wallet del Del Vanilla Cioè ci sono Cioè hanno aggiunto un altro wallet Che è quello da Da 999 Aiuto E quindi In teoria Potremmo non dover fare Quei 40 Skulltulla Se troviamo L'altro wallet Però per fare il Water Temple E il Water Temple Sappiamo che è necessario Perché ci ha detto Una bussola Che dentro lì C'è il C'è il Water Medallion Dovremmo prendere un altro wallet Rispetto a quelli che abbiamo adesso Cioè adesso possiamo tenere 200 rupie Ma ce ne servono Da tenere 250 Quindi Spero di non dover fare Effettivamente Quei 40 Skulltulla Questa canzone è dedicata a tutti voi Che state leggendo In Manuel Castro Allora Mentre Chiacchieriamo di cosa fare Per evitare Dover prendere 40 Skulltulla Prendiamo una Skulltulla Ma non aveva più senso Dare questo effetto Alla maschera della verità Per leggere le statue Ottima domanda E infatti ti do Un'ottima risposta Perché C'è un settaggio Del randomizer Che permette Di giocare Con La Mask of Truth Che dà questo effetto Ma dato che La Mask of Truth È una merda Di oggetto Perché le maschere Non sono sciafflate Cioè Le maschere Sono sempre In trade sequence Fisso È noioso E quindi No Questo effetto Viene dato Alla sono pagoni Negazione Hammer Boom Boom Cazzo Sì Ragazzi Fire Temple Quindi ora Andiamo avanti Fino a che riusciamo Nello Spirit Temple E appena ci blocchiamo Andiamo a fare il Fire Temple Boom To be honest Non serve per il Water Temple Due minuti Siamo tantissimi Ma dici la zona Tunic Non ci sono quattro Porta WP Vabbè Il base Non viene contato Come oggetto Cioè Adult Giant È un'altra fuoco Tietro È un'altra fuoco Tietro 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 Ma ragazzi, ma non ti preoccupare, abbiamo gli overboots, non c'è problema, non c'è problema Ma non ci sono problemi, non ci sono problemi E se non troviamo una small key dobbiamo andare in childlink per forza Ok, non ci si arriva senza longshot o longshot, che merda Affanculo va, ok niente, qua non ci si arriva, bene Quindi usciamo dallo spirit temple perché ci dà un check, cioè la cutscene di Shake che ci dà per lo spirit Quindi prendiamo un oggetto adesso Abbiamo il megaton hammer ragazzi, possiamo fare tutto il fair temple, cioè proprio tutto il fair temple, non abbiamo problemi Quindi? Ah ok, 21 Bene, andiamo a fare la fata che darebbe l'amore di Naomi Ma io sono rientrato Ah sì, sono rientrato Mi stanno massacrando sti cosi Aiuto Mi stanno proprio massacrando Da grande sarai però, facciamo Aia, no, no Grande fata da mi Grande fata devi darmi un portacuore, un cuore, qualcosa che mi curi Please 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 Non ho più aggiornato gli school tool Siamo tipo a 22, mi sembra Noce, mangiamo una noce Fabio Bardini Ok, polero All right No, datemi, datemi cuore Datemi cuore Cuore Ma proprio meno di un cuore Meno di zero anzi Ciao Kaler, grazie mille per essere passato Non capisco questo amore verso di me oggi Però in realtà un po' lo capisco Noi ci sono bastarde Ti rimangono tipo tutti i pezzi in bocca Servirebbe tipo un mega aiuto, un mega stanzicadente Quindi Perché è la prima live che riesco a seguire il dicembre Allora, se intendi in generale Sono contento Mi sento fiero Onorato, ecco la parola che stavo cercando Se invece intendi mia È semplicemente perché io non streamo da prima del dicembre Però che ho avuto questo adesso Mega F Beccon di scimmia Top tier nicknames Questo è nuovo Quindi season 2 di Rikukun Qua siamo nella season 2 di Rikukun Aiuto Smegmato da Batman Adesso smegmato da Gastron Formalo alla fuoco Ciao, non sono assolutamente Samuele Falce Ciao Riccardo Silvani Chissà che fine ha fatto Sam Allora Muori No, 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 no Lasciami stare Ti do una martellata in testa Basta Farfalle di fuoco Poi mi strelli Non mi veniva il termine Tanto le lumache poi rimangono ferme Non fanno nulla Cazzo Non riesco a staccarmi Dall'ho Ok Volevo fare i crowdstab Infatti Sono soddisfacente Occi delle ove i crowdstab Via Adio Rikukun Secondo te Tra quanto avremo un randomizer Di Twilight Princess? Io direi due anni Buonasera Con questi 5 euro Vorrei comprare di nuovo il posto Nella classifica scorrevole Inoltre vorrei un manuale Per capire i meme della tua community Visto che mi sono perso 4 live di fila E non capisco più un pazzo Ciao ragazzi Nooo Troppo gentile Warner Points Mamma mia 5 euro Buonasera anche a te Vorrei comprare di nuovo il posto Nella classifica scorrevole Allora ragazzi Riguardo alla classifica scorrevole Io pensavo di Resettarla E farla partire da oggi Appunto Non ho avuto il tempo di farlo E volevo anche un po' sentire Cosa ne pensate Cioè nel senso È passato tanto tempo Io vorrei anche tenere In memoria da qualche parte Comunque nel canale O in qualche pagina Di streamlabs O cose del genere Chi mi ha donato Nell'anno scorso La fine Perché si parla dell'anno scorso E poi mettere Una nuova classifica scorrevole Di tutti quelli che Invece mi stanno donando Da oggi Ditemi voi un po' Cosa ne pensate Insomma non voglio Non è una decisione Che voglio prendere Da Da monarca Assoluto Volevo sentire un po' Cosa ne pensate anche voi Così appunto Cioè se uno mi inizia a seguire Da un tot Non deve donare Per forza 20-30 euro Per entrare Nei top donators Cioè comunque sì È il Aiuto Ma io ho qualcosa Per prenderlo Questo Io non ho Non ho look shot Non so se posso Se posso prenderlo O basta il martello Vabbè basta il martello Minchia pensa Se non potessi prenderlo Con look shot Ero qua fermo Davanti al fire dancer Non potevo fargli niente Ecco Sam'sai Ma perché non riesco A fargli un cazzo di danno Cioè il martello Fa meno danno della spada Cioè sì Sì normalmente sì Ma al fire dancer Pensavo facessi più danno il martello Il tuo livello di potenza è 2 Mo ti tiro Ah e vedi Vedi che gli fa un male assurdo in realtà Dopo che gli ho tirato un attacco in salto È subito rientrata Aia Ah no è perché va a fase Deve cambiare colore Ok Eh ma però Ma però Ma però Ma però Crouch Sta bene A Ritchukun piace il piselo No No Io non ho creduto se a te piace il piselo In case Sì Te lo dovrei dire Crepa Aia Aia Il manuale dei minis Purtroppo non c'è un manuale Però ci sono i messaggi fissati Ci sono le emoji del discord A proposito Chi ancora non è sul discord Gli consiglio caldamente di entrarci Perché è qualità È solo qualità Abbiamo il martello ragazzi Fa dritto il fair temple Non abbiamo la chiave del boss Quello è un problema Non potremmo fare volvagia In effetti sapete cosa vi dico Cioè nel senso Fare Adesso a questo punto Fare il fair temple Fino in fondo E fare tipo L'ice cave O water temple È un po' la stessa cosa Cioè Alla fine Guadagniamo la stessa roba Perché Non teniamo il medaglione Perché Perché il medaglione è locato Dietro la chiave del boss E noi se adesso avessimo La chiave del boss Potremmo già fare Volvagia Insomma Sto iniziando a pensare Che è un po' discutibile Fare Fare il fair temple Non lo so Non lo so Boh Diciamo che vado avanti Col fair temple Fino a che non mi viene Un'altra idea Però farlo fino in fondo È inutile Anche perché Non ho Look shot Quindi non posso fare Tutti i check Del fair temple Non lo so Sono abbastanza On the fence On the fence No aspetta No 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 Tornami Ciao crew Buonasera Madatsuki Buonasera Annibale Pardini Annibale Pardini È totale A fine live Si guardano i meme Si Yes Non sappiamo neanche se il fair temple Ha effettivamente Dei Un medaglione Non mi mangiare No 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 Che palle sta stanza Annibale Pardini Oh ma che palle Mollami Muore Niente Ma che palle Senti Niente Non prende danno Nemmeno da quello Niente Io non so più cosa dire Annibale Pardini Non lo so Non sono più tanto convinto Di fare Di fare il fair temple Devo un attimo Organizzarmi Le idee Allora possiamo fare cose Con il martello In effetti Possiamo fare L'ice cavern Deve decidere cosa fare Che cazzo stanza è il temple Allora dai Facciamo ancora Questo pezzo qui Avessi il farores wind Sarebbe ottimo Setterei il farores wind A un certo punto E poi ci tornerei Una volta trovata La chiave del boss Ma in realtà non Non è nemmeno detto Che mi serva a tornare qui Alla fine Il fair temple Del water temple Sono simili Nel senso che Il boss È all'inizio Della stanza E quindi Della prima stanza Quindi una volta che Hai la chiave del boss Basta Cioè Non devi fare il dungeon Il dungeon alla fine È sempre e solo Per cercare altri oggetti E sinceramente Non è che mi convenga Troppo nemmeno farlo Perché Perché in realtà Io potrei fare Il giant spirit Adesso Se io vi faccio Il giant spirit Non fai pensare No forse faccio Faccio fino a che Non sblocco Una scorciatoia Sì Facciamo Oh noce Mandiamo una noce Fammi passare Per farci scopare Per fare altri Essere che moriranno Nel senso della vita Very nice La miglior risposta Che una persona Possa dare Nel senso della vita E' brutto fare E' brutto fare sta cosa Senza walkshot Allora ragazzi Come avete passato Il vostro fantastico Sabato sera Io ho inaugurato La casa nuova Perché Abito qui da ieri Letteramente So che Jerk E' andato a bar In parole sue Ho raggiunto Il next level Del song request Glitch Ora ho fizzato Così combinato Io ho creato Degli albanesi Cypher Ah non ho Benissimo Non ho altre chiavi Ottimo Dobbiamo uscire Ma quindi mi son perso Un check Come ho fatto Scusami Che check ho perso Ahia Ho mezzo cuore Che check mi son perso Com'è possibile Oh mio dio Le principi Sirene Mi son perso Un check Allora Le opzioni Sono due O mi son perso Un check No Non ho perso Check Allora Raga Sapete che cosa Mi sa che tutta questa parte Del fire temple E' chiusa Cioè io credo Che tutta questa zona qui Oltre del fire temple Sia chiusa Dietro delle small key Che non possiamo raggiungere E significa che Quella zona lì Non ha oggetti utili E' interessante se è così Molto interessante Non l'avevo mai visto Il cedere Io ho passato il mio sabato sera Metal gear Ci sta Allora Cosa facciamo Direi che facciamo Child spirit Con il nostro canto Oh sì Qua direi che il fertempo Lo molliamo Facciamo Facciamo un giro a Baron City Facciamo un giro a Baron City E poi facciamo Child spirit Precisamente Ecco che partono I trattori Mi carano le ruspe Ma c'è anche Le mogi della ruspa Perché mi ricordo che esisteva Una volta io ero A casa di mia cugina Abbiamo messo Sigle vecchie Lei ha messo questa Perché era una sigla Della sua infanzia Beh ma Questa sigla qua È bella Cioè non c'è niente da dire Quanti gli skull tool Abbiamo 26 Le live di Rick were back Sì Samuel È proprio così Nuovo 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 look Nuovo tutto Nuova casa E si va Allora Che devo fare Segnare gli skull tool 26 E poi Cavolo ragazzi Se ci manca Giusto lo slingshot Non l'avevo segnato Fatta rucchi grande Non l'avevo segnato Mi sono dimenticato Di segnare un po' di cose Ok Ho detto che dovevo andare A Goron City Ma ho cambiato idea Andrì che torniamo a bambini Alberto Angurioni Ecco che partono i roleplay Ma il mulino Di Calbarico Di Ocarina of Time Potrebbe essere Un indizio sul fatto Che in Twilight Princess No Wind Waker L'isola Taurac Nasce sopra Calbarico per il mulino Aspetta fammi pensare Fammi pensare A quello che hai detto Quindi Il mulino di Kakaiko Potrebbe essere Un indizio sul fatto Che in Wind Waker L'isola Taurac Nasce sopra Kakaiko per il mulino Allora Se non ricordo male Se non ricordo male Comunque si L'isola Taurac È un po' Il rimasto Del Kakaiko Village Però Non lo so Cioè il fatto che comunque È abbastanza vicina A Death Mountain Lo conferma Cioè ha senso Non è possibile Però Beh sapere Ragazzi abbiamo tre medaglioni Ce ne mancano ancora tre Dai dai C'è il spirit Dobbiamo far C'è il spirit Assolutamente Così facciamo C'è il spirit Piazziamo il fagiolo Qui Che adesso Mi servirà Per prendere Un oggetto Che non si riesce A vedere Però E ricordiamo Che abbiamo Abbiamo la stone Vagone Adesso Quindi devo Mettermi a guardare Cosa mi dicono Le gossip Stole Che mi aiuterà Ok Ma Pokémon Rumble Quando esce Togli la tunica Che è quello azzurro Si intona Con i quei bellissimi occhi Adesso Non l'abbiamo scelta Con Childlink Abbiamo per forza Questa tunica Comunque Comunque Siremente La discografia Porno Lusso Dei pendulum E' worth it C'è pure Il giradischi Per sentire I più Needed E feels good Oh no Il mio scudo Vaffanculo Non abbiamo Non abbiamo più Uno scudo Gas 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 Mi sono distratto Metto l'altro scudo Va Qua avere l'energia magica Non sarebbe male Non abbiamo ancora Trovato l'energia magica Gas 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 E' vero no Era dall'altra parte Che c'era Il cosa Scoppia Si si sbloccano così Queste due porte Se non ricordo male Ok Il facciolo Ok Ho bisogno di fare per forza Questa Aiuto Se mi prende con quel colpo Mi ammazza Tipo Ma serio Ok Non sarà facile ucciderlo Senza un decu shield Cioè Senza morire Dato che non ha un decu shield Mamma mia Che pericolo Il danno che fanno Questi cosi E' assurdo E con shield In visita C'è un danno Dai e muori Madonna Ma guarda quanto è resistente Oh là Bene 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 Qua mi metto sul bordino Eh già Un giorno diventerà uno di loro Circa Aiuto Boschi di Ganon Castle Ok Questo ci sarebbe per finire il gioco Quindi ottimo 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 Segniamo Ganon Tower Buonissimo Questo ci serviva Volevo fare tutto Il late game A cercarla Quella cosa Abbiamo il Lanubili Con la statua Strada Ancora finisce la live Quando finisce il gioco Dobbiamo finirla tutto Ragazzi Ce la facciamo Ce la facciamo L'unico problema E' il cibo Perché a un certo punto Mi dovranno tenere Se non ci fosse il problema Cibo Sarebbe facilissimo Però è Il fatto che devo mangiare E' arco Io vorrei finire un altro dungeon Se riuscissi a finire un altro dungeon Sarei molto più tranquillo Con la tabella di marcia E' anche vero che però Non sappiamo dove sono Altre due Spiritual Stone Quindi è facile Che adesso finiamo Lo Spirit Temple Ma non so se ce la facciamo Perché non abbiamo il Mirror Shield E poi scopriamo Che è una Spiritual Stone E che cavolo La ricompensa Allora Dammi Dammi Quella scottura Ce l'abbiamo Già mi pagiato Sì Mi servirà a rilassarmi Perché è impegnativo Davvero impegnativo Quindi è tutto un seed In una seduta Ma ce la voglio fare Gas 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 Tanto il scudo Me l'avete già bruciato Maledetti Devo ricordarvi di segnare le chiave Tra l'altro Che non è bravo Che figa sta canzone ragazzi Grandissimo Chiunque l'abbia messa Possibile che io metto Il maglione E ho caldo Lo tolga E ho freddo Comunque Ah non ho la chiave E quindi E quindi No scusami Ok 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 ho capito Quindi vuol dire che Ok Niente vuol dire che abbiamo bisogno del long shot Cioè per continuare nello spirit temple Abbiamo bisogno per forza del long shot Per fare il fair temple Abbiamo bisogno della chiave Del fair temple Quindi adesso Devo pensare a cosa fare Devo pensare in fretta a cosa fare Allora fammi vedere cosa possiamo fare con Con child link Possiamo andare da malon Targeting boots Ok Non voglio andare da jabu Non voglio fare jabu Però possiamo fare altro Senza look shot Mi sto Mi sto un attimo perdendo Non so più che cosa Non so più che cosa Che cosa cercare Cioè ho scelte Non è che non ho scelte Però devo Devo decidere bene Magari si strappi le maniche del maglione E ti ne vedi mezzo E stai a posto Che ho caldo Ho caldissimo Ti giuro Ho caldo E mi ha dato il boom E anche per un motivo Sto pensando ai vari templi Ma non sa che Mi sa che dovremmo optare per quello Allora lì c'è una gossip stone Vediamo cosa ci dicono Le gossip stone Vediamo Hermen Gildopardi Marco Patti Oh ho preso 28 Siamo a 28 Ok Vogliamo vedere Knidate in effetti E che Knidate mi da solo uno Zara Sapp Schick Dispelled Barrier Around Ganon's Tower What? Cosa vuol dire? Ah vuol dire che non ci sono Vuol dire che non ci sono Ganon Trial Perché il numero di trial di Ganon è casuale E quel messaggio delle gossip stone di solito vuol dire che non ci sono Ganon Trial Devo interpretarlo così Potevo sceglierne una migliore però di canzone Va bene Allora puoi fare Malon Per Fire Arrow si fa Gioli qui allo Spirit Temple Epona e Gerudo Fortress Allora Gerudo Fortress non posso farla Perché per andare a Gerudo Fortress ho bisogno o di Epona E non c'è non ho il primo sonoro O Longshot E non nemmeno Lookshot Quindi adesso andiamo Adesso andiamo da Malon Prima cosa Poi andiamo Da Child posso fare altro? Sì posso Devo andare alla Zara Fontaine Però non voglio andare in Jabu Cioè ma sei fuori Tutto Jabu devo fare No Jabu no Cioè Facciamo Piuttosto Facciamo Spirit no Shadow no Fire no Water no E non posso fare niente Devo trovare qualcosa che mi sblocchi in un dungeon Quindi mi sa che dovrò fare Jabu Zero Fontaine e Jabu Il mio piano di sparare nomi con il pardini sta funzionando Sì mi farà sempre ridere Siamo qui in every day Sì posso anche fare Lace Cave Però non ci sono tanti check Lace Cave Sono comunque posti molto Vuoti Cioè anche Anche Jabu Non ha quasi screen Cioè veramente Ha pochissimi screen E quindi io preferirei fare cose Adesso vediamo Ok dammi check Cosa mi dai? Ah carina Madan Canon e noi ci sposeremo Madan Link intendo Ok Mario Mario Pardini Anche Sì Oddio Sta canzone Che figata Emolgela Il remix che c'è su Ultimate Bellissimo No bellissimo Mi sa che non l'avevo mai sentita Davvero figa Allora Giusto Vediamo che cosa c'è qui Field North Long Long Rotto Allora dobbiamo vedere che cosa c'è qui Così ce lo leviamo dalle palle Come c'hai Deve non posso fare altro? C'è C'è il vaso maledetto C'è Dov'è a proposito Questo buco Qui? Non mi ricordo Ah no è lì È lì È lì Sennò Possiamo No diventiamo adulti Diventiamo adulti Via O facciamo Jab Ok proviamo Proviamo Jab Sicuramente passo dalla Zora Fonte Ah no Non c'è un ca No devo Devo beccare quel C'è un buco nascosto Dovrebbe essere Attaccato a quell'albero là Sì Ok Io dovrò ordinare la pizza Tra l'altro Se no rimango senza mangiare oggi Quindi qua possiamo vedere che oggetto c'è Una bottiglia Ok Non ci serve Con dentro? Cos'è? Non capisco Ah mi sa che è un Ice Trap Mi sa che è un Ice Trap Perché io la lettera di Ruto ce l'ho già Quindi dovrebbe essere un Ice Trap Quella Ora che canzoni abbiamo Un polero Abbiamo la Serenade Ok insomma la Serenade Quindi Serenade E vado E vado a E vado a Zona Fonte Peccato Non volevo fare Jabu Peccato peccato Vuoi di tanto poter stare qui E guardare la live fino alla fine Ma è un problema Se verso le 21 21.30 scappa È stato proprio un impegno Ma figurati Potrei comunque dare un'occhiata A Plotron Miss Mentre sono fuori Anche se non guardo la live Comunque i ragazzi Stanno facendo di bravi A parte qualche pic No dai Fidiamoci di tutti Ragazzi avete sentito Mi raccomando Quello che postate Free deve Usare il suo Mr. Free Tempo libero Secondo me Ricco è il figlio Il legittimo Di Pardini Il legittimo Wow Cosa che era Il negozio segnato L'unico negozio che ci serve È quello Del market Che ci vende Le pozioni Ma io ho controllato Il bonchus shot Sì Sì non c'era Niente Ok Ciao ultra Grazie Bentornato anche te È un po' Ok sono contento Perché non ci sono Ganon Trials Allora Perché quel messaggio Delle Gossip Stone Ah a proposito di Gossip Stone Ma ci sono Gossip Devo ricordarmi Di leggere le Gossip Stone Cavolo Treasures drawn by Princess Zelda Is a huge rupee Benissimo Quindi non ci serve Niente Ottimo Quindi sappiamo Che il tesoro Che lancia Zelda Quindi ottenendo Tutte e tre Le spiritual stone Non serve Niente Lo possiamo togliere Grazie Gossip Stone Ecco sì Per il discord Basta appunto Slamativo discord Sono un babbo Non ho preso il pesce Quindi adesso devo tornare indietro Non posso entrare indietro Ah però lì c'è una rossa Andiamo 50 Perfetto Non dobbiamo fare i 50 Goal Skull Tulla Questo è importante Mamma mia Questo è importante ragazzi Quindi al massimo Dobbiamo farne 40 Per avere il portaruppio Più grande Bene bene Eccole qua 50 50 Skull Tulle Tolte Giuseppe Non ci servono Sì veramente Proprio nel momento esatto Questa canzone Outline Miami Dekunats Benissimo Frogs from Zora River Non dobbiamo farlo Quello è un check Terribile Quello è veramente Il check più palloso Del gioco Quello in cui bisogna Suonare la canzoncina Alle rane Questa invece Dobbiamo fare Ce l'ho fatta Allora Quindi togliamoci Dalla checklist Le rane Perfetto Rest container Ok Dobbiamo entrare in jab Mi sa Perché se non faccio Jabu Cosa posso fare Posso fare Il memory game Posso fare Da child Non posso più fare niente Mi sa Posso solo fare Jabu Quindi facciamo Jabu E togliamoci Dalle palle Childling E poi diventiamo adulti E facciamo tutto Free puccia Stasera Mi devo concentrare Adesso Per organizzarmi Bene tutti i check Che sta diventando Complesso Sto seed E' partito Molto molto bene Abbiamo Aperto Praticamente Tutto Adultling Però Poi non abbiamo Più Non abbiamo più Avuto opzioni Praticamente O puccia O viene pucciato Apri Decidi Tu Mi raccomando Decidi bene Oh stick Mio E quindi Facciamo Jabu Non è che ho Molte altre Opzioni Nel senso Anche se Diventassi adulto Adesso Letteralmente Tutti Tutti Dungeon Non ci posso Entrare Tutti Perché non ho Longshot Perché non ho Lookshot In generale Quindi non posso Fare né Forest Temple Né Water Temple Per Fire Temple Devo aspettare Di trovare La Fire Temple Ma uguale Per il Water Temple Sostanzialmente E che il Water Temple Invece è necessario Poi Cosa abbiamo Abbiamo Lo Spirit Che abbiamo detto Che abbiamo bisogno Del lookshot Anche lì Quindi dobbiamo Trovare lookshot Se troviamo lookshot Ci sblocchiamo In tutto Quindi Jabu Possiamo finirlo Ma se Jabu Lo facciamo al volo Volendo L'unico problema È che Non volevo farlo Jabu Perché appunto Sono pochissimi Check Sono davvero Pochissimi Check E Ha una Spiritual Stone Come Ricompensa Quindi Cioè proprio Siamo sicuri Che non Beccheremo Quasi niente Cioè Forse avrei fatto meglio A ignorare Completamente Jabu E andare Verso Death Mountain Con il martello Perché Lì avremmo Potuto ottenere Roba In piacere Cioè Nel senso Anche qui Possiamo trovare Roba Poi ci sono Gli Scoltulla C'è Roba Da fare Insomma Jabu Avrei preferito Non farci male E' stato davvero Figo fare tutto Il gioco Senza Toccare Jabu E spero di non Toccare tipo Il bottom of the wall E cose simili Ma lì c'è qualcosa Non mi ricordo mai No Non c'è niente Non ci sono c'è Ora andrò Un po' In modalità Concentrazione Ragazzi Leggerò meno La chat Perché ho bisogno Di arrivare A un punto Del seed In cui dico Ok Adesso ho in mente Cosa fare Perché devo iniziale Devo fare dungeon Ragazzi Devo fare dungeon Non c'è verso Non posso rimanere Non posso rimanere Tutto il tempo A cercare check Nell'overworld Ad aspettare Di trovare L'hookshot Cioè perdiamo davvero Un sacco di tempo Quindi devo trovare L'hookshot Cioè Con l'hookshot Mi butto proprio dritto Nel 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 Stiamo facendo Jabu Perché non abbiamo Altre opzioni Di fare dungeon Però come vedi Qua sotto Jabu ci dà Una pietra spirituale Non ci dà Un medaglione Quindi È inutile Farlo è inutile Lo stiamo facendo Unicamente Per trovare L'hookshot Praticamente Cioè se c'è L'hookshot Qui dentro Siamo messi Molto bene Vuoi skippare La decima canzone Beh Quando arriva La skippo Non vado a cercarla Per toglierla Il piselo Eccolo qua Il piselo Cancelliamo i piseli Ehi Vieni giù Piselo Il cancela piseli Lo sono anch'io Adesso Hai già fatto L'amore O ti serve Un tutorial Ma Wind Waker Rando Con la skin Di Sans Sì l'ho visto Il tutorial Per free Che bello Già visto Già visto No Questa stanza È inutile Non serve a niente Che bello L'urlo Di lingo Ah no C'è una chest Ah ok Non è inutile Allora Buono 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 E questo sarà Un hookshot Ovviamente Immagino Basta Basta però C'è solo No ragazzi Se faccio tutto Jabu E non c'è niente E non c'è niente È brutto Sapete forse ho commesso un grave errore qui secondo me Io avrei dovuto Sapete cosa Avrei dovuto farmi tutto Tutto il giro di tutto Per leggere tutte le gossip stone Secondo me è quello che dovevo fare Adesso Questo Se a Jabu Non c'è niente Se dentro a Jabu Non c'è niente E poi scopro Da una gossip stone Che me l'avrebbe detto Sono È Veramente Veramente Un grave E Non vorrei Che fosse così Perché le gossip stone Possono dire Quali C'è Quali Quali location Non hanno niente Quindi È È possibile Che in giro per Iron Ci sia Una gossip stone Che mi avrebbe detto Guarda che Non c'è un cazzo Ho già Mirror shield Perfetto Niente Mi rimangio tutto ragazzi Dovevamo venirci qua dentro Boh Perfetto Io sono Sono contentissimo Sì Bello Bello Bene Bene Vuol dire che Qui ci dobbiamo Venire Perfetto Nero shield Ragazzi Questo seed Si è appena Trasformato In Ottimo Da Merdoso A ottimo Perché vuol dire Che qui Non ci dobbiamo Venire Ok Non mi basta Andare al rumore Del silver rubis Però Armando Perdini Pietro Perdini Giovanni Perdini No no Fiselo Non mi attaccare Fiselo Verde Fiselo In realtà è un po' Di tutti i colori Non è solo Verde Non so P0 colorato Ciao Magic Mitch Mi siete mancati Tutti quanti Illy SM Se c'è un acronimo Spiega Alessandro Pardini Ci siamo mancati Un sacco Tutti Ma ora Siamo tutti Qui E dobbiamo Finire Questo gioco Ragazzi Che è il nostro Piazio Ok Qual è Il buco Qual è Il buco È questo Il duco Non ricordo Doveva essere questo Sì è questo Ok Stattemi due Scultuna Everyone is here I love you so much Non è Ok Non sono così esperto Con gli acronimi Ragazzi Bentornata Magic Mitch Siamo tutti qua Chi è che manca Manca Sprassel Sprassel Purtroppo Non poteva esserci Oggi Pige Anche tu È vero Cioè Mi eri scritto prima Ma Modora Lo voglio giocare Mi è messo troppo curiosità Dai ragazzi Buono 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 Sto seed Dai Cazzo Vi è tornato Il mirror shield Ci stava Dovevamo venirci Comunque Quindi a sto punto Sti cazzi Se mi dà uno spirito A sto dungeon Va bene Mi interessa Se c'è anche Lookshot Ragazzi Cioè Se qui dentro Troviamo Lookshot Basta Eh lo so È sta canzone Che è un po' alta Adesso Adesso la passo Appena Appena uccido il bigotto In colpo Poi abbassano Luigi Pardini E anche Giacomo Pardini Giovanni Pardini E Aldo Pardini Mettiamo Gli stick Ti dico Ti do un Un bastone Nel sedere Madonna Che proprio Esplodi Adesso Caro No no Dovevo aspettare Oddio In un colpo Eh ragazzi Con i Deku stick Muore in un colpo Il bigotto Che impegno Questo mini boss Mamma mia Hai visto il nuovo film Di Aldo Aldo Giovanni e Giacomo Hanno fatto un nuovo film Qua non c'è niente Ragazzi Siete pronti a Knidare? Siete pronti Per Knidare? Oh mio dio Sta canzone Siete pronti per Knidare? C'è mancato Knidare Aldo Aldo da solo Ne ha fatto uno Aldo Giovanni e Giacomo Ne hanno uno già pronto Ah Aldo ha fatto un film da solo Serio? Devo prendere E la scatola E la scatola E la scatola In-in Andiamo nel nostro amico Knidare Il blog di Giuseppe Sei tornato Everyone is here Bentornato Bentornato Allo stream Allora Vediamo Vediamo le palle Dammi lo scultura Siamo a 31 Allora Io Arrivo a 40 Perché a 40 Non è che ci dobbiamo arrivare Però ormai siamo a 32 Va bene Andiamo a 40 Così otteniamo un altro Un altro Porta rupie Con il porta rupie Possiamo Comprare la boschi Del fire temple Se non ricordo male Era del fire temple E quindi Tattico Perché Non mi ricordo Se era del fire temple O del water temple Mi sembra water temple Si era water temple La chiave che Possiamo comprare Ragazzi Siete pronti? Eccolo qui La pommin Si sta sovraccaricando Eccolo qui Knidare Ragazzi Knidare Ciao Barinei Molto più figo Barinei Comunque E poi detto così Barinei Barinei Figo Fammi mettere le noci Che faccio la InstaKid Non è vero Devo dire Cioè InstaKid Molto più veloce Con le noci Da fare No Mi mancava una Vabbè Si con le noci Si possono fare Tante cose Comunque Barinei Barinei Da fare Da fare Secondo me Cioè Cioè Questo coso gigante Che ruota Troppo bello Dove è Ah cavolo Sbagliato Porca E poi Dando il doppio Comunque Non è che faccia Tutto sto Grand Che figo Ma è Troppo figo Questo è per Magari è già Stato chiesto Ma ora si torna i vecchi Orari delle live Mercoledì e sabato Non lo so ancora Sterzili Devo ancora Decidere bene Lo schedule Fatemi riprendere il ritmo E voi saprete tutto Un frammento di cuore Mamma mia Che merda Quindi effettivamente Che mi date Non serviva a niente Il miglior boss Rimane alla pianta Di The Wind Waker Che muore bagnandola Con la piscia Dell'albero Deku La piscia Comunque Fa senso Vedere Riku Da quando Da quando facevi L'elementario Ed ora Stai iniziando A studiare Per il diploma No Non sto studiando Per il diploma Io Lavoro da tre anni Caro Samuel Non so Da dove ti è uscita Questa cosa Comunque Quindi Allora Dobbiamo organizzarci bene Quindi abbiamo fatto Jabu Cosa possiamo fare Possiamo Fare Che diventiamo adulti No Sai cosa facciamo 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 così Facciamo un save warp Quindi save warp Ah sta studiando lui Ok niente Ho letto Ho letto male Scusami Samuel Sto iniziando A sentire Le tre ore E cinquanta Insomma Comunque Mi fa piacere Allora Ho capito poi Gerg mi stupi Ma che cazzo è Scelte musicali Raga schifo Ovviamente Cioè E' tipo uno Che va in macchina Di formula 1 Ma per favore Esatto Adesso faccio Lo carina minigame E poi divento adulto Scelte musicali Mio dio Ma poi era anche Ad alto volume Nessuno mi ha detto Niente Come non ti guardo Blog di Giuseppe Sto esattamente Guardando il tuo messaggio Ah ma qua c'è una Gossipstone Attenzione Gossipstone Cosa mi dici? Eh ma me l'hai già detto Me l'ha già detto Un'altra Un'altra Gossipstone Quindi Ocarina minigame Sì Ocarina minigame Forza Ragazzi Sapete un'altra cosa Che dovremmo fare Da Childlink Che è una merda Ma queste le maschere Ma queste le maschere Non la voglio fare Non la voglio assolutamente Oh Sali su sto tronco Porca miseria Oh è la Song of Storms È la Song of Storms E Riku Comporti LOL Luxanna Io non gioco LOL E In ogni caso Io gioco a Dota E Portarlo in live È una cosa che voglio fare Molto raramente Perché Non è un gioco Con cui riesco A intrattenere come vorrei Quindi MOBA Ne vedete ben pochi Su questo canale Ciao Gabbiano Bussola dello Shadow Temple Che contiene Lo Shadow Medallion Perché Certo Tutto vanilla Quindi Water Medallion Water Medallion Nel Water Temple E Shadow Medallion Nello Shadow Temple Figuriamoci se c'era Uno Zora Sapphire Ah tra l'altro Che pietra abbiamo ottenuto Da Da Jabu Abbiamo ottenuto Lo Zora Sapphire Quindi anche quello vanilla Cioè ci sono tre Medallioni O pietre spirituali Vanilla Incredibile Sto pensando Ok Siren of Water Comunque come va il seed Ok Diciamo che va ok Nel senso che abbiamo Siamo partiti già con un medaglione Ed è figo Tra poco sapremo dove si trovano Tutti i medaglioni Quindi sarà molto molto più facile Giocare Nel senso Al momento Non sappiamo che cosa c'è Nel Forest Temple Nel Fire Temple E nello Spirit Temple Se riuscissi a trovare La chiave del Fire Temple Adesso Sarebbe il Il secondo oggetto migliore Che potrei trovare Il primo è l'Hookshot Sicuramente Perché senza Hookshot Siamo abbastanza bloccati Al momento Hookshot E Magic Meter Quelle due volte che portasti dot Sembrava parlare Una lingua stradiera Eh sì È abbastanza Diverso Come gioco Quindi ce la voglio portare in live Che ne pensi di Crash per Switch Beh Esattamente come Crash Su PC Nel senso Io sono contento Che sia arrivato su Switch Perché è Sicuramente un pubblico Che apprezza Crash Quello Nintendo Lo sto giocando Diciamo Non attivamente Ma lo sto giocando Sul PC Cioè Crash Mi piace Non c'è niente da dire Buongiorno Io non volevo parlarvi Però Potemi passare Ok La quest delle maschere Si fotte Sinceramente Cioè Mi sparo Se devo fare la quest delle maschere Vediamo cosa mi dicono Queste gossip Plundering Haunted Wasteland Is a foolish Foolish choice Ok vabbè Haunted Wasteland Mi dice poco In realtà Nel senso Ho capito cosa mi vuoi dire Adesso ve lo spiego Giro the training grounds Is on the way of the hero Ok Dobbiamo fare training grounds Questo lo sapevamo già Ok Ok Quindi da queste gossip stone Abbiamo scoperto Che Dobbiamo fare Gerudo training grounds Che Per chiaro Non è strano Che bisogna fare Che sia necessario Fare Gerudo training grounds Va bene Quindi Appena abbiamo Epona song O long shot O Lens of truth Possiamo fare Gerudo training grounds In realtà no Ci serve Il gerudo Gerudo Trick ticket Lì come si chiama Mother father Ma davvero Rap Romeo Che merda Crash in live Non lo so Vediamo Cosa dobbiamo fare Adesso Quindi Abbiamo deciso Cosa facciamo Adesso Una settimana Quattro Ora Sei minuti Sbagliato Non dovevo fare Questo Comunque No Voglio fare Un check veloce Facciamo Facciamo Per vedere Che cosa c'è Qua sopra Con la pianta Che abbiamo Coltivato Con tanto amore Ecco che torna Rayblender tube Con Gino Bentornato Ma qua c'è Una sculptura Normandese Va bene Non mi interessa Tanto non mi servono Più così tanti Sculptura Oh Quello è Un'espansione Della fionda Mi sembra Scusa Cazzo Vabbè Mi devo fare Il giro Non ho capito Se No Molla Eh no È un Portarupie Ottimo Ragazzi Vuol dire Che non dobbiamo Più toccare Sculptura Se quello È È un Portarupie Ovviamente Ovviamente Ma ti pare È chiaro Che deve essere Un'estra Allora Adesso Andiamo A No Volevo suonare Requiem Volevo suonare Il bolero Gino Pardini E Ugo Pardini Cos'è Ermetopede Pardini Allora Bolero Andiamo A Goron City Che abbiamo Il martello Possiamo fare Cosa Final Boss Battle Team Di Sarà di Skyward Questo Però Però Non abbiamo Luck Shot Quindi Devo Prendere La pianta Ah Fez No Fez È tosto Fez È bello Tosto Non ci arrivo Sì Ci sono Arrivato Bene Fez È un gioco Meraviglioso Comunque Davvero È praticamente È un puzzle Gigante Cioè Non è un gioco Fatto di puzzle È un puzzle Gigante Meraviglioso Hai preso Super Smash Per lo sentire Non la vedete Fuori dallo schermo Però sì Ho preso L'ultimate Grazie Great Fairy Per l'ice Traff Comunque Grazie mille Per questa Ice Traff Ok Possiamo fare Qua ci sono Tre DQ Scrub Ottimo Questi Ci daranno Qualcosa Beh Buon l'ami Mi è piaciuto Arcibaldo Pardini Sì È davvero bello Fez È davvero bello E ti consiglio Di non guardare nulla Su Google Perché effettivamente È un gioco Che si basa Solo Sulla Soddisfazione Di scoprire Cose Basta Ice Però Kai Pure tu Pure Kai Mi spara le Ice No È di Smash Ultimate Non è di Skyward Degonuzzi Mangiamo Sinceramente Non ho fame Quindi con tutte le noti Que sto mangiando Credo che mangerò A cazzo Questa sera Non ottenerò Una pizza Tipo Continuo a giocare Fino che non finisco E poi mi mangio qualcosa Se mi viene fame Quindi abbiamo fatto questo A Goron City Possiamo fare Oh Allora Il tracker mi dice Che io posso fare Posso prendere tre check Dai business club Ma io non ci credo Secondo me non è vero Hai ragione Ijigak Devo bere più acqua Me lo consiglio anche Anche Nightbolt Le donne sono Un errore di programmazione Di dio Killer Kai Ma come Sono un coglione Devo mandare in altro Ma come fa Allora Secondo me è sbagliato Questa cosa nel tracker C'è un errore nel map tracker Che mi dice Che potrei andare A beccare I tre I tre Deque scrub Qui a Goron City Ma ho bisogno del long shot Della song of time Non vedo come si possa fare Senza Magari ci si può andare Con la tunica Ma no Qua si sprofonda No non si può fare Senza Senza long shot Zio Hai sbagliato il tracker Ok Tra l'altro non abbiamo La song of storms Quindi dovremmo rifarci Anche tutti i check Delle song of storms Con falle Qua c'è un check Quindi immagino che questa Sia la canzone Della spinale Di smash ultimate Da quello che ho capito Si si può fare il crouch Stab anche col martello Che figo Ciao rica Wow bella merda Ok quindi Pensiamo a cosa fare Allora la cosa più utile Che possiamo fare In questo momento È leggere le gossip stone Letteralmente Perché sennò Possiamo andare Nell'ice cave Ice cave Altrimenti Non è che abbiamo Molto altro Ormai Mi sa che Mi sa che faremo Ice cave Ice cave Perché sto Scendendo a cacarico Allora Perché sto Scendendo a cacarico Andiamo All'ice cave È che non ho Una cazzo di Canzoni per Teretrasportarmi Quindi niente Devo scendere da cacarico Va bene Raga Siamo davvero Cioè Siamo a un passo Da sbloccarci Perché abbiamo bisogno O dell'hookshot Di uno dei due Hookshot Qualsiasi Oppure Della chiave Del fair temple Cioè Con una di queste due cose Ci sblocchiamo Cioè nel senso Una volta che facciamo Volvagia Poi capiamo Come giocare Perché Se facciamo Volvagia Capiamo Se dobbiamo fare Il forest temple O lo spirit temple E quindi è Completamente diverso Giocare Un uccellino mi ha detto Che hai skippato La mia canzone Mentre mangiavo Canzone Dicidiale Non hai segnato Fionda e Boomerang No lì no Io ho segnato Fionda e Boomerang Le bottiglie pure Waza Come Non le vedi Ma si Ci sono Questa è La battaglia finale Di Bowser's Inside Story Remake Tra l'altro Ma io ci sto facendo Un pensiero Su comprarlo Perché Bowser's Inside Story Mi piaceva davvero tanto No Questa non è No Non è la versione Del remake Questa qui È fatta da qualcuno Che figo Vulvagia Fichissima Questa versione Però È una delle battaglie Boss più Dei temi Delle battaglie Boss più Intense Di tutte Tipo No eh Non possiamo avere Le cose Delle Ok Quindi niente Ci tocca Fare la escape Ma Fammi pensare Se io sto Mi sto dimenticando Qualcosa Cioè Mi sto dimenticando Qualcosa A me non sembra A me non sembra Non sembra È semplicemente Che ho bisogno Di Di trovare Lookshot Se non trovo Lookshot Non faccio un cazzo Flandering water O sul fire temple O sul fire temple Avrei dedotto Che lì Ci sarebbe stata Anche una pietra Spirituale Però sappiamo Che nel water temple C'è il medaglione Dell'acqua Quindi Possiamo Possiamo Entrare nel water temple Con il long shot La chiave del boss E andare dritti Dritti A fare morfa Quindi praticamente Il water temple Lo possiamo Praticamente ignorare Cioè Entriamo una volta Che avremo Il portaruccio Più capiente Per comprare la chiave Il long shot Andiamo lì Facciamo morfa E usciamo Questo vuol dire Che abbiamo un dungeon In meno di cui preoccuparci Molto bene Niente water temple Inside story Per switch No Il remake di Bowser's inside story È su 3ds Comunque Sì ho saputo Il nuovo presidente Di nintendo Che si chiama Bowser Allora I punti di domanda Sui Medaglioni e pietre Sono I Identificano I medaglioni Ok Quello è un Frizz Un Frizz Non mi serve Non vado a prenderlo Neanche Non per il tempo Servono Identificare Le pietre E i medaglioni Che ancora Non sai Che cosa contengono Perché Le bussole Danno Guardate Adesso ti faccio vedere Capisci subito Le bussole Danno informazioni Vedi che dove ho la bussola So che medaglione c'è Tranne nel bottom of the well Perché non c'è medaglione Né niente Nel breath of the wild E quindi sappiamo che Nello shadow C'è Lo shadow medaglion E nel water C'è il water medaglion Tutti gli altri Non sappiamo che cosa contengono Quindi li teniamo Con il punto di domanda E' importante sapere Se c'è un medaglione Se c'è una pietra Perché vuol dire Che quello è necessario Da fare o meno E soprattutto Cioè non soprattutto Ma anche Perché Se E' una pietra Non importa Quale pietra sia Mentre se è un medaglione Importa Perché ci sono medaglioni Che danno dei check Tipo Ma a proposito Noi abbiamo ottenuto Il check Per forza Sì Non possiamo averlo evitato All right Non ho l'hookshot Quindi quello Non posso prenderlo Questo è un peccato Non scultola in meno Perché eravamo già qua Ripesi del remake Di Lens Awakening E di Super Mario Maker 2 Allora In generale Quei due giochi Sono gli unici Che mi sono interessati Di tutto il direct E Questo dice qualcosa Perché secondo me Non lo so Sono molto picchi Comunque Non prendete La mia opinione Come Oggettivamente valida Però a me Avrebbe fatto molto più piacere Un gioco nuovo Cioè che Un Mario Maker Ok È perfetto per la Switch Nel senso È davvero perfetto Per la Switch Però Un titolo nuovo Addirittura Io Nel senso Questa cosa L'avrei gestito Come port Al posto di tanti altri port Che hanno fatto Tipo Iron Warriors Tipo Mario Kart Per cui invece Un seguito Non è caso di Mario Warriors Ma di Mario Kart Un seguito sarebbe stato Molto meglio Mentre il Super Mario Maker Alla fine Cioè oltre a qualche feature in più Che avrebbero potuto benissimo Aggiungere Dal port Cioè Facendo il port Avrebbero potuto benissimo Aggiungere delle feature nuove E sarebbe stato molto meglio Mentre un Mario Kart Cazzo Un titolo nuovo È tutta un'altra storia Cioè Sarei stato molto più contento Con appunto Un titolo nuovo Di Mario Kart E un port Di Super Mario Maker Perché Mario Maker È perfetto Per la Switch Ma davvero perfetto Il fatto che Ci sia un nuovo Zelda All'orizzonte Ovviamente Cioè Io sono stracontento Ma uno nuovo Sarebbe stato Molto meglio Di quello vecchio Cioè Sinceramente E quindi Niente Io sono contento Per questi due giochi Li comprerò entrambi Sono contentissimo Però Insomma Un gioco nuovo Di Zelda Anziché un remake Sarebbe stato qui Poi io non ho giocato A Link's Awakening Quindi Comunque È tanta roba Perché gioco un gioco nuovo Di fatto Quello è un vaso Sì Ok Cioè Di fatto io giocherò Un gioco nuovo Però sapendo che è un remake So che non verrà fuori niente Della storia Per esempio O di meccaniche di gameplay Che nessuno ha mai visto Cioè Non ci si può aspettare Qualcosa di nuovo Capito Quello è il fatto Non è il fatto del remake Che mi sta sul cazzo Il fatto che faccio il remake Perché comunque Per me è un gioco nuovo Link's Awakening E non l'ho mai giocato E sono tra l'altro Molto curioso Di vedere com'è Per giocarlo anche In randomizer Perché Esiste il randomizer Che è un'altra cosa Che basta Questa community vive di abitudine Ripetizione Free Mi fai morire Free è troppo wholesome Qui è veramente una persona Dolce Voletegli bene Vogliategli bene Anzi Spero di comprare Switch a dicembre Perché necessito di Zelda Animal Crossing Spero anche Un attimo che devo schivare Le sieghe di ghiaccio Spero anche che non muoia Appena la compri Come è successo con Wii U No Switch credo che avrà Ancora un Bel futuro davanti Insomma Ragazzi abbiamo Metroid Prime 4 All'orizzonte Non credo che Uscirà Non credo di morire La console Metroid Prime 4 Uscirà sulla prossima console Anche perché Uscirà un'altra console Cioè Al momento Non credo che Nintendo Abbia tutta sta voglia Di fare un'altra console Con tutto il successo Che ha fatto Switch Questa è una bomba Che merda L'avessi visto prima Non l'avrei Non l'avrei sciolta Vabbè Spendiamola dai Sei un ice trap Edo Ok no Sono in range Sono proprio a pelo No no Ce la faccio Ce la faccio Ma cos'è sta canzone Ragazzi Noce Mangiamo Oggi vivo a noci Ciao flag Giuseppe Devevi un pirla Giuseppe è la persona più Chad Che abbia conosciuto Ok abbiamo maxato Le rubie Dove devo andare Di qua Ma cosa è sta canzone ragazzi Ma davvero No ragazzi Mi sa che stasera La pizza non la mangio Cioè Vado proprio Commando Dritto A giocare A Ocarina of Time Quando finisco Finisco E mangio Sali Ma io Non sto beccando un cazzo Comunque Cioè io Non so più cosa provare Sinceramente Se non trovo niente Nell'Eiscape Cosa faccio Giuseppe Cosa Cosa ti Prendi Blog di Giuseppe Cosa 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 non va Dimmi tutti i tuoi problemi Sono qui per te Una canzone di Ejigak Non farmi domande No mollami Eh Pure Pure le ice trap volanti L'hanno inventato adesso Mori Mori Bravo No Vabbè Si cazzi Non ho tempo Di girarmi Un pb E più importante Di funzioni vitali Basiche Certo che ti voglio bene Però FNAF FNAF È una relazione Di amore e odio Praticamente Sono in una relazione Di Una relazione abusiva Con Dota E FNAF Non è vita Tu il rover non lo fai Certo che faccio tu il rover Ragazzi Ovvio Ma Non ho niente Per fare Porca puttana Ciao blocco Non ho Non ho I requisiti Per fare Lo spirit temple Adesso Mi serve Il longshot Una merda Non credo Mi serve per forza Il longshot Ma lookshot Sì No mi serve il longshot Per forza Mi serve anche il longshot Senza longshot Non si arriva Raga Io odio sta cosa Io adesso faccio Il bomb power Mi interessa Cioè lo so fare Faccio bomb power Odio sta stanza Ok Ma ce l'abbiamo Far Riku Cos'è una persona Chad Come non lo sai È un maschio alfa Facile Io sono maschio alfa Giuseppe Sono tutti qua Dai Pure le ice trap Che scutano Il pene Che scuta Mamma mia Eccitazione Quindi ok Adesso abbiamo Due check Qui Se non troviamo Un cazzo È un problema È un problemino Di ice cavern Fatta Ah abbiamo Abbiamo anche il check Sul lago Sul fondo del lago Un po' di check Abbiamo tre check Dai raga Uno dei tre Sarà un hookshot Per favore Sarà un hookshot Eccolo Qualcuno Vi prego Qualcuno Clippi sta roba Cioè No vabbè E poi un ice trap Giusto Ok Abbiamo l'hookshot Ragazzi Andiamo a fare Il bello step O lo spirit Al qualunque Ragazzi Se questo non fosse stato Un hookshot Non avrei più saputo Dove Giocare Cioè veramente Non dove cercarlo Ma dove andare Perché senza hookshot Non ci muoviamo più Finalmente abbiamo L'hookshot Ragazzi Mamma mia Oh via Comunque abbiamo Appena finito Di sentire I colpi clani Oh bella Questa Grandissimo Chi è che la chiesta Free Grande Allora andiamo giù A prenderci Questo fantastico Oggettino Abbiamo un minuto Per avere Il fondo Del lago Senza morire Non negate Una bussola Sì 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 Una bussola Informazioni Informazioni Le bussole sono Informazioni Molto utili Fire Temple Goron Ruby Oh Bene Raga Ok Molto bene Cioè Molto bene No Poteva andare meglio Però Vuol dire Ragazzi Che la chiave Del Fire Temple Non è un oggetto Necessario Quindi siamo Sicuri No Non siamo sicuri Di un cazzo In realtà Quindi Il problema Ok Vi spiego il problema Ok Il problema È che Adesso Noi non siamo Sicuri Se il prossimo Tempio che faremo Avrà una pietra Spirituale O un medaglione Ne abbiamo scartato Uno Però abbiamo scartato Quello meno impegnativo È quello il problema Cioè Se io adesso Faccio Lo Spirit E credo che andrò A fare lo Spirit Temple Cioè Sì Io faccio Lo Spirit Temple Perché il Forest È lungo Non abbiamo la chiave No Facciamo lo Spirit Temple Ok Allora Sì Il Portacuore Che dà Volvagia Potrebbe essere Comunque qualcosa Quello sì Allora Fammi pensare Questo ok Ma gli devo dare Le No Non gli devo dare La prescription La devo dare al dottore Perché io Io anche imballo La cosa Senti Fammi andare Allo Spirit Temple Mentre facciamo Lo Spirit Temple Mi invento qualcosa Ok Quindi abbiamo detto Haunted 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 Wasteland È inutile Quindi possiamo Toglierlo Perché è arrivato Megalovania Enrico Enrico è una donna Vaccinata Beh Credo che qua Siamo tutti Vaccinati Sono il brother Di The Top of YouTube Posso confermare Tornerà Wow Non si può Fossibile Il fratello Il suo fratello Ok Perché siamo tornati qua? Perché ci possiamo Uxhotare su questo Che non è in logic Perché adesso Vi spi Cioè Non Ah Mi si desponasse Che palla Non so se si desponasse Ok Non pensavo si desponasse Sinceramente Allora Io non Non capisco Però secondo me Siamo out of logic Allora Cosa intendo Questa chest Come requisiti Ha Zelda's Lullaby E longshot Perché abbiamo visto Che con gli overboost Non ci si arriva Né con l'hookshot Ma se io trovo L'angolo giusto Io dovrei potermi Hookshotare su Vedi Ecco qua Però questo non è in logic Cioè nel senso E questa è una chiave Per forza Cioè non ci sono storie E Quindi Secondo me Noi stiamo andando Nello Spirit Temple Anche se il seed La generazione del seed Prevedeva Che in questo momento Noi avessimo Il longshot Quindi noi adesso Stiamo Stiamo per affrontare Uno Spirit Temple Che richiede Il longshot Con l'hookshot Non so come andrà a finire Però abbiamo il mirror Roscendo Quello Quello è bello Cioè nel senso Non siamo messi male Per giocare Lo Spirit Temple Adesso Ci sta Ci sta Dammi lo scudo Grazie Va bene Sono Sono comunque contento Del fatto che possiamo fare Lo Spirit Temple La metà Non possiamo finirlo Ma Arriviamo a un punto Buonissimo Perché abbiamo Silver Count Abbiamo un mirror shield Ci sono un sacco Di chest Cioè veramente Tantissime Però non abbiamo La lands of truth Ecco un'altra cosa Abbiamo la big Goron sword Sono scemo Non mi ricordavo Che avevamo la big Goron Eh certo che fare questi Senza Senza energia magica È proprio tutto È senza No 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 Tieni i peli Raga ma come cazzo si fa Dai che forse sono finite Sono finite Sì Ok Ok bene Tieni i peli Allora E lo Spirit Temple È pieno di chest Ragazzi Veramente pieno Siamo messi bene Ok Quindi già Eccone qua due Sì l'ultimo È una trappola Lo so Lo so Cresciute Mezza le dita dei piedi Vabbè Ok Tu sei un Armos Me lo ricordo Non abbiamo Merda Non abbiamo L'energia magica E se no Se no potevamo fare Anche la cesta lì Con l'elf Con il Dean's Fire Qua ci arriviamo Con gli overbooks Ciao 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 rica Ciao rica Alice e altre girls Questi peli Come Ci sono cresciuti tanti peli L'arpione lungo potrebbe anche essere dietro la missione di grande Goran Eh sì, lo so Infatti io spero Spero vivamente che le Gossip Stone Mi dicano che cosa tiene il League Goran Perché di fare quella quest Preferirei proprio di no, sinceramente Allora, fammi pensare La cesta ce la prendiamo Cazzo Cazzo, questo può essere un problema perché io non ho il longshot Oh no, oh no, dimmi che ci arrivi Ok, grazie Uff, se non c'è Mamma, hai capito cosa intendevo? Capito cosa intendevo? Che già questo aspetto è il longshot Io non ce l'ho Situazioni come questa Madonna, non te li tagli mai L'altra chiave Io non credo che troveremo qualcosa di utile comunque qui dentro Lo Spirit Temple è veramente troppo avanti nel gioco Quindi È facile che arrivati a questo punto Talmente tanti requisiti per arrivarci Che è difficile che ci siano altri oggetti utili Allora, fammi pensare Tipo qui Qua, qua Ecco, qui Qui volevo arrivare Fatto questo Abbiamo aperto una scorciatoia Quindi anche se non riusciamo a finire lo Spirit Temple Se apriamo questa scorciatoia siamo messi stra bene Perché quando ci torniamo poi Siamo praticamente già alla fine Quindi noi stiamo effettivamente facendo progresso Nello Spirit Temple Non è che lo stiamo facendo a caso Per cercare oggetti L'unico problema è se effettivamente poi lo Spirit Temple Contiene un Una pietra spirituale E non un medaglione Quello è brutto Quello è brutto Poi qua ci possiamo arrampicare Vediamo se ci possiamo Ci buttiamo sulla mano Sì Ci possiamo buttare sulla mano Ah e poi Sì 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 E poi vado di qui adesso Allora Allora là c'è uno Sculptool Andiamo a prenderlo Perché se arriviamo a 40 Abbiamo un Porta Rupie Che ci fa comprare la chiave del Water Temple Che ci serve Ragazzi stiamo andando bene comunque Ve lo dico Cioè Secondo me in 6 ore ce la facciamo Cioè 6 ore abbiamo finito Secondo me ed è buono Boschi dello Shadow Temple Cazzo poteva essere del Fire Temple Cioè non che ci serva poi tanto Perché abbiamo capito che È una Spiritual Stone Però quello dello Shadow Temple invece ci serve Quindi se troviamo l'energia magica E il Long Shot forse ci serve anche Possiamo finire Dello Shadow Temple adesso Quindi bene 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 Esatto adesso voglio fare Il lato da bambino al contrario Cioè noi l'abbiamo già esplorata La parte da bambino Questo però è un po' troppo Un po' troppo alto Questa musica Questa sì la devo passare Questa è davvero alta Copiata in canzone Copiata dal tema di City Dark Souls 1 Cos'è? Ger che sembra avercela con questo gioco Cosa gli avete fatto? Io ho sbagliato Devo subito risalire di qua Sono un pirla Ger che sembra avercela con questo gioco No è chiusa? Cazzo è chiusa Eh ma scusate eh Ecco qui volevo arrivare Ma dove sono? Ah sì ok ho capito dove sono Ok 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 Qua ci sono Madonna che danni mi ha fatto Malissimo Mamma mia che swag eh Hai mai giocato a Crash Team Racing? No Dovei farlo Assolutamente Ma ci giocherò assolutamente Quando uscirà il remake Mamma mia quanti danni ti sei preso Quanti danni ti sei preso Ah è vero devo spingere l'Armos Sì hai ragione Cosa E con Assong Bella Ragazzi possiamo fare GTG GTG Adesso noi proprio stacchiamo qualsiasi Che stiamo facendo dopo lo Spirit Temple Andiamo a GTG Oppure dipende Allora dipende Vediamo Sto pensando Se trovo la chiave del Forest Temple Andiamo a fare il Forest Temple Altrimenti GTG Perché abbiamo visto che è Way of the Hero Quindi per forza Dobbiamo Però ma pensi che è strano È strano che l'epona Assong sia qui Allora quindi questa porta Non la dobbiamo nemmeno aprire Ai Cosa ho fatto? Ragazzi sta succedendo una cosa molto interessante Vi spiego Praticamente Noi siamo qui Secondo me noi siamo qui Out of logic Cioè noi non saremmo dovuti venire qui Perché noi abbiamo usato Look Shot Dove normalmente si dovrebbe usare Long Shot Quindi È strano Che abbiamo trovato Con Assong qui Che serve per andare A GTG Però noi non possiamo fare GTG Perché non abbiamo Il Membership No niente Niente Non Il GTG Voi a sapere dove cavolo sta Il Member La Member Card Per il resto Ecco ragazzi questo è un problema Perché non possiamo fare questo check Senza Senza gli stick Andiamo avanti fino ad una fine altra nata tanto domani non ho corsi Io mi devo spendiare invece da mai Ma tanto finiamo Secondo me in 6 ore finiamo Cioè questo sit sta andando molto molto bene Ho detto che sono diventato Sono diventato capace dai Sono diventato abbastanza capace Cioè mi devo abituare a giocare senza MapTracker Se mi abituo a giocare senza MapTracker divento veramente bravo adesso Però ho paura di dimenticarmi cose MapTracker Cioè Allora L'Item Tracker Di per sé È ok È per gli streamer Nel senso Puoi far vedere che oggetti hai Eccetera Però il MapTracker ti segna delle cose Cioè oltre a ricordarti le location che non hai visitato Eccetera Cioè è anche proprio per segnarti dove sono determinati oggetti Andiamo avanti fino alle 4.59 Tanto alle 5 devo partire Dove vai Jack? Dove vai? Ma qua ci sono le Silver Rupy Ma me le son sognate le Silver Rupy O le ho già prese tutte No mi sa che le ho già prese tutte le Silver Rupy Vabbè All right Altro Sculptulla Tra poco siamo a 40 Praticamente Immaginatevi che tutti i Tutti gli Sculptulla che stiamo ottenendo Sono un piccolo pezzo Un piccolo piccolo pezzo di Chiave di Water Temple Chiave del boschi del Water Temple Potete immaginarvelo così Se uno di quei Se lui mi prende con uno di quei colpi Mi toglie 8 cuori Non so se mi spiega Muoio Se uno di quei colpi è muoio Per i cuori che avevo prima Ciao Daniel Bentornato Chiuraz non so se ci saremo alle 9 Fammi pensare Ci sono le 6 No vabbè Sì dovremmo esserci per le 9 Ancora Bella Molto utile questa Ok quindi cosa possiamo fare Possiamo ritornare dentro E purtroppo GTG Non possiamo ancora farlo Porti live sui cantieri Sì perché con tutti gli Sculptulla Possiamo prendere il portaluppio più grande E con il portaluppio più grande Possiamo prendere la chiave del Water Temple Tranquillo Possiamo fare tutto Mi viene voglia di andare in una discoteca del 2010 Minigioco delle bombe Quello dei bombciu Sì e ho imparato un setup Quindi ora Non è più un problema Quel setup è stato fantastico Chi era già in live quando l'ho fatto può confermare Ho fatto proprio il primo colpo Ho trovato tra l'altro una bussola mi sembra Sì era una bussola La bussola di qualcosa E l'arco finto Che era un ice trap E vaffanculo E qui non ho il dims fire Questo è proprio senza dims fire Perché bisogna portarli sopra il fuoco Uno ho fatto Avete presente qui i nemici di The Bending of Isaac Che ti specchiano i movimenti Ecco Questi Non so se ce ne sono stati prima Però Sono ispirati a questi Lo stile è che Insomma Il concetto di nemico è quello Ma cosa devo fare Per attendere su quel po' Non capisco come farlo andare a lui Faccio con gli overboots Hola Ok Poi manca anche I cosi neri demoniaci di The Bending of Isaac Perché sì quelli oppure quelli Non sono neri demoniaci I primi che si incontrano sono quelli in The Womb Nella vulva E basta Quelli lì Quelli tutti fatti di carne Ma qua ci sono tre strade Ma qua ci sono tre strade E io dove vado Qui Ma non la mappa addosso Ah no Di qua sono arrivato Ok Ci credi che tra le tue Tra le tue Erano medio carino Questa stanza L'avre vista almeno 500 volte Noo Perché proprio questa Esatto Proprio così Giuseppe Linguaggia inappropriata Ma dove porca puttana Perché continuo ad entrare nella porta sbagliata Allora Ancora Stessa cosa ho fatto Ho fatto la stessa strada per tre volte di fila Sono ritardato Di qua devo andare Ok Oh Ok stiamo praticamente finendo lo spirit temple Ci manca Cioè Sulla carta l'unica cosa che ci manca per finire lo spirit temple È la chiave del boss dello spirit temple E l'offshot Poi potremmo farlo Se riesco ad agganciarmi Puttà Mi ha spappolato in un colpo No Qui No Mi ha sputato indietro No Di autogodimento erotico No po' Giuseppe Madonna ma mi ha esploso Quell'iron knuckle Vabbè sì Perché lui di base fa 4 cuori di danno In più con Con il danno doppio ne fa 8 Quindi Dolore proprio Dolores Infatti non l'ho visto arrivare Con colpa Non mi parebbe schifo una fata in questo momento Ma proprio no Sì quando colpisce ti ammazza in un colpo è vero Cioè 8 cuori Alla fine io ne ho Ne ho 3, 6, 9, 10 Quindi O avevo proprio 8 cuori spaccati E sono sfigato E facile Sì mi piace Sì mi piace sta canzone Attacca prima te Per favore Non voglio morire Grazie Non li sto neanche a raccogliere i cuori Perché tanto lui fa 8 cuori di danno Cioè mi uccide comunque anche se li raccoglio Ok Ci sono due cesti invisibili vero Grande Quasar Grande che me l'hai ricordato Hai ragione Ok Ma questo è Dark Souls Bussola del Decutride Non mi serve Cioè lo sapevo già che va a Light Medaglion ovviamente Se questa fosse stata la bussola dello Spirit Sarebbe stata una figata Perché potevamo capire se dobbiamo tornarci o meno Cioè alla fine le Art Container di un boss Non sono qui Sì Gerudo Perfetto ragazzi Va a fare GDG Perfetto Sappiamo cosa fare Minchia Quasar mi hai salvato il Seed Quasar mi hai salvato il Seed Mio Dio Meno male Porca miseria Mi hai salvato il Seed sul serio Cioè praticamente adesso noi sappiamo Che GDG è On the way of the hero Quindi per forza c'è un oggetto che ci serve ad andare avanti nel gioco Cioè ci sblocca per forza GDG Che poi è ovvio perché GDG ha talmente tante ceste che qualcosa di utile c'è sempre Però cazzo questo è molto molto utile Cioè avremmo girato ovunque senza mai trovarle ste ceste tipo Ma davvero tanto Questo che fa capire quanto poco ci voglia per sbagliare un intero Seed Cioè proprio Un errore del cazzo così Mi avrebbe fatto perdere ore e ore e ore Non avete idea Quasar sei un eroe Davvero Sei un eroe Fare questa stanza senza longshot è una merda Comunque Ok No no me ne sono accorto ragazzi È che non ho il momento per farlo Adesso si perché devo suonare la canzone Quindi ho il tempo Perfetto È arrivato giusto in tempo Oh Pokémon Black and White Ragazzi mi sto innamorando di Pokémon Black and White Grazie a voi Siete pieni di quello che avete fatto Ah cazzo Qui potevo usare un glitch Cioè glitch è un trick per Per saltare la cosa di fuoco All'arrivo di fuoco Invece vabbè lo facciamo bene Ovviamente non basta l'hookshot Se devo usare Quando All'aria Dai Dai cosa mi dai Chiave del boss La mia chiave del boss Vanilla Cioè se fosse vanilla sta cosa Ti puoi impazzire Quasar mi hai salvato la vita Madonna Quasar non hai idea di che opera di bene hai fatto A ricordarmi che lì c'erano due cesti invisibili Ok Quindi Perché è chiuso No devo capire questo Easy Comunque le noci danno veramente un sacco di Cioè Saziano subito Qua anche c'è una cesta invisibile Mi sembra No non è una cesta invisibile Semplicemente il sole nascosto un po' Earth container Oh ragazzi ne abbiamo già un sacco di cuore Cioè fa capire che comunque In quattro ore abbiamo ottenuto tutti quei frammenti di cuore Earth container Cioè Non so se mi spiego Sposatevi Enrico Vuoi tu prendere quasar come tu Leggiti un sposo Addirittura No non basta così poco Per convincermi a sposarmi Non basta così poco Però grazie Basta N può dire la parola con la N Chi beh Credo proprio di sì Se no No le frecce non mi servono Ho avuto un Un ripensamento multiplo Ho detto Le prendo o non le prendo Ho deciso Le prendo Poi ho visto che avevo Ho visto che avevo 30 frecce su 30 Ho deciso Non le prendo E poi ho detto Vabbè ma le prendo così Almeno non Non rimangono lì E poi non lo faccio Mollatemi In fasi Maledetti Beh le noci danno Tante Sostanze nutritive Non lo so cosa dicano le noci Vabbè Comunque ragazzi Abbiamo finito lo spirit temple Ci manca la chiave del boss Quindi noi Facciamo Retromarcia E andiamo A gtg Save war Ok Save war Quindi spirit temple Buono Figo ragazzi Figo 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 Ok Il problema è che A gtg Non possiamo fare Troppissimo Non credo che possiamo fare Tutto gtg Però un po' si Quindi Dove andiamo? La guiglia? No aspetta Mi sposi che c'ho la pasta Sì Assolutamente sì Leonardo Pardini Magari al campo geluto Ti danno solo un fungo marcia E un assorbente No davvero troppo Ci soffè troppo Ah ma io posso aprire Posso aprire il water temple adesso Perché no? Siamo qui Apriamo il water temple Ehi No aperto Così Tanto per Tanto sappiamo che al water temple Non c'è niente Ce l'ha detto una gossip story Me l'ha detto un uccellino È l'equivalente di Me l'ha detto un uccellino Dio carino Ah e già che siamo qui A proposito Prendiamo la Prendiamo la Escape Crow Song Che era Se non mi ricordo male Abbiamo la Escape Crow Song Quindi nel caso dovessimo andare Per qualche strana E maledissima ragione Al Fire Temple Al Deep Fire Temple In realtà E non credo che succederà Abbiamo la Escape Crow Song Adesso Ipona Song Raffaele Pardini Fammi vedere se ho segnato Tutto sul Sul tracker Dov'è Ipona? Eccola qua Che figata che nel Nel randomizer Non bisogna fare la corsa Con Ingo Per avere Ipona Ma basta avere L'Ipona Song È troppo comodo Davvero troppo Hanno aggiunto un sacco Di quality of life Improvements In questo randomizer È diventato davvero Una figata da giocare Cioè lo consiglio davvero A tutti di provarlo Perché è pazzesco Hanno fatto un lavoro Pazzesco Questo randomizer Lo trovo davvero Una delle cose più divertenti Da giocare In single player Degli ultimi Dieci anni Non lo so Lo rigiocherei Un sacco di altre volte Questo randomizer A proposito Dobbiamo trovare Un Big Po Facciamolo adesso Eccolo qua Bastardo Ok Vabbè I Big Po Ci sono Ma Non sono dieci Ne basta uno Quindi una volta Che ne troviamo uno Siamo a posto Tanto per Buttarla lì È un altro check Che possiamo fare Quando vogliamo Insomma E infatti No Hanno fatto un sacco Di Quality of life Improvements Su cose che comunque La gente odia fare Non danno niente di interessante Di farle Rifacendole Ok Quindi qui Non abbiamo la Song of Storms Purtroppo Perché se no Avremmo potuto prendere Avremmo potuto Entravenne Un Buco Però almeno Abbiamo questa cesta Da esplorare Vediamo Farei troppo grande Non mi fa schifo Sarebbe stato Molto meglio Un long shot Devo dire Però Non ci possiamo lamentare Adesso Noi abbiamo Già la member card Però E poi una La lascerei lì Per ora Segniamo che abbiamo Fatto questo Questo coso Ma non ho segnato Ipona Ah non avevo segnato Ipona Song Ops Quindi adesso Dobbiamo fare Niente Dobbiamo fare Le Gerudo Qua mi servirebbe La Stone Mask Stone Mask Di Majora's Mask Sarebbe stra comoda Vediamo se ne basta uno Non mi ricordo Oh 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 Non ero pronto Nooo Non ci credo Non ci credo Che mi ha fatto Nooo Che palle Vabbè Vediamo Noi abbiamo ancora Quella maledetta Trade quest Di Abbiamo la trade quest Della Big Go Non voglio Assolutamente Che fare Come faccio Ok Done Ragazzi voi Voi qui potete cenare Cosa cenate di bello Con cosa cenate di bello Questa sera La Stone Mask Non c'eni Ma come non c'eni Magic Mitch Ah già che c'è sta l'upiona Inutile però Arriva tra poco la pizza Yeah Mangio bambini Perché non cenate ragazzi Voi che potete farlo Non sarete mica a digiuno Per farmi compagnia Ma che io mangio Una volta che finisco Questa live Certo Pic Devo finire il gioco Non mi sono spiegato Non ho fame Dovrei mangiare Per la terza volta pizza Vabbè Tre volte in tre giorni È pesante In effetti La pizza Sta addosso Dopo un po' No 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 Io odio sta cosa Ti prego dimmi Che ho fatto Gerudo fast Perché non voglio fare Tutti e quattro i carpentieri Cioè Mi rompo proprio le palle A fare la prigione Gerudo Oh mio dio Adrenalina dei villi Ho appena finito la carbonara Ti accompagniamo in questo disuno Buongiorno Allora Senti Mo devi crepare La fatica Questa canzone Mi sta triturando le orecchie Per quanto è alta Madonna ma cos'è Il rape version Fatemi abbassare il volume Ok Proprio da sezzo Da questa canzone La vera carbonara Ok no Non ho fatto fast Gerudo Devo farli I fine quadro Che palle Vabbè Facciamo tutti i patri Gerudo Cioè i carpentieri Ma il tipo fa le fortnite dance Non me lo ricordo Non mi rompere le palle Brava Devo rivedermi il video Di questo Cosa Devo rivedere Il video Di adrenalina Comunque Comunque sta canzone Non ironicamente È ascoltabile Allora Vediamo di non farci catturare Ancora Dalle Gerudo Comunque queste Sono troppo fighe Cioè questi Sono i nemici esteticamente Più fidichi del giorno Il Gerudo Con le due Trouble Poi fanno quel verso Quando le ammazze Poi ci vai su Plark on memes Ovvio Aztfazen Too much feels Io ho mangiato La mia voglia di vivere Beh dai Allora adesso Sarai pieno Di voglia di vivere Soffro Di indipendenza 4 ore e 48 Dai Non so se in 6 ore Ce la facciamo Ma lo stiamo andando bene L'importante È finire Ma se le colpisci Le sciavole Non fai danno Alla Gerudo Eh no Non le fai danno No Non le fai danno Beh ci sono Altri nemici Che si parano Non sono le uniche Ci sono gli iron knuckle Che si parano Ci sono Forse gli stalfos Sì gli stalfos Si parano Gli wolfos Ah lì non ci arriviamo Non so se ci arriviamo Senza longshot qua Ho suonato Adrenalina All'ocarina No Allora Con longshot Cioè con lookshot Non ci arriveremo mai Credo Sì Invece sì Buono Figata Ancora Bastard container Oh Bellissimo Il rumore degli overboots È proprio Cursed Cosa hanno messo Sul d-pad Hanno messo L'ocarina E i boots Bellissimo È una delle cose più comode Di tutto il randomizer Ecco qui Non vedo Non vedo un cavolo Proprio Potrebbe arrivare una Vai a cagare Però dai Che fastidio Mamma mia Che fastidio È odiosa Gerudo Fortress È proprio odiosa Muore 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 Che riproviamo È drona Che devo risalire Fin là Oddio Ma è Undertale Mi induce C'è il suicidio Per impiccazione No è più che altro Devo uscire E non voglio mangiare fuori Quindi finché la mia genitore 2 Non cucina Sono a secco Chiedi a Pic Di cucinarti qualcosa Che hai preso bene Con cucinare Quando sono fighisti Te schifo i muri Comunque Dai Ma da dove Ma da dove Ma basta Raga ma Porca puttana Gerudo Fortress È odiosa No io non posso Giocare così Con Gerudo Fortress Io ho bisogno Ho bisogno di giocare Con Fast Gerudo Settings Cioè non ce la faccio più A giocare così A fare Gerudo Fortress Che poi ne ho fatti due Ho appena fatto una torta Appunto Noi mangiamo tardi Quanto stai ancora in live? Fino a che non finisce Il SID ragazzi Quindi State con me E scopriamolo insieme Io spero di finirlo Per le sette ore Perché sarebbe un bel Un bel miglioramento Di un'ora secca Sul pipì Sì Undertale Decisamente Ok Lorenzo Pardini Allora Direi che entriamo lì Qua dovrebbe esserci un'entrata No Allora è qui sotto Non lo so E mi perdo Gerudo Fortress Che odio Che odio Gerudo Fortress Davvero Complimenti Bravo Riku Bravo Riku Però qua dovrebbe essercene un'altra Boh a me sembrava Undertale Giuro sembrava Sembrava una canzone di Undertale Non mi ricordo assolutamente le canzoni di Mystery Dungeon Ragazzi Cioè Mystery Dungeon Squadra Blue L'ho giocato Figa Avevo 9-10 anni Cioè Poi non l'ho più giocato Quindi L'unica cosa che so cucinare Sono il tè Il caffè Ho appena accennato Con una scatoletta di tonno Pepperiomani No giuro Non stavo trollando Madonna Mi son beccato Il Gerudo in faccia Non gliene pede niente Mystery Dungeon Maggiore di tutti gli altri Pokémon Controversial Opinions No 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 Mollami Mollami te Non ci devi provare Brava Dai qui Tra poco dovrebbe esserci l'ultimo Mamma mia Quanto è pesante Gerudo Fortress Cioè ci avrò perso 20 minuti Solo per fargiare Due Fortress Allora noi dobbiamo andare lì Ho visto che sei tornato Blog di Giuseppe Però non leggo tutti i messaggi Oh mio Dio cos'è Si è richiesta da Cerca Quindi potrebbe benissimo essere Cioè potrebbe essere Qualsiasi cosa Letteralmente Allora porca puttà Adesso l'aspetto qui Non mi interessa Proprio l'aspetto qui Con l'arco Dai vieni Dieci In testa Headshot Ok qua c'è l'ultimo Qua c'è l'ultima Non mi devo far catturare Adesso Perché tornare qui È una rottura di palle Non ci provare Per l'attacco in salto No Ok Madonna C'è mancato Un pelo Che mi catturasse Ok finita Gerudo Fortress Finalmente No ragazzi Prossime volte Gioco sempre Con il settaggio Gerudo Fortress Fast Perché è una rottura di palle Veramente Cioè fare il gioco di palle Che non ci sono chest La Song of Storms Yes Vai Questa è buona Song of Storms ci apre un sacco di check Grazie Ehm Ehm Grazie Che vorrei non fare Che vorrei non fare Sbagliando Sbagliando Crouch stab Che provare con il Nel Sbagliare con il 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 Non ci sia bisogno del Longshot Oppure mi posso appendere la calcia Ah figo Non serve il Longshot Ok Ragazzi quindi Il longshot potrebbe non servire Per finire il GTG E' una buonissima cosa Perché possiamo forse Finire tutto il GTG Abbiamo gli Iron Boots Tra l'altro Quindi possiamo Volendo anche Fare la stanza Qui a sinistra Dell'acqua Come prosegue Ado bene Devo dire bene Sta andando molto bene Non abbiamo ottenuto Altri medaglioni Ma Ne prenderemo presto Anzi Io sto per scivolare Nella lava Invece I cantieri Questa non la tolgo Anche se non è una canzone Perché è troppo bella Prima di mettere La risposta è anche Sì Ah parlate di Jojo Cosa c'è al posto Della chiave Giusto Potrei guardare Ma a sto punto Ci salgo e basta Cos'è Che cavolo è Ah è una faretra Sarà un ice trap No è veramente La faretra Ok Quindi segniamo la faretra Da 50 Che non l'avevo segnata Nemmeno quella Da 40 Allora questa qua Non la dobbiamo ferire Perché questo è il lato Il lato A sinistra Di GTG Per cui se tu sali Da quel punto lì Non devi usare chiave Quindi possiamo fare Molti più screeni Dall'altro lato Ma qui c'è Un'altra salita Mi sembra Cioè non ho la Lens of truth Quindi non mi ricordo E qui l'altra salita Non mi ricordo Dove è l'altra salita Vabbè Senza Lens of truth Potrei sbagliarmi Però Bellissima sta canzone Ragazzi Chi è che l'ha richiesta Ando Grande Ando Ciao Proviamo a fare Questa stanza Dicevo Proviamo a fare Questa stanza a destra Che abbiamo Gli Iron Boots Quindi Effettivamente possiamo farlo Anche se non abbiamo La zona tunica Nel long shot Però Va bene Qual è il tuo main Su Smash? Allora Mi piace tanto Giocare Jigglypuff Non sono Non è il personaggio Con cui sono più bravo Però secondo me Sono più bravo Mi sento molto più bravo Con Captain Falcon Anche se Tento sempre Di Usare Jigglypuff Di forzarmi A usare Jigglypuff Esattamente come su Su Rivals Mi sento molto più bravo Con Force Burn O Ranno O Clayren Però Il mio main È Abzan Cioè perché È il mio playstyle Però è difficile da giocare Quindi È uguale a Jigglypuff Non è difficilissima da giocare Jigglypuff Quanto Abzan Però è difficile Renderlo Utile Cioè è difficile Renderlo Un impatto Come personaggio Anche perché Mettere il rest È molto più difficile Che su Mili Secondo me Cioè è molto più difficile Che su Mili Da pensare al rest In Ultimate Ma anche di Smash 4 Perché è l'input lag Cioè c'è un input lag Notevole in Ultimate Quindi è difficile Giocare personaggi Che giocano così tanto Di reazioni Non tanto di reazioni Ma proprio Decision making Istantaneo Praticamente E ho scoperto Che mi piace giocare Anche Fuffi Incredibile Cioè Fuffi è diventato Da uno dei personaggi Per cui ero Ah non ho segnato Lookshot Fuffi è passato ad essere Uno dei personaggi Di cui ero Più tiltato Per cui ero più tiltato Un personaggio Che mi piace anche Giocare su Smash Cosa mi manca Per completare il seed Allora principalmente Mi mancano Le chiavi dei boss Le chiavi dei boss E una canzone Per entrare nel forest temple Però potrebbe sbuccare fuori Che il forest temple Non è necessario Quindi scoprivo insieme Aia che male Anche loro fanno parecchia male Con gli attacchi in salto Io avrei bisogno Della double defense Non sarebbe male Fare la double defense Prima di andare Contro boss Questa è la chiave Dello spirit temple Cazzo si Ragazzi abbiamo La chiave Dello spirit temple Possiamo andare a farla E scopriremo Se abbiamo bisogno Lo sto facendo Qua io ero convinto Che servisse E' il long shot E' il long shot E' il long shot Ok ragazzi Possiamo fare spirit temple E scoprire se Ha un medaglion O una Spiritual stone Ovviamente Speriamo Che abbia un medaglion Ragazzi Cioè proprio Speriamo Quindi hype Per twin roba Ragazzi Tra poco andiamo Per twin roba E' il mio boss preferito Ehi Ehi Oh Ragazzi Meno male che abbiamo trovato Gli overgoods Così presto Gli overgoods Sono utilissimi Sono uno degli oggetti Più utili del gioco Fanno un Danno un sacco Cioè non sbloccano Tanti check Di per sé Ma sono talmente Comodi Talmente utili In così tante situazioni Che trovarli così presto E' sempre bello Bitch lasagna Più di pai razzista Odia le minoranze Oh ragazzi Qua c'è la C'è la fantastica chest Dei like like Che è piena di Cioè c'è la stanza Dei like like Che è piena di chest Piena proprio C'è un altro wolfos Carini il wolfos Come metto le canzoni Punto esclamativo Song request Madono Guarda quanti small keys Che stiamo trovando Ragazzi ci facciamo Tutto gdg Proprio tutto 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 Lo facciamo Perché è chiuso Ah sì ok 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 Eccolo qua Devi scrivere punto esclamativo Song request In chat E poi spazio Il nome della canzone Per richiedere le canzoni Appare anche nell'overlay Che ho messo sotto L'item tracker Ogni tanto Se giochi fuffi Sei furry Vabbè ma Tanto ormai Gioco a rivals Quindi sono furry Per forza Ehi Come faccio a colpirti No 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 Ehi Non mi ammazzai Ok Non so Faccio se ti danno Il like like Perché c'è Mezzo cuore Le basi Un cuore intero Con il tap Potenti Dai però Mi riesco a colpirli Ragazzi adesso ci sono Quattro ceste da aprire Quindi una Inutile E poi Una, due, tre Ciao Manuel Fuffi best hero No 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 L'histrap così no Certo che ti saluto Manuel Way of the hero Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui Perché era way of the hero GTG Ragazzi abbiamo vinto Abbiamo vinto il seed Cioè ragazzi abbiamo Vinto il seed Praticamente Ok quindi adesso Abbiamo praticamente Accesso a Spirit temple Water temple Boss Quindi poi ci manca Un solo medaglio Che è shadow No non è vero Se lo spirit Ha una Una pietra E non un medaglio Dobbiamo fare anche Il forest temple Io spero che non lo sarà Però ragazzi Se lo spirit temple Ha un medaglione Abbiamo praticamente finito Cioè Cosa mi manca L'energia magica Mi manca l'energia magica Se trovo quello Possiamo fare Anche shadow temple E poi Abbiamo Il Sì Togliete Il Praticamente Ecco il long shot Mamma mia Abbiamo pure il long shot Light arrows È vero Mancano anche Le light arrows Quello potrebbe essere Un problema E il problema principale Adesso in realtà È che non posso uscire Da qui Meno male Che ho la scarecrow song La ceste dello spi Perché non è uscito Lo scarecrow Vabbè Mi ha lasciato lì Vaffan È che non mi voglio uccidere Navi Vai Per favore Vai su Navi 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 Ho bisogno Grazie Ma infatti Io non ho capito Non era Out of logic La ceste Dello spirit Ma Perché non posso Senti Siamo io Amen E Vabbè Forse faccio Prima dall'altra parte No Devo andare di qua Che palle Dimmi che non devo Rifare questa stanza Per favore Ma tra l'altro ho tre cuori Cioè io avevo bisogno Di tornare su Perché lì c'è un'altra chest Solo che Per qualche motivo Non riuscivo a suonare La scarecrow song Non ero in range E vai a sapere E quindi ho provato A uccidermi Perché così Sarei respawnato Subito Sopra Dove cavolo sta Certo che giocare Senza Lens of Truth Eh Ok Senza Lens of Truth E senza magia Cioè Quindi proprio Lontano anni luce Dalla Lens of Truth Il che Ragazzi Mi fa sentire bene Perché sapete cosa vuol dire Che il Bottom of the Well Potrebbe non essere in logic Cioè Potremmo non dover entrare Nelle bottom of the well Ragazzi Ho otto chiavi Otto chiavi Di GTG Cioè Proprio Adesso spacchettiamo davvero Adesso facciamo Gli spacchettamenti E vi siete pronti Allo spacchettamento Edico Edico Otto chiavi Vuol dire Otto chest Sì Vuol dire Questo Non ci devi No L'ho ribattita due volte Che brutto Giocare senza energia magica Però cavolo In realtà Non ci deve per forza Essere qualcosa In quelle chest Perché abbiamo Longshot Il Way of the Hero Era Longshot Quindi Longshot Serve per forza Per andare da Morpha Morpha sappiamo Che ha il Water Medallion Quindi Way of the Hero Potrebbe benissimo Essere Spiegato Da Dall'Obshot Basta Solo quello Pocahino of Time Inutile Vi ho trovato Pocahino of Time Non fa niente È l'oggetto che Non fa niente Nel gioco Bello vedere che è il nome del gioco Pocahino of Time Probabilmente abbiamo tipo Tutte le chiavi di GTG Adesso Spacchettiamo Proprio Spacchettiamo Ragazzi Siete pronti Vai Andiamo Spacchettamento epico Ok Ricordiamoci che qua c'è una chest invisibile Da qualche parte Allora Frecce inutili Poi Dovrebbe essere qui La La cesta invisibile Esatto Sì 20 rubio No Non dirmi che adesso In tutte le ceste che ci sono qui Non troviamo nulla Cioè Sarebbe stupidissimo Cioè Abbiamo trovato il Longshot Quindi a me sta benissimo Cioè Quello per cui eravamo entrati qui Era il Longshot Probabilmente Quindi con il Longshot Adesso Dobbiamo trovare altri Qualcosina Sculptulla Compriamo la chiave del Water Temple Andiamo a fare morta Ma quello lo possiamo fare quando vogliamo Il Faro Reswind Non è male Non è male avere il Faro Reswind Ci rispande un po' di tempo Ci sta Ok Qua c'è un'altra cesta Oh no Ice Trap Mamma mia Sti Ice Trap così proprio A me non ne sto più contando Il Counter Delle Ice Trap È falso Ne abbiamo beccate Molto di più Dota E' un'ampolla con una fada Che non è male In questa situazione Vabbè Infatti come immaginavo In GTG Siamo venuti per Il Longshot Che va bene Adesso noi Finiamo lo Spirit Temple Finiamo lo Spirit Temple Sì sicuramente No Prima di fare lo Spirit Temple Sembrano una cazzata Ma io voglio provare questa cosa Lo odio Questa è la cosa che odio di più Nel gioco Vedo Probabilmente sì È la cosa che odio di più Nel gioco Ma il livello della Germania È un'azista Spanelli Dota Picca contento Dice Dota E niente Facciamoci sto Sto minigioco maledetto I Chad Pensano a Riccardo Milos Sono entrambi i Chad Però Allora Qua è bella Mira ragazzi L'importante è fare mille Poi mi impegno di più Per Per fare i I millequattro I millecinquecento Quello sarà più difficile Però devo farli Mille Usate i vostri piselli Per dare energia a Riccucu Sì questo minigioco È veramente una merda da fare Oh grazie Il problema è che adesso Devo fare millecinquecento Questo sarà un bel problema Adesso sarà tosta Fare millecinquecento Però Sì anch'io Questo è un minigioco Tremendo Per qualche motivo Non mi è partito un input Io giuro che avevo perduto Ragazzi è troppo difficile Sto minigioco davvero Cioè è difficilissimo Fare millecinquecento Cioè di solito Ce la faccio Comunque Però Faccio fare anche Non so come cazzo Fare il cazzo Fare il cazzo Oddio Sarà un problema Spare il cavallo Della tipa Fun fact Ero su Nintendo rivista ufficiale Nella top 5 Di sto minigioco Non ci credo Che bomber Bella Questo è buono Siamo a 800 Con dieci frecce rimaste Nel 960 Dai Si può fare Difficile ma si può fare Prova a sparare Ok ce l'ho fatto 1700 è buono Wow Si su 3ds è molto più facile Certo La bussola del forest temple Ragazzi cazzo Si Questa è l'informazione migliore Che potevamo ottenere Da tutto il gioco Porca puttana Perfetto Quindi Forest temple È inutile Sostanzialmente A meno che non contenga Le light arrows Quindi Esclusione Lo spirit temple Avrà per forza Il forest medallion Benissimo Quindi andiamo a fare Lo spirit temple Poi prendiamo Qualche School tool E facciamo il water temple E poi ci manca solo Lo shadow temple Per cui abbiamo già la chiave Perfetto Ragazzi siamo Cioè Siamo proprio in fondo ormai Siamo davvero Proprio in fondo Incredibile Incredibile Questa è buona Eh ragazzi Ok Non abbiamo l'energia magica Però Ragazzi questo Ho paura che diventerà Una Una caccia al tesoro All'energia magica E alle frecce di luce Ho molta paura di questo Inizio ad avere molta paura Le gerudo Sono quasi tutte imparentate Sì Esatto Ed è per quello che In Breath of the Wild Tutte praticamente Si vogliono Fare qualcuno Cioè Se le vedi proprio In calore Parlano solo di quello In Breath of the Wild I dialoghi delle gerudo Sono tipo tutte quello Ok Ah tra l'altro Guardate una cosa A proposito Guardate una cosa A proposito di gerudo Arrapate C'è un punto In cui Il long shot Si attacca Eccolo Cioè Gli sviluppatori Hanno fatto apposta Mettere un punto Del capezzolo Della statua Del Desert Colossus A cui ci si può attaccare Meraviglioso Troppo bello Ok Quindi noi Si può salire Verso Il capezzolo Free Cancella tete E' legale Sta cosa Beh si Perché i bambini Non lo sanno Ragazzi Twin Rova Quindi sappiamo Che Twin Rova Ci darà Lo Spirit Medallion Sta roba è E' proprio bene Ocarina of Time Persona Ovvero Il migliore O quasi Quasi il migliore Quasi il migliore Io un harem Lo gradirei Ma capisco che Che può Un pochino Spiancare Ok Quick kill Su Su Twin Rova Si fa? Eh no Vediamo E' perché non riesco a staccarmi Non riesco a staccarmi Il No è perché non riesco a staccarmi Il lock Cioè praticamente Ho impostato Che non posso Cioè praticamente Posso anche Non tenere premuto Mentre nel gioco originale Per lockare i nemici Bisogna tenere premuto Io ho fatto in modo di no Però quando c'hai due nemici davanti Vuol dire che ogni volta che premio L Locki un nemico E insomma non è proprio carino In questa situazione Vediamo se riesco a prenderla Quattacca è presa Oddio mi stanno troppo simpatiche le Twin Rova Le adoro No Perché non l'ho presa? Il laser era proprio puntato su di lei Ma dai Cavolo Non dovevo farlo È che si sono sovrapposte No 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 Kotake Stai lì No No Ultimo colpo Ultimo colpo Ma si sovrappongono Maledetti Vai complimenti Complimenti Cavolo Ti frizza per tantissimo tempo Kotake frizza davvero tantissimo Dai Dai Kotake Sei lì Sei lì Brava Ok Adesso facciamo il quick Kill su Twin Rova ragazzi Dai vediamo se ci riusciamo Vediamo se ci riusciamo Non mi ricordo benissimo il ritmo Però due cycle riesco a fare Cioè due cycle sicuro Uno non credo Uno è difficile fare Carina tua roba eh Sulla vecchia due faccia Ma in realtà è giovane Buon quick kill Forest medaglia Dammi sto forest medaglia Questa scena Questa scena tagliata non ha nessun senso Vediamo cosa mi danno a proposito Vediamo cosa mi danno a proposito Delle bombe Wow Che magari pure un'ice trap No non può essere un'ice trap Le bombe Cioè le ice trap dovrebbero tutte essere Basate su oggetti Rilevanti Non solo tipo bombe O bomciu Ok quindi in teoria L'abbiamo Abbiamo preso forest medaglia Adesso no? Vediamo Forest medaglia Esatto Benissimo Quindi con il forest medaglia Otteniamo Qualcosa al Al temple of time Se non ricordo male E noi adesso Dobbiamo prendere qualche Sculptool Sostanzialmente Fammi andare Al Al Temple of time Ciao free Stai andando Buona serata Allora Grazie mille per essere stato Tutto il tempo Fino adesso Quindi Forest Forest medaglia Non si dovremmo ottenere qualcosa Qui Mi sembra Esatto Il piso part Vabbè Allora Adesso cosa si fa a noi? Cosa si fa? Possiamo usare la Song of Storms un po' ovunque Quindi Song of Storms un po' ovunque in realtà Allora Allora fammi andare a prendere questo Questo Su Sculptoola qua Pezzo di cuore Ciao Samuel Buon appetito Fammi prendere questo Sculptoola qui E poi ci pensiamo Vediamo quanti Sculptoola abbiamo Perché adesso Cioè noi dovremmo iniziare a pensare A dove trovare la Magic Il Magic Meter Perché se non troviamo il Magic Meter Non possiamo fare niente C'è proprio un zero E infatti non mi servono neanche il Golden Gauntlet Mi serve Mi servono Light Arrows E Magic Meter Però con il Magic Meter Il Magic Meter mi serve il primo possibile Perché se no non posso fare un Shadow Death Song of Storms un po' Night Vault Fa in culo Giuseppe è veramente troppo chat Allora Dove possiamo andare Quindi Facciamo le cose Quindi noi abbiamo bisogno di Qualche Sculptoola Ancora sono babbo Non ho visto Quanti mi ero 36 Ok abbiamo bisogno di Qualche Sculptoola Va bene Tipo quanti Tipo 4 Quindi 4 4 Sculptoola Io sto andando in giro Abbastanza a caso adesso In realtà Io ho bisogno di Allora Posso fare i po' Posso usare la Song of Storms Un po' ovunque Zora River Anche Composer Grave Chest Questa perché non l'ho presa Ah perché non ho l'energia magica Ok Potrei fare la Questa della Big Goron Ma anche no Mountain Song of Storms Ok andiamo a Goron City Mountain Storms Grotto Andiamo decisamente a Goron City Al Cairo non lo sanno Al Cairo non lo sanno Che ore sono adesso Ciao Golgo Ti sei perso 5 ore di live Ma siamo ancora qui Hai ancora un bel po' Da guardare dai Un bel po' no Ma Anche perché ci stiamo avvicinando Alla fine Fortunatamente Stiamo giocando bene E Andiamo a prendere Dobbiamo prendere L'energia magica adesso Quindi non darei troppo A priorità A le Sculptoola Cioè non andrei in giro Proprio a cercare Sculptoola Però Teniamo a mente Che ne avevamo bisogno 4 Va bene Quindi Goron City Mi ha detto Goron City Goron City E qui dentro Ci sono Gli business scrub Mi sta mettendo ansia Sta canzone Oh cattolica Yes La vogliamo E questa canzone La sta per togliere Tipo Wow L'EcuStick Ne possiamo tenere 20 Ora Ok Questo lo sapevamo Grazie però Per Ci hai detto Quanti Sculptoola Servono Madonna piove sempre A Londra Londra piove sempre Goron City Grotto Questo dobbiamo visitare Qua ci sono altri 3 No è qui che ci sono i 3 business scrub Lì c'era una cesta inizia Ecco qua Qui dovevamo venire Stai qui con me Nell'acquario di cattolica Voglio essere accettato Per quello che sono Un furry Davvero sei un furry Sam E andiamo a prenderci Sti 3 business scrub Ragazzi Uno di questi 3 Dai che sarà la magic meter Per favore Uno di questi 3 Sarà la magic meter La magic meach Please Please Ho bisogno O di mettere lo scudo normale O delle noci A parte che potremmo usare Lugshot Però Dai Magic meter Mappa delle cutrini Wow Che figata You are a fool Sì veramente 5 euro e mezza E non abbiamo trovato La magia Incredibile Boschi del forest temple Non credo ne avremo bisogno Anche perché Abbiamo capito Che c'è una pietra spirituale Lui non c'è L'ombra piove sempre Oh Abbiamo capito Che non c'è Beh No non dimmi che devo suonarla Di nuovo Eh vabbè Suoniamola di nuovo Taylor Swift Taylor Swift Vabbè orecchiavile Sta canzone Non c'è Niente da dire Ma quindi Praticamente Credo che tu Possa fare Questo salto Senza longshot In qualche modo Non lo so Credo che Il map tracker Di hamster Sia semplicemente Un po' Buggato Per quanto riguarda I business club Ma vabbè Ci sta Nessuno gioca Con i business club Schafflati In Diciamo Tra virgolette Competitivo In race Si gioca Sempre con I business club Non schafflati Quindi è comprensibile Se non è Perfetto Il map tracker Con i business club Giù Da darunia Vabbè ci sta Un sacco Però Taylor Swift Lo dico io Che non ascolto Questo genere Immagino a chi piace Questo genere Cairo randomizer Ok Esattamente perché Sto venendo qua Ah si ok Ok mi ricordo C'è la Song of Storms Grotto Da qualche parte No Goron City Grotto Questa l'ho fatta No allora Sono venuto qua Per niente Quindi noi Adesso si va Alle Lost Woods Sì Lost Woods Quindi non abbiamo Il minuet Dove vado Per andare Alle Lost Woods La coiglia Andiamo alla coiglia Che ne pensi Di Di Maio Guarda se mi metto Anche a parlare Di politica Proprio Non ne abbiamo Più per nessuno No non ci posso Credere Che è appena Diventato notte Ok allora Aspetta Facciamo così Non capisco se è giorno Notte Quindi non so Se diventerà giorno Notte Ok Quindi ho bisogno Delle frecce Vediamo se c'è Magic Meter Adesso No Mi sembrano i Mi sembra un cuore Sì è un cuore Ok Niente di utile Ricco cosa ne pensi Dalla distruzione Della biblioteca Di Alessandria Rip O F Mamma mia Giuseppe Con i suoi song request Super specifici Di Zelda Che bomber Chad Che Allora Quindi noi Adesso abbiamo bisogno Di andare Mi sono già dimenticato Dallos Goose Però non abbiamo Il Minuet Che merda Quindi qua possiamo Toglierlo Diving in the lab Va bene Ah diving in the lab Possiamo farlo Raga Facciamolo Aia Craniata Facciamo Diving in the lab In modo Non Non vero Cioè nel senso Questo è un art piece Che si otterrebbe Entrando con la golden scale Qua sotto Cioè la sfida è Tipo toccare il fondo Di questo Di questa piscina Con la golden scale Però Si può fare anche in questo modo Praticamente ci si Hookshot Alla cassa E nello stesso momento Ci si toglie gli iron boots E il gioco pensa Che tutti si è immerso Fino a quel punto Quindi non è Non siamo in logic Non mi aspetto Di ricevere qualcosa Di utile Perché La golden scale Sarà inculata Da qualche parte Però Non si sa mai Infatti Un ice trap Giustamente Me lo meritavo Ora Gli diamo La prescrizione Perché la prescrizione Dovrebbe Dovrebbe essere a lui No No Ma davvero Ah la prescrizione Forse è per La prescrizione Per King Zora Mi sa Credo Ok Quindi Chiamiamo Epona E andiamo Allo Los Spools Ecco Secondo te è normale Che due amici litighini Smettano di parlare Per le opinioni Politiche Differenti? No Assolutamente No Ed è anche per quel motivo Che non voglio Assolutamente Avere a che fare Con la politica In questo momento Della mia vita Non ne ho proprio bisogno C'è stato un periodo In cui la politica Mi interessava anche Ma poi ho capito Che è semplicemente Uno di quei tanti argomenti Che è meglio Non toccare No Stas Semplicemente Kingsbora La prescrizione È per il Per Red Zora Mi sembra Ma dai Non è possibile Poi è una cosa Che problemi hai Ma cos'è sta cosa Allora adesso Ci prendiamo Un Big Po Da qualche parte Tipo in sta zona Dove verso c'è un Big Po Big Po Eccolo qui No Mi scappa Mi scappa Scura Quanto mi stanno Sul cazzo Big Po Li odio Ne ho bisogno Di uno Me ne serve Uno solo Me ne serve Dai Ma che cavolo Sto sentendo In il mio orecchio Dovrebbe essere Dovrebbe essere qua L'altro Eccolo qui Dai però Madonna Sti Big Po Quanto mi stanno Sulle palle Ragazzi dai Però Sti Big Po Eccolo Eccolo Ma Ma Possibile Che non riesco A prenderne Uno Figuriamoci Dieci Uno Me ne serve Per fortuna Grazie Ok Che non è Un time randomizer Fagiano ti sfido A mirare Con questo Non è il controller Il problema È il gioco Più Il delay Di Beats No ragazzi Davvero Io non mi ricordo La location Dei Big Po Vabbè Senti No Ero spuzzi Ma quanto dura Sta cosa Tra l'altro Tra poco Sto per togliere Questa cosa Ovviamente Oh Fermi Pona Sette Minuti Bene Ora Li togliamo Oh Gesù Grazie Allora Qua dovrebbero esserci Dei Dei Gold Sculptual Tipo L'anato Eccolo L'anato Sì E poi Già che siamo qua Dato che adesso Queste informazioni Sono abbastanza utili Perché tipo Potrebbero essere Non so Solo le light arrows O Vabbè Sapere che cosa Io vado qui Perché c'è Un C'è una gossip stone Aiuto Mamma mia Mamma mia Vedete cosa Vedete cosa intendo Quando dico che le gossip stone Sono strautili E conviene Anche fare una Una deviazione Per leggerle Mamma mia Questa è stata grossa Non dobbiamo assolutamente fare niente Anche con bigora No No Quindi mi mancano due Sculptual Per fare il water temple E poi devo trovare L'energia magica Ho bisogno dell'energia magica Ciao Artsgars Davvero tanto tempo Colpa mia Sono io che sono sparito Ho bisogno dell'energia magica Non c'è molto da dire Speriamo che non siano Tutti e due Gli upgrade Di energia magica Che non siano Nel bottom Come si chiama Nel Nel bottom of the well Speriamo di no Speriamo proprio di no Tu dovresti dirmi una cosa Che ho già letto Sì Adesso Praticamente In tutte le grottine Così C'è lo stesso C'è lo stesso Consiglio Sulle costa Nel Proof of the wild Ok Quante ore di live sono? Beh siamo in live Da 5 ore e mezza E dobbiamo finire il gioco Quindi ci vorrà ancora Pieno Non tantissimo Ma neanche poco Perché dipende Tra quanto troviamo Dipende Tra quanto troviamo L'energia magica E le frecce di luce Sono le uniche cose Che ci mancano Per poter finire il gioco E le frecce di luce E le frecce di luce Ok Ecco qui Il forest storm sgrotto Meadow storm grotto Ecco questo Non possiamo andarci Shake neanche Il forest temple neanche Ma sai che cavolo Ti dico Ma sai cosa Me ne frega Ma io lo schifo Meadow Non mi interessa Facciamo il meadow skip E via Meadow skip E via Vediamo se so come si fa Ah che palle Non riesco a skiparla Maledetto che sei Meadow No niente Non riesco a skiparla Ah va bene Niente Non facciamo glitch In meno di 7 ore ce la fai Penso di si Ma dipende dove sono le frecce di luce E l'energia magica Dipende quello E' brutto E' brutto così però Cioè perché non abbiamo la minima idea di dove siano Capite Quello è il fatto Non abbiamo la minima idea di dove siano il magic meter Se trovassimo il magic meter almeno Tu cosa mi dice Ok questo è quello che mi diceva che il water temple non contiene nulla Allora semplicemente adesso dobbiamo tentare di trovare light arrows e bottom of the well E sperare che non siano in the forest temple Light arrows e magic meter e sperare che non siano nel bottom of the well O nel forest temple Se devi spaventare Dai speriamo che almeno Questi di Deku Scrub Abbiamo una delle due cose che ci servono Mi basterebbe il magic meter per almeno fare lo shadow temple Magari le light arrows sono pure nello shadow temple Beh? Cosa ho suonato? No è giusta no? E' questo no? Beh? E' solo per Child Link no? Che cos'è? Non capisco E' solo Child, ma davvero? Che palle Ok, quindi adesso cosa facciamo? Facciamo Sono River Grotto Quindi dobbiamo farlo da Da Child Dobbiamo provare Dobbiamo provare a fare I big po' ragazzi Dai, dai, dai cazzo Dai cazzo Dobbiamo riuscire a fare sto big po' Dobbiamo prenderlo Cioè non posso missare tutto di nuovo Cos'è sto Dai vecchio metal Ma che cavolo di canzone Buh Chiamami un big po' Un big po' decente Dico qui dove presto E' vero Eccolo Dai 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 No raga E' difficilissimo Vediamo se riesco a trovare Quello sotto Gerudo Valley Che poi io mi sto facendo I problemi con i big po' Magari non ce nemmeno In un oggetto decente Dovrebbe apparirne uno qua Figuriamoci se non appare Contra il muro Mamma mia Che palle Che odio Pensa se poi i big po' Hanno pure un oggetto utile Devo farli per forza Mamma mia Ma quanto è buio Non vedo niente E' buissimo Madonna Allora qua c'è un bellissimo Sculptulla E dovremmo arrivare a 50 Con questo E quello dall'altro lato Ciao Robby Eccoti lì Devo andare a riposare E' stato un giorno lungo Ciao ci sentiamo E alla prossima Buona fortuna Grazie Ne avrò bisogno Di questo buona fortuna Potrebbe diventare Una caccia al tesoro Per le frecce di luce Questo Dai Eccolo Ragazzi Magic Meter Si Si Buona Andiamo a fare Il maledettissimo Shadow Temple Senza Lens of Truth Vai Andiamo Perfetto Non avevo bisogno D'altro Quindi prima Di andare Allo Shadow Temple Quindi perfetto Ragazzi Ci siamo Ci mancano Solo Ragazzi Unicamente Solo Le frecce di luce Basta E' l'unico oggetto Che ci serve Per finire il gioco Uno Uno ce ne serve Quaranta E vai Ok Quindi Per la prima porta Non ti serve La Lens Ma in realtà Non è necessario Non è necessario Vare la Lens of Truth Cioè La Lens of Truth Non è mai richiesta In nessun punto del gioco Però Io prima di fare Però Io prima di fare Lo Shadow Temple Voglio fare il Water Temple Quindi Adesso che abbiamo pure Quaranta Sculptulla Quindi nello stesso momento Abbiamo preso Quaranta Sculptulla E abbiamo preso L'energia magica Quindi possiamo Sbloccarci Effettivamente Adesso Quindi Ne abbiamo Quaranta Andiamo su Quaranta Ok Quindi adesso Otterremo Il Porta Rupie Grande Sì no Questa live Non mi aspetto Che rimanga salvata Sul canale Ma non vi preoccupate Tanto porterò Altri randomizer Di Zelda Rimanete con me Eccolo qua Sì è l'altro Ok Perché non l'abbiamo visitato Ecco A saperlo Avrei preso Prima l'altro Perché ora Dobbiamo trovare Un modo per fare Rupie E tra l'altro Credo Che il negozio Che vende Esatto Dobbiamo tornare Dobbiamo tornare Child Link Per prendere la chiave Del Water Temple Ma va bene Lo faccio adesso Non è un problema Quindi Io ti seguirò Fino alla fine Grazie Puoi recuperare la live Sì speriamo Speriamo di sì Qualsiasi ora Torno al computer La live è up Perché devo finire Devo finire il gioco Fino Ci manca ancora un po' Cioè un po' Ma siamo messi bene Ci mancano solo Le Light Harrows Intanto mangeremo Le 23 Io non so Se mangerò Probabilmente mangerò Mangerò Una volta finito Una volta finito Qua Di buona Non fare la stupida Dai Ecco Fermati Dobbiamo prendere un cazzo di Big Po Cioè non c'è niente da fare Dobbiamo prendere un Big Po Così adesso Mentre torniamo al Market Diamo il Big Po E vediamo che cosa ci dà No No Non apparire di lì Dai Ma siete Ma siete proprio stronzi Quei Big Po Ma proprio tanto Ma tanto stronzi Oh mamma mia Non li sopporto più Non li sopporto più Big Po Uscite No dai Perché hai così tanti problemi Allora dai Questo qui lo devo prendere No niente Ha perso Non c'è verso Non c'è verso Non c'è proprio verso Di prendere Sti cazzo di Big Po Cioè è proprio perché È difficile mirarli Sì Yes Ecco sono arrivati i Death E in quell'istante Sono riuscito a prenderlo Bene bene Grandissimo Non so pronunciare il tuo nome Per buone ragioni Ok Abbiamo un Big Po Sì sono i Death Pic Hai visto che roba Allora Prelude Quindi togliamo il check Dei Big Po Togliamo il check Di Kakariko Vai Ah potevamo fare Dopo facciamo anche quello Ok No 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 Prima di andare Prima di tornare Child Devo Devo dare il Big Po Tanto Ragazzi Quanto Ci scommetto le palle Che questo non farà Cioè non servirà a niente Questo check Non servirà assolutamente a niente Guardate Ogni tanto qualcuno mette anche belle canzoni Wow Povero Povero Giuseppe Probabilmente perché è un titolo troppo lungo Non lo so Prova a mettere solo Midnight's Lament Smash Ultimate Cioè fai ricerche più Più facile Ok Tieni Il tuo Big Po E' chiaro Ma figuriamoci Se fosse stato Un check utile Stiamo scherzando E lo slash a metà titolo Possibile anche quello Ma prova a mettere il link Metti direttamente il link Ok Mi sta facendo smadonnare Come quando prendo brutti colpi Su quel gioco maledetto Che è Pokémon Death for the win Assolutamente sì È la mia band death metal preferita Ma di tanto anche Cioè ma proprio di tanto Ricordati di bere almeno 0,3 litri d'acqua ogni ora Hai ragione Maggot Sto bevendo meno di quello che servirete Bottom of the well Anche no Per favore Se poi non abbiamo più idee Andiamo nel bottom of the well Ma In effetti potremmo provarlo adesso Però non conviene Non conviene Non conviene Non conviene e basta Tra l'altro io so una cosa Se tu vai da Ganondorf Senza Le Light Arrows Ti dice dove sono È una cosa del randomizer Ti dice dove sono Quindi noi potremmo benissimo Finire il gioco così Andiamo Dritti sparati Andiamo da Ganondorf E ci dice dove sono Quindi ragazzi Siamo praticamente In addirittura d'arrivo Quindi ecco qua Compriamo la chiave del Water Temple Boom Possiamo tornare adulti Subito Fantastico Fantastico ragazzi Stiamo Stiamo andando troppo bene Davvero Ci manca solo lo Shadow Temple Dopo questo Mi danno troppo fastidio I fondali a bassa qualità Giuro Posso capire Ci sono dei texture pack Che li rendono molto più belli Infatti Vediamo se tutti i check Che abbiamo In una zona qui Vediamo se tutti i check Che abbiamo In una zona qui Li abbiamo tolti Non abbiamo la Land of Truth Freestanding Questo Golem City Pot Giusto Quello dovremmo ancora fare Zora Riverstone Potremmo fare quello Vabbè E poi che altro Oh ma ancora Ma perché ti ostini A volermi far fare La Trade Quest Del Big Goron Oh sei contento Oh Adesso Gli dico che ho il claim Check Ma non è vero Ma non mi interessa Ok quindi Serenade Andiamo a fare Morpha Devo fare Shadow e Water Sì E poi è finito E poi mi mancano solo Le Light Arrows Ragazzi ci siamo Abbiamo Abbiamo finito Quindi meno male Che c'è questa feature Che dice che Ganondorf dice dove sono Le Light Arrows Quindi se è vero Che non ci sono Da fare Ganon Trials Abbiamo finito Cioè non dobbiamo Più trovare niente Ragazzi Quindi possiamo Sperare di finire Sotto le 6 ore e mezza È tanta roba Cioè per me È tanta roba Un miglioramento Di un'ora e mezza È tanto Cioè da 8 ore Che poi tra l'altro Non erano 8 ore Erano tipo 8 ore 50 Non mi ricordo Allo screenshot A qualche parte Per me è davvero Un gran miglioramento Probabilmente Vabbè Il mio obiettivo È arrivare a 4 ore 3 non lo so 3 è veramente difficile Però 4 ore Sarebbe una bomba Riuscirci No Non credo 2-8 minuti Però un po' dura Sì È vero che qua Non c'è niente a cui Appendersi No Non c'è niente a cui Appendersi Niente Questa stanza È una merda Bisogna sperare Che non ti arrivino Ad basso I cosini qua Ok È andata bene Ragazzi Quanto è figo Il Water Temple Che si fa Si fa subito Basta avere la chiave Cioè Il Water Temple In Randomizer È una cazzata È veramente Una cazzata È molto più facile In Randomizer Che in Che in Vanilla Il Water Temple E va Ho fallito Morph Vieni qua E non dobbiamo Entrare nel Forest Temple Probabilmente Poi vedrai Sicuro come loro Vedrai Che le Light Harrell Sono L'Earth Container Di Phantom Ganon Eh Infatti È una vera Thick Goron Ah mi ha pure schiaffato In acqua Ce le sto prendendo Da morfa Vergognoso Indovina Robid Possiamo farcela Per favore Non ce l'ho fatta A chiuderlo Ma Cazzo Una volta ce la facevo A chiudere Morph Nell'angolo Non so perché Ce la faccio Bene Buona Adoro sta canzone Ragazzi La adoro un sacco Tua voce Più rumori di gioco Più altre canzoni Moleste Mi stavano uccidendo Quindi questa È una benedizione Ecco perché Anche questa È una canzone Molesta No i death Ragazzi Sono Sono Cioè Lo so che per uno Che non ascolta Death Metal Non vuol dire Praticamente niente Ma Per chi ascolta Questo genere I death Sono Tipo Dieci spanne E sopra tutte le altre Bende Death Metal Una chiave Fantastica È vero perché Praticamente Nel Water Temple E nel Fire Temple È comune Che il boss Come Earth Container Abbia una chiave del dungeon Perché Gli oggetti del dungeon Sono mischiati Tra di loro E quindi anche L'Earth Container Anche l'Earth Container Del boss Ok Quindi ora Volendo potremmo Prendere il cuore Che abbiamo ottenuto Dalle frecce Nel sole Ma non serve assolutamente Niente Quindi Noi adesso Bellissima sta canzone Fields of Opens Dreams E all'inizio Non mi piaceva Troppissimo Poi È stato un grower Ora noi Si va Direttamente Nello Shadow Temple Dritti proprio Dritti nello Shadow Temple Oh Black Future Dai Vector Anche quella è fighissima Grandissimo Però non so come pronunciare Il tuo nome Ti provi dei bei gusti Ocarina of Time Ha una bussola Ok Allora non ci serve Molto meno Quindi ci mettiamo Il fuoco di Beam E Le bond Direi Ok Ophion 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 Bellissimi musici Ti stai consigliando Comunque Che serie Questa Allora Noi Potremmo sbattercene Però facciamo Full clear Facciamo full clear Non mi interessa Facciamo full clear Allora Forse non è nemmeno Necessario Ma tanto abbiamo Bisogno delle chiavi Quindi facciamo full clear E basta Non mi parte Full clear di ogni stanza Oh oh Ah bello fare lo shadow temple Senza Lens of Truth Comunque eh Molto bello Tipo qua ci saranno dei ministrali invisibili Cosa è successo Dalle 15 e 30 Finora Abbiamo preso Quasi tutti i medaglioni Abbiamo scoperto Che il forest temple Non è necessario Che il fire temple Beh si Entrambi Fire temple E forest temple Hanno pietre spirituali E non medaglioni Quindi non dobbiamo fare Né uno né l'altro Che sarebbero stati Degli impieghi Di tempo Abbastanza notevoli Ora stiamo finendo Lo shadow temple Abbiamo tutti i medaglioni Dopo questo dungeon E quindi possiamo Andare da Ganondorf L'unico oggetto Che ci manca Per poter fare Ganondorf Sono le Light Arrows Se non troviamo Le Light Arrows Nello shadow temple Ci dirà Direttamente Ganondorf Si è buggato? Ah no L'ho colpito Mentre usciva E quindi è ritornato Sottoterra subito Non l'avevo mai visto Succedere Ma come mai? Non sapevo nemmeno Fosse possibile Allora adesso Ti buco la testa Però In un colpo Cioè Gli avevo già fatto Un danno Però è stato bellissimo Questo Tripa Tripa Lovski Meravigliosa ragazzi Chi è che la richiesta? Ski Raga ma che stile C'e'A sta canzone Samuel Che stile davvero Questo l'ho messo a un compleanno Hard bus Ma davanti a questa canzone C'è uno stile Nuovo iscritto Non vedo, mi dispiace Il map tracker è full screen Nel secondo schermo Purtroppo Se voglio usare il map track Ok, non mi ricordavo Purtroppo Se voglio usare il map tracker È così, nel senso Ma qual era quello vero? Non mi ricordo Proviamoli tutti Perché il concetto è che qui Tu dovresti usare la Lens of Truth Per vedere quale di questi teschi Di questi pilastri è vero E invece gli altri sono finti Però dato che non ho la Lens of Truth Devo andare a memoria O a esclusione Ma cazzo è possibile? Vabbè E questo qui? No, proprio A esclusione È l'ultimo L'ultimo che mi manca da provare SOS Ma no Ma davvero Ma qual è? Però ma qual è? Serio? For sim, for sim boys Oh Ma mica l'avevo messo prima quello Boh A fantasia Ma fa niente For sim boys Più di una volta va bene Cioè Tra un po' la skipperò Però Per un po' va bene Nel senso Perché dura un sacco Tra l'altro Il video di force and boys Ci sta a saltarla Da un po' Dai Ok Vabbè sì Facciamo full clear Del file dello shadow Speriamo di beccare Le frecce di luce qui Ma non credo Che saranno qui Qui sotto non dovrebbe esserci niente Se non ricordo male Quindi usciamo subito Da questa stanza Lo shadow temple È molto lineare Purtroppo Non permette troppe Situazioni interessanti Nemmeno con Randomizer Cioè A meno che non si giochi In key sanity Con le small keys Però Così normalmente È abbastanza Normale Non c'è Non c'è Niente da dire L'unica cosa interessante È che lo stiamo facendo Senza Lens of Truth Quindi quello potrebbe Effettivamente Potrebbe effettivamente Far sorgere Delle situazioni Impostionale Cioè più che altro Mi devo ricordare Dove sono determinate cose Invisibili E va bene Oh Rolex Che è successo ai miei capelli Me li sono tagliati Due o tre mesi fa Succede Succede Parese che la tua testa Li abbia inglobati Non sapevo potesse succedere Però Questa è la stanza che ha Di più Forse Di più Di più Di più Di più Di più Perché ci sono questi Sculptula maledetti Che scendono dal cielo E non mi ricordo mai Da che punti escono E poi c'è il punto Con le ghigliottine Dopo Non questo Questo qui è ancora Accettabile Che è insopportabile Va bene Adesso ti becchi un Longshot in testa Qua c'è un altro forse No Vedi che non mi ricordo mai Dove sono Cioè non me li aspetto E ci sono Quando me li aspetto Non ci sono Che mafia Eccola qua Questa ghigliottina Oh non c'è verso Non riesco a prendere Il pentismo Ok Appunto senza Land of Truth Qua bisogna ricordarsi Vabbè qui è facile Però più avanti Ci sono delle pedale Proprio imbubbili In movimento Allora qua è pieno di check Quindi assolutamente Ci veniamo Oh che culo Quello ho preso Addio Ah sì è vero Che qua c'è la Non si vede Ma qui in mezzo alla stanza C'è la La super Falce circolare Invisibile Sapete che in una disciplina Olimpica Ci si taglia il piseno Mamma mia Che brutta cosa Allora Di scultura Non mi servono più a niente Però Siamo qui Per sport Prendiamo Letteralmente Non mi servono più a niente Di scultura Possibile che otti Un gioco del 98 Che rispetto a Skyward Solo da un 1% D'animazioni facciali Di link Comunque più espressività Di Breath of the Wild Povero Eccolo qui Guardalo Simpatico L'eroe del tempo A quando la live Circoncisione Per favore No Ecco guarda Cosa mi hai fatto fare Ora mi devo buttare giù Ma perché mi segna Ah perché non sto segnando Le chiavi Vabbè ma questi cazzi Dovrei iniziare a giocare Senza sciaffolare Le chiavi dei boss Mi sa Perché ecco Voglio parlare Per di una roba Praticamente Cosa fanno Ogni domenica Questi pazzi Ogni domenica Praticamente Ci sono le weekly race Europee Di Ocarina of Time Un randomizer Dovrebbero appunto Iniziare alle Tre di domenica Come ho fatto io Oggi Ci sono dei settaggi Ovviamente Dei settaggi Preimpostati Per fare queste race E L'acquario di Cattolica Sto tentando di concentrarmi Per pensare A quello che devo dire Ok E ci sono dei Settaggi preimpostati Ovviamente Per fare queste race E io sto iniziando A pensare A considerare l'idea di fare Di voler provare A fare una di queste race E quindi Dovevo provare A fare un seed In settimana proverò A fare un seed Senza Sciafflare boschi E scrub Che io di solito Sciafflo Perché mi diverto E non sono frustranti Come cose Cioè dico Sciafflare i I token Degli scultulla È frustrante Sciafflare Le chiavi piccole È frustrante Cioè ci sono Dei settaggi Frustranti Ma Non quelli che metto Io di solito Però nelle race Solitamente Vengono anche fatte Delle Delle altre Degli altri Settaggi Più semplici Tipo appunto Non vengono sciafflate Le chiavi Gli scrub Si gioca con Gerudo Fast Cioè non bisogna salvare Tutti i 4 carpentieri E cose così E quindi niente Voglio provare A fare queste race Però lì c'è gente Veramente capace Cioè finiscono in 3-4 ore Per spiegarsi Certo magari senza sciafflare le chiavi È più semplice Cioè le chiavi dei boss Comunque tolgono tanto Diciamo implicano tanto Routing diverso Mentre è più facile Che quando è in un dungeon Senza le chiavi non sciafflate Sai che lo puoi finire Dekunats Devo mangiare una tua noce Anche se era l'espansione Delle noci Però Conta lo stesso Questa canzone è stranamente malinconica Ma i Popix Hanno un No no Cosa cazzo Come ho fatto? I Popix Hanno un po' di Hanno uno stile strano Che riescono a mettere Nostalgia Buone le noci davvero Sono veramente buone Poi quelle già Quelle già sgucciate Qua va a culo Devo sperare Che di atterrare sulla Ecco Ti piacerebbe fare un figlio Prima o poi Ciao Stantos Ok niente Qua devo farlo senza Lens of truth E vabbè No Credo che quella di Endo Fosse una proposta Allora Ammetto di non aver mai fatto Questo pezzo Senza ben so più Quindi mi sto trovando Abbastanza in difficoltà Ok bene Sono su Ok Grazie a Dio Porca Madotsuki Ok Anche qui Senza Lens of truth Non sarà facile Eccolo qua Sì ci sono i bersagli Degli hookshot Ma cos'è Oddio ma ho due cuori e mezzo O due cuori e mezzo Una live su Wargroove Che è che la proposta A me resti una persona Indipendentemente dalle sue opinioni Gusti sessuali E presenza O meno di pisello Tra le gambe Beh cos'è Devo Cioè Allora su cosa dovrei basarlo L'amore Non lo so Tutte quelle cose che hai detto Cioè non è che rimane Molto altro Ecco io lascerò 42 skulltulla Fino alla fine del seed Ricordatemi che non devo più Trovare skulltulla No aspetta Voglio provare a fare una cosa Ah no 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 Ok Attenzione Non devo morire No non volevo mettere Le fricce di fuoco Le fricce normali Mi basta Comunque il suono Dello elf È top tier Cioè Non potevo uscirci Un suono migliore Raga ma che cazzo Cioè Ma schifo Schifo proprio Ok Voglio provare a fare questa cosa Vediamo se ci riesco Allora Il concetto è che Il concetto è che Bisogna tirare una bomba Ecco non ce l'ho fatta Il concetto è che Dentro questo teschio Bisogna tirare una bomba Però gli si può fare esplodere Un bomb chiu dentro Non ce l'ho fatta Che figata Per 50 rupi No non ho le ovaie Quante nut hai mangiato? Ma credo tipo 7-8 Non tantissime Attento alle spine invisibili Esatto Ok Quindi qua abbiamo fatto tutto Possiamo uscire Siamo venuti qua per 50 rupi Abbiamo rischiato di morirci Però ho imparato a fare Quella specie di trucchetto Con i bomb chiu Ci sa Ma che cazzo Raga ma Più più di più che dovrebbe E le persone dicono Aia 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 Tu mi devi dare tre quali Lo sai Tu mi devi dare tre quali Sei consapevole di questo Ok questa è la responsabilità Mi ragazzo è la responsabilità L'importante è che non mi ha detto Allora, attenzione Ma io gli ero un buzzo addosso Qua c'è una cesta invisibile, vero? Dove sta? Dove sei? Dove è? Ma dove sta sta cesta? Che palle! Dove sta? So che è qui da qualche parte, per forza Ma dai! Oddio, dov'è? Il disagio che Rikukun provava era lo stesso che provo io Quando sento le canzoni di 18 minuti in Metallica 18 Oh, cioè, qui c'è una cesta invisibile, per forza Provo Sono abbastanza triste per il fatto che non sto riuscendo a trovare questa cesta Cioè, da qualche parte deve essere Adesso cammino in giro Aspetta, forse l'ho sentita Eccola, eccola Oh! Mamma mia! Per dei bonch, ovviamente Ho un cuore Facciamocelo bastare Non mi chiedo, ho rischiato Ho rischiato proprio tantissimo Allora, attenzione perché qua ci sono i vasi volanti, me li ricordo Me li ricordo per l'altro video di momenti succosi in cui mi hai volato il vaso di fianco No, ho sbagliato No, ho sbagliato Ogni volta sbaglio Devo togliere la Master Sword Non cambia la scuola Devo mettere la Master Sword Ok, ok Ok, ok Sto tipo in mezzo alla morte Sto tipo in mezzo alla morte No, mi toccare Ok Sono vivo Nessun problema Nessun problema Non so come ho fatto a tenere i nervi saldi così in mezzo a due Gibdo I vasi volanti Con un cuore Sono contento di come ho reagito Con due nervi saldi Quando è importante il bisello Ho trovato una noce No 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 ma le noci droppate per terra non contano Solo Solo quelle Solo quelle negli screen Test invisibile Le ho chiesto io la live su Warglooper Ah Beh sì Io lo vorrei portare a Warglooper È veramente un bel gioco Non vedo perché no Mi zeca te lo vedi che me le da Giuseppe stava dicendo Me le da Zelda Figo figo No ma tanto appunto ho detto Secondo me Cioè se non Se non hanno cambiato Se non ho messo dei settaggi sbagliati o eccetera Andando da Ganondorf senza frecce di luce Lo dice lui dove sono Quindi Vediamo Insomma lo scopriamo Lo scopriamo Lo scopriamo di dentro Iniziamo a fare Iniziamo a fare bongo bongo Con un cuore Senza Lens of Truth Vediamo Io sto creando una campagna su wotoo Però non aspettarti del level design della madonna Infatti io sono curioso di cosa stai combinando Alphamax nova Quando la finirai sicuramente ci farò una live Forza cioè come possono fare Allora io ho una fata Se non l'ho consumata senza accorgermene ho ancora una fata Molto bene Allora vediamo di cambiare questa spada Mettiamo la Big Goron Quindi ci sbarazziamo subito di questi Oddio è vero che sulla nave si vola tipo facendo gli attacchi in salto Oppure ti incavi a terra ecco adesso ho volato Non è possibile fare gli attacchi in salto questa cosa Vabbè lui è caduto Mamma mia devastato Cosa mi hai droppato? Freccio io voglio fuori Bongo Bongo è facile dici? Però l'insta kill su Bongo Bongo Ah è meglio una sega Però non ce la farò a farlo l'insta kill su Bongo Bongo È troppo difficile Sai cosa faccio? No non voglio rischiare di dover tornare qui Perché praticamente qui Diciamo che il Farore's Wind è il dungeon migliore in cui mettere il Farore's Wind Lo Shadow Temple è il miglior dungeon in cui mettere il Farore's Wind E volevo provare a metterlo qui per poterci tornare più tardi Nel caso le frecce di luce dovessero essere in queste quattro stanze Però siamo qui Facciamole Senza... Senza problemi Mamma mia che inquietudine questa canzone Vediamo Vediamo Frecce di luce dai Un cuore Non mi fa scherzo in questa situazione Devo dire Alpha perché? Perché mi fai ciò? Perché mi fai ciò? Non capisci che dopo sei ore e venti Una persona è molto molto stanca Ha bisogno di melodie molto più Più pacifiche di questa Forse qua stiamo... stiamo uscendo? No Oh mio dio Lali Lali Grazie Lime Troppo gentile Un euro Cosa ho fatto? Non stavo guardando il gioco Grazie Lime Troppo troppo gentile Vabbè qua faccio con le borde Faccio prima Perché proprio un euro e quindici? Un euro 115 Cos'è? Ah rupie Ma quindi è inutile questa stanza? Ah no serve solo per Per lo school tool Ok Ok Christian Ice La least state of mind Davvero Forse era meglio non attaccarlo proprio È meglio non attaccarle ste cose In questa stanza il master quest Oh no la... la... il floor master invisibile No 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 ragazzi questa stanza ci muoio in faccia In questa stanza in master quest c'è... c'è un dead hand Che figata Un dead hand pieno di bombe tra l'altro C'è di... di fiori bomba Oh ho recuperato il mio decu shield Che si era bruciato Ok quindi da che parte si esce? Da sinistra? Da... no è giusto di qua No Bene Ricco un mercoledì live Se si cosa porti? Se non c'è nulla in programma porti spiegando i miei anichi Allora ehm... devo ancora decidere bene che cosa fare con la schedule Nel senso... adesso mi sono trasferito ieri in questa casa E avevo... cioè ragazzi io stavo aspettando settimane Io ero settimane che volevo giocare Ocarina of Time Randomizer E non l'ho fatto per tenermi la voglia per giocare con voi Che ne sta valendo la pena Quindi io ho pensato solo a questo Poi... letteralmente da quando sono arrivato ieri non ho avuto un momento libero per pensare Bella questa stanza sarà divertente senza... senza Lens of Truth Che l'ho fatto? Mo' ci dobbiamo divertire contro Bongo Bongo Qual è la Zelda più trombabile? Ehm... Ehm... O Twilight Princess Falling between worlds Che vuol dire Ok adesso vediamo se riesco a fare... Moltissimo Fai passato Vieni Fai passato Ah! Perché il cambio del GBP ad Euro! Ha 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 Grandissimo Grazie ancora line Ok vediamo se riesco No niente non riesco a fare l'instakill Cioè più che non riesco ad attaccarlo dopo che gli danno un attacco insata Dai due crouch stabs riuscite a darglieli E praticamente l'instakill su bongo bongo è fichissima Perché il ritmo con cui bisogna dare il crouch stab è velocissimo Cioè proprio pum 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 è così ed è stra-satisfacente Sì Lime mi ha fatto una donazione proprio fa Ti prego mercoledì no sono preso malissimo con la scuola e non vorrei perdermela Ma già non devo ancora decidere Praticamente adesso questa è la live con cui mi sto riprendendo In cui sto riprendendo il ritmo Noce Ovviamente bongo bongo Ormai è tradizione che mi dia le noci Bongo bongo ha anche una debolezza delle frecce di ghiaccio In realtà è scomodissimo secondo me È davvero scomodo battere bongo bongo con quelle frecce di ghiaccio Non lo so non mi ci trovo proprio Oh figo avenged È vero che ando Si è scoperto che ando ascolta metal Così dal nulla Ok quindi ora possiamo suonare il prelude of light E andare da gando E vediamo Per me la scuola può pure bruciare alcune più importanti Oh Magic Mitch Ah Grazie Zelda Quindi questo è l'oggetto ricevuto Per aver collezionato i sei medaglioni da Zelda Quindi abbiamo avuto molto culo A trovare l'altra energia magica Perché noi abbiamo fatto praticamente tutto il seed In cui avevamo bisogno dell'energia magica Per poter entrare nello Shadow Temple E il motivo era che ce n'era una sola in giro Perché l'altra era questa Quindi irraggiungibile prima di aver completato lo Shadow Temple È un problema Cioè è stato un problema Però meno male che l'abbiamo trovato Ciao Devil Ando è come il vino Ogni giorno migliora e scabricosa di lui È vero? No Ando è un buono Che grandezza Minchia te lo immagini se sono Se sono proprio nella salita Sulle scale Ecco invece se c'è la Lappy Mask Salesman Non è proprio carina Non è cosa Devo dire Proprio zero Ok quindi siamo 6 ore e mezza dentro Ganondorf Mi piace questa cosa Quindi ora ci dirà Spero Che ci dirà dove stanno le Light Arrows E vediamo se riusciamo a fare il sub 7 ore Dipende dove sono Se sono Se le Light Arrows sono dietro una quest bastarda Sarà un po' più lunga Però 7 ore ce la dovremmo fare E speriamo di non dover trovare i Golden Gauntlets A proposito Quindi Non ci sono Non ci sono Ganond Trials Numero casuale Qua dovrebbero esserci Da qualche parte ci dovrebbero essere I Deque Scrub Sto cercando la stanza Con il Deque Scrub Ecco dovrebbe essere qua Sì Questa stanza non la conosce quasi nessuno Ci prendiamo le fate I Kai'en Un sacco di Kai'en Questo è il paradiso dei Kai'en Con le fate E 4 Kai'en Vediamo Magari le Light Arrows le hanno loro Ah Tycoon Wallet 999 Possiamo ottenere fino a 999 rupio adesso Golden Scale Mamma mia Quanta roba Questi Kai'en Un sacco di roba Mappa Vabbè Ok Prendiamo anche un'altra pata Possiamo Facciamo Ho sbagliato Volevo No Ok Spammate Bingo Bongo Vi disturbe Zelda è un gioco troppo bello Sono d'accordo Ma tanto tanto Qual è il tuo Zelda preferito? Usare il randomizzatore Sembra proprio una cosa epica Non sto capendo Se è una trollata o che cosa Comunque Chi non ha mai giocato Ocarina of Time Randomizer E ha giocato tanto Ocarina of Time Vi state perdendo davvero Una cosa Molto 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 bella Io come ho detto Ocarina of Time Randomizer Per me È il divertimento più grande Che ho avuto Da Dark Souls Cioè Davvero Giochi single player Belli come Dark Souls Forse Undertale Sì Negli ultimi Cioè Davvero Negli ultimi Cinque anni Per me I giochi single player Più divertenti Sono sicuramente stati Undertale Dark Souls Celeste E Ok A Ocarina of Time Randomizer È stata una scoperta Incredibile Davvero Minchia Te lo vedi Se le Light Arrows Sono Sono nel Forest Temple Brutto Brutto Di spacco con il crouch stab Adesso Crouch stab Boom Mamma quanto è figo Uccidere i nemici Con i crouch stab È troppo figo Magari sono qui Ragazzi Le Light Arrows Con qui Sono qui Impazzisco No Bussola dello Spirit Temple Ma lo so Giocati all Lunight L'ho già giocato Crow Devo giocarlo a Randomizer L'ho giocato a Randomizer Devo giocarlo a Randomizer Lo sto iniziando a Completamente Perdere la capacità Di parlare Penso che l'abbiate notato È figo Figo Uccidere i nemici Che crouch È stato È veramente figo Questo me lo meritavo Otto cuori Partiti così Bravi Chiraz Non devi per forza Non devi per forza Emularlo Si può tranquillamente Beh tranquillamente Non so Non so quanto sia difficile Però si può giocare Su Su Wii Su virtual console Della Wii Si può giocare Ocarina of Time Randomizer Non so esattamente Come si faccia Però si può fare Ragazzi Siamo arrivati Siamo da Ganondorf Ok Spero vivamente Che abbia questa feature Veramente Che dice dove sono Le Lighthouse Però sì Dovrebbe Dovrebbe avercela Ti ho cominciato A seguire da poco Ah ok Tanto tornerò Su Hollow Knight Sicuramente Sia per finirlo Perché non ho mai fatto DLC di Hollow Knight Sia per provare Randomizer Voglio giocare un po' Tutti questi Metroidvania E Zelda Randomizer Questo Sto divertendo Davvero tantissimo Le prime live Della prima stagione Erano su Hollow Knight Davvero Sì Che bello Hype per Silksong Ma in realtà Io non sono proprio Al passo coi tempi Con Hollow Knight Perché devo ancora giocare DLC Quindi io sono un po' Indietro Però sono felice Che continuino a uscire Contenuti su Hollow Knight Ok Adesso dobbiamo vedere Che cosa ci dice I saved I saved Alla Ranch Feed the Young And my Crystal Floats You never beat me My reflecting My herding balls And the arrows From Forest Temple Ok ragazzi Le Light Arrows Sono nel Forest Temple Dobbiamo Dobbiamo No è brutto Però raga È tremendo Borghese No ragazzi No è un problema È un mega problema Questo ragazzi Davvero È un Fottuto problema Perché non abbiamo Non abbiamo modo Per andarci Al Forest Temple Io faccio Io faccio il mido skip Cioè davvero Io faccio il mido skip Perché ragazzi Guardate Le uniche Due canzoni Che non abbiamo Sono Saria E Minuet Saria e Minuet Non possiamo andare Al Forest Temple Io provo il mido skip Eh cioè Scusatemi Se no Dobbiamo trovare Pure la Saria Song Potrebbe essere ovunque No che sfiga ragazzi Davvero Che sfiga Se non ce la faccio Sono penne in culo Davvero Cioè guardate Manca la Saria Song E il minuet Non possiamo andare Al Forest Temple Che sfiga Questa forse È la cosa peggiore Che poteva succedere Cioè in effetti Nel Forest Temple È la location Peggiore In cui poteva essere Perché non so più Dove cercare Quindi Shaking Kakariko Proviamo Shaking Kakariko Adesso Se no potremmo Provare Fire Temple Però Non ha senso Cercare la Saria Song Lì Non abbiamo idea Di dove sia Composer Grave Vabbè Andiamo al Composer Grave Dai Forest Temple Eh ragazzi Cioè Purtroppo Manca poco Cioè nel senso Non è che abbiamo Molto altro Da provare Cioè veramente Abbiamo Abbiamo poco Da provare Dai dammi il minuet Dammi il minuet Ti prego Dammi il minuet Mappa del Forest Temple Beh Quasi No non guarderò Lo spoiler log Ragazzi Erano smegmata Davvero Ragazzi Madonna Che sfiga Che sfiga Di location Per Per Light Arrows Che sfiga Allora Adesso Devo entrare Qui sotto Proviamo un altro check E poi direi Che provo Il middle skip Se riesco a fare Il middle skip Sì però Vuol dire Che dovrei Neanche cercare I golden gauntlets Non è proprio Non è proprio Il caso Devo dire Dai minuet Questo è il minuet Ispansione di munizioni Per la fionda Quindi ora Cosa proviamo Possiamo provare Qualche altro Check veloce Qualche altro check veloce Allora Allora letteralmente Da adult link Ci manca solo Da guardare Fire temple Fire temple Forest temple E basta Letteralmente Da adult link Ci manca solo Da guardare Questi check Mentre da child link Ci manca Il bottom of the well Ci manca Ci mancano Dei business scrub Ci mancano Ocarina memory game No questo l'ho fatto Questo l'ho fatto E E tipo basta Cioè ragazzi O andiamo O andiamo Al bottom of the well O al fire temple O se mi esce Il middle skip Non lo so Io Io provo Provo un attimo A fare il middle skip Se riesco Bene Vuol dire che Non dobbiamo fare Non dobbiamo farci problemi A cercare il minuet Se no Dobbiamo cercare Dobbiamo cercare Il minuet O nel fire temple Cioè La cosa positiva È che possiamo Sia trovare La serie a song Sia il minuet Ne va bene Uno dei due Uno qualsiasi Quindi sono Due check Da cercare Cioè È possibile Che se io entri In il bottom of the well Uno dei due lo trovo No È proprio Un check Cioè È una cosa Dei randomizer Il fatto Del Dei big po Cioè Hanno fatto in modo Che Il check Che ti darebbe Quando gli porti Dieci big po L'hanno ridotto A uno Cioè È umano Perché ogni volta Prendere dieci big po È da spararsi Quindi L'hanno ridotto A uno Ok Poi Sto pensando Se Vediamo Vediamo Le gossip stone Dove sono Le gossip stone Ce ne sono Tantissime Ragazzi Sono troppe Non ci sto Dietro Allora Vediamo Proviamo Sto maledetto Meadu skip Se non mi esce Faccio Un'altra canzone Metal Se non mi esce Faccio Un save warp E Mi Butto nel bottom of the well Provo il bottom of the well Però senza Senza lense è brutto Il bottom of the well Aspetta che qua forse Qua c'è una gossip Fami andare a provare la gossip C'è musica e noi ti teniamo occupati Ma sì Ma io mi diverto comunque Speravo di fare sub 7 ore Però di sto posto non ce la faccio No Vedi big po Questo mi ha detto Mi ha detto la ricompensa del venditore di po Ciao Skull Kid Bella questa canzone Sono i Leilstorm Sì Che fighissima sta canzone Dai devo riuscire a fare meglio schifo Cazzo Eh ragazzi Non mi esce Niente Che è molto Cioè Senza Io sinceramente l'ho visto una volta come fare Ma Non ho mai provato a replicarlo Madonna Madonna No No eh non passo proprio Niente ragazzi Niente si deve cercare Non la saria song Il minuet No No Che sfiga Che sfiga Praticamente Praticamente il mid escape consiste nel fare backflip con 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 Lookshot In modo che Il Il backflip Ti porti Sopra di lui Però Senza preparazione Non Non si può fare Poi preferisco comunque fare il seed Per come è stato Generato Perché il mid escape ovviamente Non è concepito nella generazione del seed Come soluzione Al 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 Era meglio ordinare la pizza Però siamo andati molto più lunghi Cioè saremmo andati molto più lunghi Così invece Che ore si hanno Saranno le 10 Eh Sono le 10 meno 10 Quando finisco tra un Al massimo Proprio al massimo un'ora Eh Maggio qualcosa Così Mido si merita una turmo smegmata in faccia Quindi da child cosa possiamo fare Da child possiamo fare Fammi 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 fare Fammi fare Che abbiamo un po' di check disponibili da provare Altro save warp Perché il save warp è diverso tra child link e adult link Facendolo con Con child link Si Si riparte da Kokiri Forest Peccato perché questo seed È molto bello Cioè nel senso È figo sto seed Perché non Non si devono fare Tipo Due dungeon Cioè Jabu Sì L'ho dovuto fare Però Si poteva anche non fare Fina bare Nel Oknidade Che mi preferite E quindi Cioè due dungeon Non Non fatti Proprio E questo Seed comunque È figo Cioè nel senso Si vede la progressione Mi piace Peccato per questo ultimo particolare Delle light arrows Nel forest temple Ok Adesso perché sto facendo questa cosa Perché voglio Trovare la La crotta Del song of storms Davanti al forest temple Magari ci porta qualcuna Sono due business Sono due business Strat Quindi Ho sbagliato Strat Sì ho sbagliato Strat Eh lo so Una è possibile Che sia nel Nel forest temple Oppure Quindi potrebbe essere Potrebbe essere proprio Uniculata Da qualche parte Quella lì Mamma mia Che sfiga No dobbiamo Cioè dobbiamo pregare Che ogni singolo Item check Che vedremo Dove in poi Siano le Siano O la serie a song O il minuet Cioè semplicemente Quello Dobbiamo sperare Poi tutto il resto È fatto Cioè ci manca Letteralmente Solo quello Solo quello Manca Pensa te E poi Tra l'altro Non sappiamo nemmeno Dove sta Nel forest temple Io spero Che sia abbastanza Vicino all'entrata Che siano Abbastanza vicino All'entrata Le rai Tarros Così Il karma Per averti Si installato Forne Cioè Avete capito La situazione In cui siamo Non è proprio Simpatica Insomma Possiamo andare Da Ganondorf E abbiamo avuto Culo anche Con il fatto Che non sono Sponati Non ci sono Proprio Sponati Come si chiama Ma stavo Pagliando canzoni Per qualche motivo Stavo suonando La serie a song Ma non ce l'ho Quindi non scattava Nessuna canzone Ma infatti Non ci stavo Nemmeno credendo Stavo guardando E dicevo No Non è questo Pure un ice trap Ma andate a cagare Niente Dai dimmi Dove è la serie a song Per cui vuole Beh no Il genuto Dreaminggrounds Is on the way Of the hero Lo sapevamo già Quindi ora Hai provato le rane Allora Una stone of agony Ci ha detto Che le rane Non hanno Nessun check Water temple Is the fullest choice Lo sapevamo Allora Le rane Il secondo minigioco Delle rane È inutile Ce l'ha detto Una gossip stone Spirit temple Is on the way Of the hero Lo sapevamo E invece Il primo check Comunque Non possiamo farlo Perché non abbiamo Non abbiamo La serie a song Quindi quel check Non è controllabile Da noi Oh mio dio Che figata Qua l'avevamo Già fatto Cos'è Megalovania È Un revolving Mischiato Che figata Ciao Spruzzle Ciao Spear of Lies Oh N è venuto A servare la live Che carino All right Mamma mia Quanto è figa War revolving Comunque Pazzesca Davvero pazzesca Poi War revolving Mi ricorda tantissimo Star Qualcosa Of the Non mi ricordo Pierro È una canzone Di Toho Di Clownpiss Che appunto È Anche lui Un personaggio A tema Clown E ha una canzone Ficchissima Come tema E quindi Ogni volta che sento The War revolving Mi viene in mente Clown Di essere quella canzone Infatti ci hanno fatto anche Dei mix Dai Potrebbe essere qui Il minuet Dammi il minuet Dammi il minuet Of forest Dammi il minuet Of forest Ci sono spezza Sono solo silenzioso Spruzzle Spruzzle Esatto Esatto Quella Eccola Sì 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 Minuet Ragazzi abbiamo finito Per sport vedo anche cosa mi vende lui Eye strap chiaro Sì Cazzo Minuet Nemmeno la Saria Song Proprio il minuet Figata Sì L'avevo visitato da adulto Ma non Non si apriva Da adulto E Che fregatura Vedete quante cose si imparano Però io ero convinto Che questo buco qua Con la Song of Storms Funzionasse anche da adulto Invece no Solo da child Abbiamo finito Abbiamo finito ragazzi Dobbiamo solo fare il boss Dobbiamo solo e unicamente Fare il boss Finale Ah beh beh Sì Cioè bisogna fare il forest temple Adesso eh Dobbiamo fare il forest temple Trovare le light arros E poi andare da casa Iniziamo a pensare Che il minuet Poteva essere Nel Nel Come si chiama Nel Light trial Di Ganon Tower Perché ha 6 chest Però per trovarlo Cioè per aprirlo Bisogna avere i golden gunfets Quindi sarebbe stato Tremendo Il minuet È l'unica canzone Che non mi ricordo L'emorgio Giù Ah Allora Ah Ok Eccoci qua Aggiorni al tracker Giusto Minuet Boom Abbiamo quasi tutti gli oggetti Che tristezza però eh Ne abbiamo trovato una zona tunic Allora questo qua è il check Per Per shake Ok Dobbiamo Semplicemente trovare Le light arros Adesso Sei sicuro che il dungeon che hai fatto Hai preso tutti gli screen Ah ok Me la stavi proprio tirando così Sono abbastanza sicuro Di aver aperto tutti gli screen Il dungeon che ho fatto Sono abbastanza sicuro Cioè Deku Tree Dodongo Skavern E Jabu Sì 100% Shadow Temple Potrei No Shadow Temple no Perché avevo Avevo la bussola Quindi Molto difficile Che abbia messato gli screen No Due litri no Due litri sono tanti Però uno sicuramente Uno è qualcosa Sì A proposito Vediamo Teniamoci di rarmi Bene ragazzi Adesso ogni chest Che apriamo Del Forest Temple Può contenere Le light arros Per cui A un certo punto Ci facciamo proprio Retrofront E usciamo Ma la serie a song Non ci serve Quando finiamo Ragazzi Quando finiamo La cosa divertente Sarà anche vedere Gli oggetti Che ci mancano Dove erano Quindi tipo Quasi niente La serie a song E basta Più o meno Cioè veramente Ci manca talmente poco Cosa ci manca? Niente Ci manca La lens of truth La lens of truth Voglio vedere dove è Quello sono curioso Ma non sa lui Quella gnocca Vagina dotata Di Saria Ma è una bambina Giuseppe Scambio di attacchi In salto Mi sa Beh pensavo Mi faccio scoprire Saria da adulta Sarebbe Mamma mia Illegale Illegale davvero Cioè Illegale In un altro senso Già da bambina Illegale Ogni chest Un sorso d'acqua E urina Di Gamer Oh mio dio Ma basta Chiavi Datemi le light arrows Che mi tolgo Dalle valle Basta Comunque no In questo seed Non salveremo Saria Mi dispiace Doveva Doveva tenere Un medaglione Una pietra spirituale Mi dispiace per lei Ah tra l'altro Che figata se Tra l'altro ragazzi Ecco Se Se nel Forest Temple No ma prima Prima andiamo di qua Qua Dovevamo andarci Fandoli a tracchiare Se nel Water Temple No Water Temple Non c'entra niente Se nel Fire Temple Ci fosse il rubino Dei Goron E qui Lo smeraldo Dei Kokiri Sarebbe fantastico Perché Lo zepino degli Zorad Era dentro Jabu Jabu Quindi sarebbero proprio Azzeccati Perfetti con gli elementi Sì stavo fantasticando Ando Mi è per caso Fantasticando Ando Comunque Breaking Benjamin Ci sono Allora adesso Vi faccio vedere Un altro Trick Come aprire Gli screen Sott'acqua Boom Fatto Aperto Eccole qua Mamma mia Vai che figata Save work Piamo via Praticamente È lo stesso Concetto Di Di scendere Sul fondo Del laboratorio Alla goiglia Praticamente Mettendo Gli stivali Non Non puoi Aprire Gli screen Cioè mettendo Gli iron boots Non puoi aprire Gli screen Sott'acqua Però Hookshot Andoti Hai un Pochi frame Per poterlo Aprire Quindi facendo così È come se non avessi Gli iron boots Cioè non li hai Perché li hai tolti Mentre ti stai Hookshot Ando E quindi puoi Aprirlo Anche se Non potresti Sott'acqua Ok Quindi Reload of light Andiamo a finire il gioco Le chiavi sono un segnale di Saria Che implora di essere chiamato A me fa morire Giuseppe Perché non dici Cioè dici solo cose Wholesome E perverse Cioè È fantastico Giuseppe Sta salendo tantissimo Nella tier list No però Saria adulta Vabbè Cremia e su un altro livello Spazzo Dai Ravioli ravioli Don't touch the fish L'ho lì Sverruta Come avresti potuto Aprirla in vanilla Non gioco Di da cinque anni Si svuota il pozzo Si svuota il pozzo A un certo punto C'è un interruttore Se non sbaglio C'è un interruttore Che svuota il pozzo Ho messo la canzone Di Macalola Che balla Ah sì Era quella che hai messo prima Perché non ci ho fatto troppo caso Non era Alkeny Allora hai richiesta Alkeny Ok Tear list degli iscritti Quando? Lo faremo Insieme Insieme a No no Non farò Non farò il video ringraziamento Per le donazioni Della season 1 Però penso che Azzererò le donazioni Le terrò da Da ieri Per i top donators Perché comunque Sono Anche Cioè Io le tengo sempre salvate Ovviamente Terrò Devo pensare a come gestirlo Però credo che farò tipo Una pagina Qualcosa In cui segno tutti Quelli che mi hanno donato Quanto La season 1 Poi riazzero E rimangono solo I top donator sotto Che scorrono Dalla season 2 Credo che farò così Ci sono 5 ore Di platform memes Da vedere Non ce la farei A finire la run Ah è vero E curiamoci un pochino Andrò Andrò molto veloce Su platform memes Sopriatene ragazzi No ragazzi davvero Ve lo dico Cioè sinceramente Ve lo dico Se dovessi farlo per i soldi Non mi divertirei Invece così mi diverso Cioè se fossi obbligato A fare A fare stream Per guadagnare Cioè se questo fosse il mio lavoro Penso che L'impazzerei dopo Poche settimane Perché comunque È molto molto impegnativo Cioè Non è Non è una cosa Per sminguire Nel senso Chi lo fa davvero per lavoro È un lavoro Molto pesante Cioè In confronto a Tipo Un lavoro da ufficio Un lavoro Comunque in cui Non dico che puoi spegnere il cervello Ma quasi Cioè è un lavoro Molto molto difficile Se si vuole fare Come lavoro Veramente Quindi No io lo faccio Perché mi diverso Cioè Nessuna Nessuna discussione Buon Facciamo il boss finale E finiamo Però voglio fare i rimbalzi Con l'ampolla Quindi userò Userò una fata Non voglio farli con la spada Troppo difficile Con la spada Non riesco a fare sub 7 Peccato Ma guarda per quanti frame rimane No la bottiglia è OP Comunque per fare i rimbalzi Ganondorf Ganondorf Dovresti sbagliare A un certo punto Lo sai? Ok No Quando vuoi Quanto danno gli ho fatto Due tennis No ma È durato per troppo tempo Non è normale Quanto cazzo di non mi hai fatto Con quel pugno Ma è Young signorino No non credo Si è riuscito Ma Ganondorf Dovresti sbagliare Quanto sto durando? Ma perché dura così tanto? Ok Via Lul La canzone c'è due volte E fa schifo Posso saltarla Si saltala la seconda volta Longest tennis match Ragazzi ce la facciamo Non sub 7 però Sono contento di averla finita in una live E' troppo contenta davvero Appena finiamo Guardiamo lo spoiler long Per vedere dove Dove è la Revenso of Truth La Saria Song E che altro? Non c'è più niente in realtà Abbiamo ottenuto tutto Ah e poi voglio vedere Se c'è il Goron's Ruby O il Kokiri Emerald Nello Shadow Nel Fire Temple E la quarta ampolla Voglio vedere La quarta ampolla E basta Basta Ah e voglio vedere Tipo anche Cosa c'è Cosa c'è Sotto Alla quest Delle maschere Io non ho una spada Io ho la piccola Questa canzone è di Eh è di Iron World Bello le canzoni di Iron World Ce ne sono tante che sono Troppo simili Madonna 8 cuori Ce ne sono tante che sono Troppo simili Però Una bella ST Iron World Racer Cioè C'è che altro A me che piace Comunque in metal Tante canzoni di Zelda Non ci stanno Riportate in chiave metal Cioè Non ci sono Però tipo Questa si Insanca Stavo rischiando di notte Meno meno che abbiamo trovato L'energia magica Dotto Madonna ma quanti Holpi In realtà non ho citato Non ho citato niente Borghese Fantastico L'unica cosa che ho citato Vabbè ma Cioè ci stavo Usare i trick Non sono cheat Sono trick Cioè tipo Aprire le chest Sott'acqua Non è un cheat È un trick Oh oh Perché non si è preso Aiuto È come fare il demonetoro Su Dark Souls Se gli stai sotto alle gambe Non li fai Se gli stai davanti Non li fai Se gli stai davanti È un po' simile Al demonetoro No Uh che rischio Musica di Zelda Per concludere la battaglia finale Ho finito l'energia magica E tira una squadata Questo Energia magica Eccola Oh no 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 Ma perché Olè Sì ragazzi Mineta Ma quello che stiamo colpendo È la coda O il piselo È il piselo 706 No 705 Facciamo Figata Andiamo 705 È finito in una live Sì Sono contentissimo ragazzi Sono stracontento Di essere Che figo Sono contentissimo Davvero GG ragazzi Mamma mia Che bello È bellissimo È davvero figo fare Randomizer Così In una live Cioè dall'inizio alla fine È veramente bello La Quarta ampolla È la bottiglia d'acqua Dalla quale stai bevendo Be gone Tipo Adesso Tre ore di meme Ragazzi Io spero Che voi Non abbiate postato Porno Tanto lo sappiamo Che questa live Non rimarrà mai Su youtube Ok Però Non vorrei Che mi si chiudesse Il canale Quello vorrei evitare Semplicemente Comunque GG Quindi Pic Se riesci Magari Dato che free È dovuto Andare via Se riesci a fare Un po' Un giro Su platform Mims Tipo verso Dopo le nove Siamo sicuri Che non ci sono porno E cancellarli Buona Curse you borghese Adesso arriva Curse you borghese Wow Mamma mia Troppo figo ragazzi È stato davvero Fighissimo Voglio Voglio assolutamente Fare altre run Randomizer Sia di Ocarina of Time Sia di Majora's Mask Anche di A Link to the Past Quando riuscirò A rigiocarmelo tutto E avrò abbastanza Conoscenza del gioco Quanto Ocarina of Time E Majora's Mask Perché al momento Di A Link to the Past So poco niente Cioè ho visto tante run Randomizer Di A Link to the Past Ma mai giocate E A Link to the Past L'ho giocato Quando avevo tipo Tredici anni Quindi non mi ricordo Assolutamente niente Va bene Ci sono solo Sette otto Lolli di merda Ma non sono nude Ok quindi Adesso Noi Consideri Il Maestoso Corpo Di King Dedede Coperto dalla tua faccia Come porno No Se c'è la mia faccia Che censura Va benissimo Ok Quindi noi adesso Allora Prima di tutto Mettiamo Mettiamo Ti In finestra E adesso Vedete tutto Merdoso Ma va bene Adesso metto a posto Mamma mia I miei capelli Sembro Sembro un Dottore pazzo Madonna Magari Sarebbe stata una buona idea Pettinarsi Questa mattina Che dite Vabbè Quindi Adesso Riposizioniamo Ocarina of Time Perché così Davvero fa Fa cacare Cioè Non potete vedere Uno schermo Mini schiacciato Ok Bene Fatto ciò Aspetta che Vedo di Posizionarlo Perché il mio spirito OCD Sta impazzendo Ce lo devo fare Ragazzi Niente Vaffanculo Va Non riesco Mi da fastidio Perché c'è un Pezzettino Che si sovrappone Ok Ce l'ho fatto Ok Quindi adesso Notepad Più più E apriamo lo spoiler log No no Aspetta Ma ce l'ho Ce l'ho su Ragazzi 42 spettatori Attuali Io non ho visto Il numero di spettatori Per tutta la live Ragazzi Siete un sacco Vi voglio bene Vi voglio un sacco bene Notepad Più più Come i programmatori Sì L'ho usato fin troppo Guarda Notepad Più più Purtroppo Ok Pettinero Allora Io non so Ragazzi Perché purtroppo Carino of Time È stato aggiornato Alla versione 4.0 Quindi Ehm Lo spoiler log Mi sa che non ce l'ho Merda Aspetta Fammi provare Vado Nella cronologia E' il punto di recuperare La pagina Che avevo prima Ok Dovrei avercelo Sì Spoiler log Ok Ce l'ho Quindi Allora Vediamo Forest Temple Forest Temple Il Forest Temple Aveva Non faccio vedere Ragazzi è troppo complicato Lo spoiler log Oh Raw spoiler Questo volevo Oh Non voglio queste cose Da fichette Tutte organizzate belle Voglio il raw spoiler Nel foglio di Notepad Ok Adesso registro Notepad E vi faccio vedere Ragazzi Quindi Allora Cerchiamo Prima di tutto La Lens La Lens Era Ah Era anche lei Nel Forest Temple Quindi la Lens of Truth Era nel Forest Temple Cioè il gioco voleva Che io andassi Nel Forest Temple Dunque Il gioco voleva Che io andassi Nel Forest Temple Prima di andare Nello Shadow Temple Però Il Minuet Era Ah Era in quel buco Lì allo Zora River Ok Quindi Avrei dovuto Fare così Avrei dovuto fare Zora River Suonare la Song of Storms Prendere Il Il Minuet Fare il Forest Temple Prendere la Lens of Truth E le Light Arrows E poi fare lo Shadow Temple Invece abbiamo fatto tutto In ordine Sparso Vabbè Quindi poi L'altra bottiglia Allora L'UOVO DI MALO No Questo ce l'abbiamo Sì Questa l'abbiamo presa Poi Goron City Pot Ah ok È quella che non abbiamo presa È quella del Del vaso di Goron City Che io ancora non ho capito bene Come funziona Quindi vabbè Ecco questa qua Era la quarta lettera E poi lo Zora No Il Goron Ruby Goron Ruby Era Oh Volvagia Quindi erano perfetti C'era Phantom Ganon Infatti aveva il Kokiri Emerald E quindi c'erano Gli elementi giusti Cioè c'era Il Kokiri Emerald Nel Forest Temple Il Goron Ruby Nel Fire Temple E il E come si chiama Il Zora Sapphire Era Dentro Jabu Figata Erano Erano perfetti Proprio Oh c'è Kai En Ciao Kai E poi Che altro possiamo controllare Bah niente In realtà avevamo tutto il resto Praticamente Vediamo le Zora Tunic Dove erano Come ho fatto a missare Tutte le Zora Tunic Del gioco Tipo Allora Una era nel negozio Poi l'altra Era nelle trial di Ganon Nelle Ganon Trials E basta Credo Ce ne sono solo due Ci sono solo due Zora Tunic In giro Beh si ha senso Perché una si trova in giro E l'altra Cioè una te la da King Zora E l'altra la compri Ok Che realtà non ho comprato Nel Vanilla Ok Quindi abbiamo visto Anche lo spoiler logo Se volete Chiedermi qualcos'altro Dove dovevo controllare Sembro un porno attore pazzo Oggi ho iniziato il 2019 Con questa live Davvero Che bello ragazzi Mi sono divertito un sacco Devi riminere solo le cose Che non piacciono a Youtube Non fare cose cattive No non ho affrontato Volvage Non ho avuto bisogno Perché Volvage aveva il rubino Dei Goron Sarevano solo i sei medaglioni Per finire il gioco Ottimo Ottimo Mio fratello mi ha fatto perdere il finale Non so se hai visto Siamo semplicemente Abbiamo trovato il minuet In un buco Delle Song of Storms E siamo andati Quindi Nel Forest Temple Ed era la chest Sul fondo del pozzo Quello con le light tunnels Semplicemente Ok Adesso dobbiamo guardare Plark on memes Che avrà tipo 150.000 messaggi Ci metteremo tantissimo Va bene Sì Volvage è ancora vivo E Saria È imprigionata Da Phantom Ganon Quindi da Runia E Saria Non sono stati salvati In questo seed Rip La scheda di X-Videos Senza porno Dentro Non so se piace Basta che non si vedano porno Che altro possiamo controllare ragazzi Che altro possiamo Guardiamo Guardiamo No a Bigoro Non sapevamo Che aveva una ricompensa inutile Il Deku Theater Theater Cosa aveva? Ah Rupie Ok Niente di importante Poi altre cose Super difficili Da raggiungere Vediamo I Golden Gauntless Dove stavano? Strength Strength Non so scrivere Strength Ok Wolf Sgrotto Chest Questo l'abbiamo preso DM Crater Freestanding Questo l'abbiamo preso E l'altro Dov'era? Scusami Ah Darugna Ok Quindi serviva la Saria Song Per Darugna E la Saria Song Dov'era? Mi sono dimenticato Saria Ah non ci credo No No Non ci posso credere La Saria Song Era l'Heart Container Di Phantom Gaunt Dai Oh mio Dio No Magic Le abbiamo trovate entrambe The Magic Figata Ok No Carina Bello Mi è piaciuto sto scene Mi è piaciuto davvero tanto Mi sono divertito un sacco Ok Quindi niente ragazzi E' il momento 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 Ci metteremo tantissimo A guardare Partomimels ragazzi Io andrò molto molto Velocemente Sappiatelo Cioè facciamo partire I credits qua Facciamo partire i credits Dovrei partire adesso Così almeno c'è una specie Di sottofondo Anche se non c'è la musica Però è figo Gioco? No Ancora deve parlare Che è il canon Dai Finisci il tuo dialogo Che poi partono i credits E ho veramente finito Ok Stuff rolls BAM Finito Carina of time In 7 ore 5 No è vero C'è il dialogo con Z Vabbè Fate le vostre cose Baciatevi Slinguazzatevi Io devo vedere Far con me No non volevo però Bloccare L'immagine Ok Allora Quindi catturiamo Discord E già vediamo Sai domani Che boss Sai domani Allora Adesso devo fare il mio Lifehack Quindi Aspetto Aumentiamo Tipo Di un po' Così vediamo i Ah no è lo zoom Che devo fare Che devo scosare BAM Va che zoomone Così vediamo i memes Più grandi Chiudi sta roba Che frega un cazzo E poi tagliamo meglio L'immagine Così vedete Solo il necessario Ok Perché c'è la musica Di Zelda? Non è stata tolta La musica Dei credits Mi sa che dovrò Mutare Dovrò mutare L'audio Del gioco Allora Mutiamo l'audio Del gioco Ok Partiamo Ragazzi Siete pronti? Per tipo Sette ore Di plarpon memes No Free Non metto la canzone Di memes Ho una idea Di quante volte In loop La dovremmo sentire Tanto l'abbiamo Già sentita In song request Oggi dai Allora Partiamo con Cydonia Questo però L'avevo già visto Ah anche questo Mangiate la vostra Coca Cola Quella latina Bevete la vostra Coca Cola Quella latina Senza Senza Che cazzo Eccolo Il set Punto Png Che cavolo Wow Ancora Ma perché Ger Che posta Pokémon Nero Sempre più veloce Donnine nude Quasi nude Madonna Ma ragazzi Perché sempre più veloce Cos'è? Io non apro gli spoiler Ragazzi Qualsiasi cosa E spoiler Non lo tocco Perché ecco Lo schifo Madonna La velocità La velocità Capitì Rip Oh mio dio Speed Ultima Ma che cos'è? Senza contesto Proprio Oh mio dio Ragazzi Ma che cazzo Sto postando Tremendo Una volta postavate Meme su di me Ah ecco Eccoli qua Free Il cancella Piseli Reggie Non ha abbandonato Nintendo Per questo Sì Finalmente è tornato Riku Kun Ma Fnaf Cos'è questo gioco Con un ragazzo Te esce Un elfo di 9 Zelda Voglio fan F di si iscritto Mio dio Bellissimo Questo è troppo Storia attuale Ciao a tutti E bentornati Su Five Nights at Freddy's Sì Sono tornato Con questo gioco Perché l'ho comprato Su Steam Man Mi sono premesso Di comporre una poesia Per il ritorno di Riku Kun Sei finalmente tornato Tra noi a streammare Mi eri mancata Come la pasta E i frutti di mare Ed ora che hai comprato La tua personale abitazione Giocherai felicemente In una nuova postazione Munita di Capture Card Acquistata con le donazioni Avendo la possibilità Di raggiungere Nuove aspirazioni Ti tocca però Fare i conti Con il tuo passato Ora Tutte le iniziali Per capire cosa sei stato No Mio dio No Smegmato No Bellissimo Ishigak Stupendo Stupendo Cioè Stupendo Davvero Iniziamo bene Sì Subito Proprio Io No raga Però se partiamo Con i video Non finiremo mai Ah ok Però se durano Due secondi Casi sospetti Di intossicazione Del consumo Di noci Ah Sì Una falsa allarme Meno male Oh mio dio Anime Devo aumentare Il volume Di disco Il mese Sì VIRGIN FLARPON Ma chi è Tanner? Crea a let's play su giochi di Nintendo per bambini, frenzonato da Veronica Ma chi è Veronica? Ha un canale YouTube da 2000 iscritti ma non lo flexa per rimorschiare Non studia mai, prende atto da ogni verifica Da grande guiderà una Mustang GT L'unico metogioco che conosce è Angry Birds Il padre era un'azienda multimilionaria Boh, mi è piaciuto questo arco narrativo chiuso su se stesso Da cui ho guadagnato 2 euro, oh mio Dio Oh mio Dio Perché? Ma serio? No, non è possibile, scusami Riccardo Miros Oh, è vero! Se il prodotto è così veloce, se il prodotto è così veloce Se il prodotto è più veloce, non è più veloce You died Dio porco, dai, dammi la banana Dammi la banana Dio Dammi la banana, porco Dio Porco, perché? Madonna, Dio cani Chi è che ha pensato bene di mettere queste messe una cosa così? A me non sarebbe mai venuto in mente Oh, è vero! Oh, è vero! No, vabbè, è troppo bello Hello, my great friends Come and fight me Cos'era? Cos'era? Come and fight me Un calcio Oh mio Dio Oddio, il pollo o la zingara? Prima di tutto bisogna rubare un pollo Vabbè, dai, mi fido Mio Dio, sì Relazionabile Schifo, madò È sempre presente Alexa Pericolo, intrusione Versace No, ma è troppo basso Questo video è troppo bello Questo video è meraviglioso, cazzo Peccato che ha un volume basso Beh, che dire Bello Grande Affitto Come? La sua faccia Esatto Bastardo È in live Durante la mia sessione di D&D No Perché non scrolla più? È morto No, raga Non scrolla più Non scrolla più E ho paura che poi Mi parte verso Il fondo No, stai vedendo messaggi vecchi Ho capito Super F Aspetta, provo a fare una cosa Vado in rego con channel E torno di qua Eh, mi devo scrollare di nuovo Però speriamo Che vada più in giù No, ma il video è di su Hey, there's a liar No, vedi Non va più giù di così Te pensi? Devo fare così Mi, raga Ma come fa? Devo stornare fino su No Vabbè, dai Si va Raga, ma quanti cazzo Quanti cazzo Di cose Avete postato Cioè Avvengono cose Mentre io faccio le live Su questo Discord Questo è stupendo Comunque Questo è veramente bello Madonna Queste sono solo Le cinque sono Bisogna arrivare alle tre Bisogna arrivare Oddio Quanta roba Qua sono solo le quattro Ancora indietro Ok, ci siamo Ci siamo Ah, sì Questo Questo video Non ha senso Perché? Perché non si muove Non fa niente Ehi, there's a liar È proprio La faccia spenta Di link Pog Oddio Regica Che ho cambiato Come stavate No Vabbè Devo Devo pinnarlo Questo Oh no No Non lo pinno È bellissimo Oddio Rickposting Dai Il primo Lo possiamo vedere Il primo Lo possiamo vedere Però devo fermare La musica Il sole Splende Gli uccelli Cinguettano In giornate Come queste Risulta necessario Richiedere A nostro Signore Sakura I personaggi Indicibili Oddio Pure No Puliti I sottotitoli Hai messo Alfa Ma sei un'alfa Signor Masciorito Shashori Isgo Masciu Iro Makai Rosu San Po Per cortesia Aggiungere Asmash Ragazzo Teschio No È un po' Ti prego Richiedo Il ragazzo Teschio Ti prego E va bene Goediti Il cattivo Tempo Super Tantano Adesso Mi ammazzo No ma perché Cioè Ma raga Ma come si fa No È bellissimo Oh mio dio Questo l'avevo già visto Però Anche questo Questo che lo bastavate Ok Ok Perché l'ha fatto Eccolo Eccolo John Cena Che bello Quando c'è la name Su John Cena Sono io Oh mio dio Perché non carichi C'ho la fibra Dai Vabbè Si vede anche così From the gay you Were incubating It's the miracle of life Voglia di morire In succo Turtle duck Carino È molto importante rispondere Everyone poi Petizione per far dire Bentornati con Pikmin Ariculum Quando streamerà Pikmin Assolutamente si Ah anche questo L'avevo visto Fantastico SCP-155 Oh mio dio You fucked them all Perché No 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 Death mountain trail Ma come Jerk Oh mio dio Si E perché Cioè Ma raga Ma come Non mancarmi Fare live Per tipo Mesi Cioè Ma come Faccio a stare Mesi Senza Questo Cioè Io ho Bisogno Di questo Sergio Mattarella Ma il logo Cioè Il logo È stupendo Oh mio dio Ricca Si dai Posso tenere La musica Di sottofondo A meno che Fino che Non arrivano Video Super Importanti Però Tengo Bassa Bassa Ok Fantastico Quello che nintendo Non vuole mostrare Dura un'eternità Quanto Il sole Tornerà Cringe Come me le lucertole subiscono più danni dei bastoni piuttosto che dalle spade Tutti subiscono più danni dei bastoni rispetto alle spade Per me Monica Ce la basso ancora un po' Gucciaro È vero che c'è anche Gucciaro Che canzone è tra l'altro? Mi piace un sacco lo stile Borghese It's so hot in here We can't stay here for long Borghese It's a little thirsty demon Come Sei colpevole innocente per due volte Aspetta un attimo Questo è illegale C'è questa lotta su discord Per chi non lo sa C'è questa lotta su discord Fra a chi piace leggermente la gen 1 E chi la odia E invece ci sono quelli che stravedono per la gen 5 Però ormai è la maggioranza Quindi non si può più dire nulla Quello è come funziona sul nostro discord No 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 Cosa sto facendo Cosa sto facendo No perché Spank of King K.Rool Sì 10 minuti buonanotte The fool Yes You are a fool Ice trap And say you a slave 10 rupees Sons 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 Che cazzo L'abbonamento Il controllore Rip Abbiamo tutti quell'amico che è sempre in ritardo Precotto The girl you like Duomo Suo padre Cadorna Suo fratello Loreto Su fidanzato Garibaldi E Rex Centrale Tu Precotto Precotto Oh mio dio Mi ricordo nei vecchi video Fatti Source Filmmaker su Team Fortress Che bello Hits Tuba Eccoli i niemi infatti B Cosa cazzo era? No che schifo Cosa cazzo era? You got the gay now You can pull up gay flower La mia faccia Oh, sta canzone È degli avvantaggi Sì, Alchemy I have to take away your fucking n-word pass Give me your n-word pass, man I'm taking You can no longer say the n-word Give me this piazza Wow, the n-word pass Questo momento, questo momento è stato bellissimo Ice trap che si rompe Non l'ho capito Questa è vera musica Sì, questo è stato un ripost bellissimo Foi? c'è anche face 3 via vai dad vai dad non sta morendo intanto n***a watch out 50 modi per chiamare link burchese no no rip non l'ho capito non l'ho capito gente censurata con pidgey star oddio l'avatar di pidgey star adesso popolo di striscia rieccoci qui a San Andreas in provincia di Napoli con un ospite d'onore il capibbo questo oggi è l'accordo della nostra striscia mobile vedremo chi non rispetta le regole della strada dai andiamo Luca signora Betes spia giù basta basta ce ne andiamo ce ne andiamo basta basta da Napoli è tutto a voi in studio chiara Anel oh mio dio Megamind smug yes ma questa immagine ijigak tu mi devi spiegare perché l'avevo vista su ijigak che 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 serverà la mia immagine io devo saperla non credi pidgey star oh mio dio a corsa concept art no è vero perché in west of loating c'è sto stile qui quindi veramente facciamo le concept art così che bomba pokemon omegalul yes oh mio dio che schifo pasta verde reminder che io non non mangio da pranzo quindi mi avete visto qui tutto il tempo non mi sono alzato se non per togliermi il maglione e rimettermelo ah ok l'ho capita è uno schermo infatti non stavo capendo cosa c'era che non andava stai in sta immagine ehi rikukun la mia faccia che cazzo è sta immagine biskai fare il bis do it again oh mio dio ma sta immagine c'ha tutto un suo senso perché madotsuki però ci stava bene questa la voglio pinnare devo ricordarmi io non è che pinno i meme che mi fanno più ridere per forza perché sennò dovrei pinnare il tizio che si butta dalle scale per 50 volte fino a che non riempie tutto il plarpon memes io pinno le cose più related ai plarpon memes appunto i meme che mi fanno ridere comunque cioè io li apprezzo comunque però non li voglio pinnare notete notete no piseli che cazzo boh riempie Mentre beve Girl Gamer P Ops Benvenuti al cazzo di Crusty Club Bambini di merda, oddio Il Biscai Che bello, abbiamo trovato Kai Bisello Il bisello esiste addirittura La cianfrinatura o cianfrino o bisello È il termine che indica il taglio angolato di uno spigolo Quindi Quindi questo è un bisello Non, ovviamente, ecco Non dovevo farlo Tipo questo, l'angolo, ovviamente di qua, non quello sotto È un bisello Fantastico, abbiamo scoperto una cosa nuova Dandi straizzito Che il bisello lo ha in bocca Conto duro Un minuto è troppo Reposto Prova sempre bene Grazie per tutte le Episodio Delta Erezioni da voi causate Che bella la serie su Horus Ragazzi, ma la serie su Horus Quanto è stata bella, cioè Troppo, troppo bella Harry Potter Perché? Come è venuto in mente Marco Merrino Oh mio Dio Ragazzi, la serie su Horus Ma che ricordi? Troppi ricordi la serie su Horus Davvero? Che cazzo Nel cerchio misterioso Perfetto Quando è passata più di un'ora E Riku Strunz non ha bevuto Riku Strunz Non la posso capire No, cos'è? Un macro Glossum Stellarum Invisibile Wow Che ansia Ma l'apre un sacco La bocca Sto gatto Sì Sei su Pokémon bianco Prima o poi Oh Oh Ci stava La sputacchia Mamma mia Non ci posso credere È aperta Ragazzi Cioè è chiusa Prima del video Wow No vabbè Questo è su un altro livello Oh mio Dio Scritto a parta A prova Eh sì Non mi ricordo neanche più Come si chiama ormai Non mi ricordo più il nome vero Pardini Fabrizio Pardini Filippo Pardini Roberto Roberto è il classico Lorenzo Gianmarco Io mi immagino Lui che lo vede Dice Ma che cazzo Oh mio Dio No Perché non mi caricano Le immagini Game over Che cavolo Riccucun Contro Young Link Chi è il genio Non ho visto Chi l'ha postato Chiuraz Oh mio Dio Che bello Ma io non ho i capelli Così scuri Comunque Dai Comunque ragazzi Vi prometto Io non Io normalmente mi pettino E oggi Cioè davvero Normalmente mi pettino Chi mi Chi mi vede Normalmente Lo sa Che non ho Questi capelli Solitamente Però cazzo Oggi davvero Non lo so È così Ormai siamo arrivati A modificare il cognome I really just want to die Eh sì Come hai fatto Free Oh mio Dio Quindi Ci sono questi No Non l'ho capito Non capisco dove Devo guardare Però va bene Ok ho preso il gatto Per pulire Sei bene No You had one job Oh Helna Come cazzo Avete fatto Wow Queste sono le Le mermaid melody Wow Sei stato smegmato Fantastico No vabbè ragazzi Ma chi l'ha fatto Cioè Io Io ormai smetto di chiedermi Chi ha fatto ste cose Ma Cioè Geni Io devo sapere Chi le fa Dal biselo Sbisellone Che carino Questa immagine È una delle cose Che mi mette più di buon umore Che posso vedere In un'immagine Davvero Rip Basumba Sinceramente Io non vedo l'ora Di vederti mangiare La pizza Giuseppe Rip Non l'ha mangiata Devo mangiare qualcosa Tra l'altro Adesso mi faccio qualcosa Wow Stai zitto Casa di Sponge Bob Genio Tigre in cerca Di sesso Cerco donna Quarant'anni Che schia Cazzo In culo Jason De No vabbè Chi le ha postate Dandy Ciao scusa Che fai qui Per me stai benissimo Anche di selvaggio Molto vero Stasera Figa Giuseppe Oggi è preso bene Come che c'è stasera C'è bordello Figa Spacchiamo tutto C'è la chiusura Del crank Figa Spacchiamo tutto Si fa I tacchini Se non vieni Stasera Non c'è nessuno C'è Fabrizio Maurizio Figa Figa Non vieni Sei un tacchino Figa Spacchiamo tutto Ma chi è sto qua Perché mi si è indurito il piselo Sono stato bannato da free No che cazzo Questa va pinnata però Questo mi sa che va pinnato Sì Devo ricordarmi di pinnare questo e l'altro DigiGack Se fosse Se il server fosse una room di showdown Pisellino Non devi accadirli senza ridere Pisellino Spirulino Sì Grande Mario Mario Run Yahoo 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 Stairs No vabbè Su un altro livello questo Però era figo No Sì questi sono i meme che piacciono a me Bravi ragazzi Sì Vabbè ma questa Purtroppo l'ho capita ragazzi Niente da dire Bravo Se fai così schifo che se ti suicidi Dio ti riporta in vita Pur di non averti lì Ma cosa Wow Ah avete aggiornato con le censure Adesso usate la mia vera faccia Eh Volevi Abbiamo l'emoji anche Possibile che nessuno ha reagito con l'emoji di Zeb Eccola qua Eccola qua Pum Cosa ho appena visto Fri che si dà il cutting di foto Despacito Wow Le tisane sogni d'oro Finocchio Quello è Errore di programmazione Non mi ricordavo nemmeno di aver fatto Jabu Jabu Sbelli Infatti dicevo ma Ma possibile Ma Ruto non l'abbiamo vista Mmm Vengo 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 Che cazzo Ok Questo Questo è epico Posso dirlo Oh no guys Ben Shapiro Hamburger helper Is starting to read The last element in the Bible Is starting to bounce Cazzo Oh no Non può ascoltare Non può sentirci Sta usando C sharp Sì vabbè Quel cavolo che leggo Tutta sta cosa Però deve essere una figata Dopo me lo leggo Maledizione proprio Forse in boys Ah questo mi mancava troppo Devo risentirlo Era diventato tradizione Barone meme Sei là fuori da qualche parte Io ti troverò Lo giuro Non ci riuscirai E invece sì Bottom text Io non ho mai capito Il contesto di sta cosa Ma mi Da dipendenza Non lo so Da dipendenza Questa cosa Quanto dura Sì Ciao Bot Questo Questo ci stava Oh no Oh no Bot Bot the wild Infatti mi mancava un pezzo L'importante è partecipare Yay mammy Yay Ok Iscrivetevi a PewDiePie Sai che forse non sono iscritto a PewDiePie Dopo mi iscrivo For the memes Perché hai censurato FreeTime Anche lui è un entusiasta del tuo ritorno Questo video è diventato una droga per me Mortaggi2 Ma come 26 spettatori Ciccio gamer che posta 1500 mi piace Wow Please stop staring at it Ci sta Oh mi sono fidato a premere su spoiler Non lo farò più No fun Quando vanni qualcosa puoi inserire sta foto per motivi professionali Devo mettere un free come reazione Qualcuno ha detto no fun allowed Dota gamers rise up Oh eccolo qua finalmente La manona del pardo nel culo C'ho già la tachicardia Questo è Il nostro caro Pigeo Emozionante questa immagine Io quando ascolto musica Gabri Pigeo Eccolo qua No vabbè Free Free Poteri da mod Pisel Pisel Porno Gay Loli Grande free Così si agisce Quella linea indica che hai Il Discord bianco Non pensate che mi diano fastidio le bestemmie Semplicemente Me ne trago solo vantaggio a non dirne Capitemi E non per Trarne io vantaggio Stoprider criminal Che cos'è? È oblivion questo Ostia Rieccomi scusate per non aver parlato più Cos'è? I piccioni stanno diventando Si stanno alzando nel metagame Dei meme Appare Riccardo Se cerchi Pigeo star Oh mio dio Davvero Perché appare Yuri Anche Schippa C'è il copyright Che cavolo Ragazzi scusate Devo un attimo andare a giocare A mangiare Che cos'era quello? Direi che lo possiamo anche tenere di sottofondo Tanto non dura troppo Attenzione Ah ma questo qua dura un fottio Mi sa Esatto Mi dispiace Pigeo Però l'avevamo già visto Sì anche questo dura un fottio Noo E niente Devo tornare indietro Devo tornare indietro di nuovo Che palle Perché ogni tanto smette di scrollare Per qualche motivo? Ragazzi state iniziando a postare Troppe donnine 2D Ok ci siamo forse Sì ci siamo Oh mio dio Sì è vero Qua stavo driftando Irla Adrian De Italian Entai Oh mio dio Il Pigeo star No ho rapito Niente Pigeo si sta alzando nel metagame Come? Come è possibile? Come? Cosa sta succedendo? Quando tu vai a creare delle partizioni di questa dimensione fissa Praticamente vai in serie dei processi Però ovviamente si fanno formare dei buchi all'interno Come per esempio quando sei andato via XXTentation A proposito ci manchi volevo dirti Quindi per favore ritorno tra di noi No ma cioè comunque Alfa è un boss Cioè ma è davvero un boss Io spero che tu abbia una pagina Un qualcosa perché Cioè Sono davvero fighi Quelli che fai Quelli che fai Real talk Guardare il live di Rikukun Pek se lo merita È una persona simpatica E vuole divertirsi insieme a tutti noi Guardare il live di Rikukun Per i memes Fatti da tutti Tranne che Rikukun Beh non ho il tempo di farne Tra l'altro Se no mi aggiungerei volentieri a voi Sappiatelo Vuoi una ragazza stasera? Sta per finire la sera Quindi fate in tempo Chissà che conversazioni Sì durerà un anno esatto Ciao Quando sei Giuseppe L'arcangelo Gabriele Pensavo Giuseppe è nostro io ovviamente Ti è messo incinta la moglie Dalla colpa allo spirito santo Devi pur crescere il tuo bambino Non è molto onesto No vabbè Melissa Stop sending me this shit Yeah Vabbè dai Ci ha pure preso la mano L'importante è che non passi una macchina Lì sotto in quel momento Dura un sacco Questo durerà un sacco Oddio Is the time Fortnite dance Mio dio No raga Questo video Io me lo devo ricordare Io devo ricordarmi di pinnare quei due messaggi E di scaricarmi Devo ottenere questo video Devo averlo in qualche modo Perché non mi carica le immagini Quando le apro Sono lì Ho la fibra La reazione è giusta No non scrolla proprio adesso Ma perché smette di scrollare ogni tanto Che palle Qua ci sono i vari schizzi Lasciati trasportare Young Link Young Link Ok ci siamo Questo Trova le uova e riporta Ce le spero Sei la nostra unica speranza Tranquilli Tranquilli Wow Cidio star Oddio Carino Leviticus 2015 If a man has sexual relations with an animal He must be put to death And you must kill the animal Game over furries We got God on our Giusto Riccardo Mio Dio Non sta molto bene Etica Nella What is the Washington Seven years Fogon Pog Camping Fogon Signor Rikukun Si ritenga smegmato Bellissimo Postatelo Vi prego Su Becchadire Wow Fantastico Questo La lore Si infittisce Tra Doge E Fuffi Oh my God Guys Sanza Sto Mi Sands Zmegmato Stai zitta Oh mio Dio Oh mio Dio No Non l'avevo Non l'avevo realizzato Fino all'ultimo Cavolo Nice place Snega Fantastico Non puoi parcheggiare nel post per disabili Ballos Le fan art di Adolf Saria sono me Sono d'accordo Eccoli qua Fortnite S The Hollow Knight Got him Terribile Ever dream this man No Aiuto Oh oh Attenzione 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 Questo è importante Frentendo Dai Ci salutiamo qui Ragazzi Buonanotte Grazie a tutti E Riniziamo Ancora una volta Sempre Risorgiamo dalle ceneri Ancora tramite Super Mario 64 Nel 2019 No è vero Spider-Man Vai Ci lasciamo così Non ci lasciamo tristi Ma ci lasciamo Caricati Carichissimi Per Per ritornare più forti Basta Buonanotte ragazzi Ciao a tutti E grazie mille Per questi mesi Quasi anno Ciao a tutti Bluehead Redemption Ragazzi ma aiuto Oh mio dio Oh mio dio E' troppo E' troppo Importante Cosa c'è dietro Alf E poi ci sono Questi post Che è giusto Lo state ripostando Ok Sì sì L'ho visto No Cosa c'è dietro Cosa c'è dietro Cosa c'è dietro Inaspettatissimo Palo clamoroso Ciao Ciao Govinda Cosa c'è dietro Cosa c'è dietro Cosa c'è dietro Cosa c'è dietro Stop, stop fighting each other, get out of here. How the fuck did you get in here? Eh, cos'è, non so. Let's hold bag guinea pig. Mio Dio. O. D-Doke! Mada ima nara, o-ore no crazy diamond de kizu o nao selu! Dame na, kere? Mio Dio, Yio! Gettis, Gettis. Mio Dio! Ehi, hai tirato una sedia, fai un po' te. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Mamma mia, ok, io sono un sacco stanco, ho fame, perché non ho mangiato, cioè proprio non ho mangiato, quindi ragazzi io adesso niente, andrò a mangiare qualcosa. È stato bellissimo riniziare con le live, qua ci sono ancora loro che si fissano intensamente da quando abbiamo iniziato a vedere i meme, quindi facciamoli comunicare un po'. Mi sono divertito un sacco, è bellissimo streammare qui senza nessuna preoccupazione, sono soddisfatto di essere riuscito a finire tutto un studio di Ocarina of Time Randomizer in una live. E niente, se qualcuno è interessato adesso, allora, adesso i piani sono con calma, perché devo prendere ancora una televisione, devo decidere che serie fare con calma. Perché vorrei portare appunto dei giochi tipo Gamecube su console e tutto quanto, quindi con calma. Devo comprare una televisione, devo vedere un po' come organizzarmi la postazione e tutto quanto. Quindi per delle serie impegnative aspetterei ancora una o due o tre settimane. Le live comunque ci saranno sicuramente, quindi rimanete con me. Non so ancora che schedule farò, non ho idea di che schedule voglio fare quest'anno, vediamo. Rimanete un po' aggiornati tramite il Discord, sicuramente vi scriverò su Riccucun Channel o comunque vi faccio sapere in qualche modo. Non sono sicuro di... thank you, borghese! Non sono sicuro di voler fare la stessa schedule dell'anno scorso, cioè mercoledì e sabato. Credo che la domenica sia un po' più... magari più tranquilla, perché comunque il sabato tendenzialmente di recente soprattutto esco tanto il sabato, invece la domenica non esco mai. Quindi comunque sarebbe più comodo anche per me streamare la domenica, anche perché si può appunto impiegare tutto il giorno, cioè potrei streamare tutto il giorno come ho fatto adesso senza problemi. E insomma, devo decidere, devo un po' capire che cosa voglio fare, perché voglio portare molte più cose come Ocarina of Time Randomizer, Super Mario 64 Speedrun, magari voglio provare a fare speedrun su altri giochi un giorno, oltre a Eumeniki e Super Mario 64, magari voglio riprendere Super Mario Galaxy. E comunque sono cose che mangiano tante ore, quindi è comodo poter avere tutto il pomeriggio che magari si estende alla sera, magari trovo una donna robot che mi cucina la sera, magari possiamo fare come donation goal un milione di euro, mi comprate una maid robot che mi cucina alla sera, potrebbe essere una buonissima idea. Mettiamo il donation goal di un milione di euro, dai lo facciamo. No, non credo che lo farò. Vediamo. Insomma, rimanete con me, vi farò sapere che cosa voglio fare, non ho assolutamente idea di che serie e in che ordine voglio farle, ma so sicuramente che voglio fare Pikmin e Skyward Sword, quelli sono assicurati. E voglio continuare con, appunto, Ocarina of Time Randomizer, Majors Mask Randomizer, vediamo, insomma, si faranno. E poi devo riprendere a esercitarmi per Super Mario 64 Speedrun, perché quello è una cosa che voglio fare davvero tanto. Sarà molto, molto difficile, sarà frustrante. Fatemi sapere se magari vi interesserebbe anche vedere mentre mi esercito, perché non sono ancora in grado di prendere tutte 120 le stelle con le strategie da Speedrun. Però, appunto, mentre imparo magari a prenderle queste 120 stelle, magari potrei streamare anche quello, quindi, appunto, stream in cui mi esercito alla fine. Non lo so, vediamo. Tanto adesso ci siamo, ragazzi, abbiamo la postazione, abbiamo tutta una casa, tutto il tempo del mondo, la fibra, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Quindi, sicuramente, arriveranno altre live e io non vedevo l'ora, non vedevo l'ora di riprendere. È una delle cose che mi diverte di più fare adesso, quindi ancora andiamo avanti così. Quindi, ragazzi, grazie a tutto. Perché robot? Bella domanda, Pippo. Però non lo so quanto costerebbe non robot, capito? Perché quella è una spesa one time, cioè la fai una spesa una volta per un robot e basta. Mentre non robot potrebbe essere più complicato. Una Coca-Cola di bentornato per brindare a questo inizio di seconda stagione di live del 2019, ma il liquido contenuto al suo interno è del tutto casuale, alla salute. Quindi posso beccarmi anche un po', e sai che il po' come funziona in Ocarina of Time? Praticamente li bevi e ti tolgono cuori oppure te li aggiungono, non mi ricordo. Forse è casuale anche quello, non mi ricordo. Vabbè, quindi grazie per la lattina di Coca-Cola Randomizer, quindi poto contenere effettivamente qualsiasi cosa. Tipo Gamer Girl P. Mi metto a pensare a quello. Ragazzi, sono davvero distrutto, devo mangiare qualcosa, perché non ho mangiato nulla se non delle noci. Ogni volta che le trovavo su Ocarina of Time, che alla fine io pensavo di finirle, ma alla fine ne ho veramente mangiate poche. Ci sono pochi drop di noci, effettivamente. Giusto, perché alla fine non servono quasi a niente, si trovano a darle decubata. Ok, ragazzi, rimarremo sempre con te. Ah, Adam, quando fate così cuccioli siete troppo teneri, davvero. Pubblico troppo, troppo wholesome, mi piace. Spada in direzione del cielo. Farei tre Pikmin o porti uno di quelli? No, sicuramente prima o poi voglio rigiocare tutti e tre e sarebbe figo farli in ordine. Soprattutto Pikmin mi piacerebbe fare qualche, dell'uno e del due intendo, mi piacerebbe fare qualche tipo, qualche sorta di challenge autoimposta. Tipo finire Pikmin 1 nel minor numero di giorni, non tempo, quindi non speedrun, ma di giorni possibile, che è molto figo. Quello è davvero figo da fare. O in Pikmin 2 magari impedire, cioè tipo non usare i Pikmin viola al finire il gioco, se non per prendere i tesori, quelli per cui servono i Pikmin viola, però li puoi benissimo ignorare. Cose del genere, sarebbe figo fare delle challenge self-imposte su Pikmin, anche oltre che rigiocarli, perché è bello. E di Pikmin 3 sarebbe figo anche fare le challenge invece, la modalità challenge, che quella ricordo che è molto divertente, perché ci sono sette tipi di Pikmin che si possono usare, quindi tanta roba. Va bene, devi ancora giocare Breath of the Wild nudo, lo so, ma in realtà no. Perché non siamo mai arrivati al milestone di mi piace per cui l'avrei dovuto fare, fortunatamente. Perché Breath of the Wild io non ho intenzione di toccarlo, ragazzi, ma dovete capire che io non voglio più giocarlo quel gioco. Cioè, ma davvero, non lo dico per fare l'alternativo o che cosa, ma proprio l'idea di rigiocare a Breath of the Wild mi mette un disagio. Ma proprio, cioè proprio, no, è una repulsione. Come tipo, se mi dovessero dire, rigioca a un gioco per Gamecube del cazzo bruttissimo che hai comprato per 5 euro nel 2000, no? Cioè, sono proprio quei giochi che dici, non lo devo più toccare. Cioè, ci sono. Pikmin Nudo. È una challenge self-imposta anche questa. Ecco, Wii Music, perché dovrei rigiocare a Wii Music, ad esempio? Cioè, no, ci sono quei giochi che non voglio più toccare con un bastone. E non è il mio genere Breath of the Wild, lo sapete, vabbè. Pikmin 1 lo attendo troppissimo, lo dice anche il tuo diss, tra l'altro. Wizard, non lo so. No, c'era qualcos'altro. Vabbè, ci sono tante idee. Dai, arriveranno, ragazzi. Adesso, dopo tutte queste ore insieme, io vi saluto caldamente. È stato bellissimo ritrovarvi tutti qua. Siete praticamente tutti ancora quelli che mi seguivano. Più vedo qualche faccia nuova ogni tanto, quindi mi fa molto piacere. E niente, però sono davvero... Soprattutto sono tanto contento che siete ancora tutti qua dopo tutti questi mesi. Mi avete effettivamente aspettato. Quindi, grazie a tutti. Spero che vi sia piaciuto questo seed di Ocarina of Time Randomizer. Giocate insieme e sicuramente ne arriveranno altri. Ecco, un obiettivo che invece voglio fare io personalmente, non come streamer o che cosa, voglio assolutamente iniziare a fare race di Ocarina of Time. Quindi se qualcuno, tra l'altro, vuole provare a fare race con me su Ocarina of Time, io sono super contento, appunto, se qualcuno vuole entrare nel mondo dei randomizer perché è davvero tanto, tanto bello. E di italiani non ce ne sono. Cioè, non ci sono proprio italiani che giocano a randomizer di Zelda. Zero. Cioè, proprio non se ne vedono. Nemmeno di A Link to the Past, che c'è da anni ormai, come randomizer, come community, non ho mai conosciuto nessuno. E quindi sono contento di portarlo, insomma. Perché non ci sono. È proprio zero. Quindi sono contento. E nemmeno di Speedrun. Cioè, è proprio una community... Sono due community molto, molto simili, alla fine. Che però di italiano non vedo. Cioè, di zero. Non vedo italiani in queste due community. Quindi, bello. Va bene. Ragazzi, buonanotte a tutti. Grazie mille per essere stati con me. Vedo gente che è rimasta tutto, tutto il giorno. Quindi, davvero, tanto, tanto grazie. Grazie soprattutto anche... Vabbè, anche, non soprattutto, perché i soldi non fanno la felicità, ma devo ringraziarvi in modo speciale, voi che avete donato Lime, Giuseppe e il mega troll che è uscito. E Ixen, anche, mi ricordo, sì. Il troll si chiamava Tanner. E anche Warner Porns. Grazie mille a tutti, ragazzi. Fagiano, anche. Mamma mia, troppe donazioni, ragazzi. Ma mi avete riempito di soldi. Madonna. Mi compro una maid che mi cucina la sera per fare il riandamizer tutto il pomeriggio. Dai. Va bene. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ci vediamo presto. Sicuramente non vi farò aspettare più di una settimana per un'altra live, quindi attendete forte. Non vi saluto tutti perché sono cotto. Sono proprio cotto. Vado a mangiare qualcosa, vado a sistemarmi e poi ci ribecchiamo su Discord per chi c'è. Su Discord in chat, ovviamente. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao, ciao. Sono felicissimo del tuo ritorno. Non vedo l'ora della prossima live. Anch'io. Maid, che babbara ho già stito. Jack, capito tutto. Buonanotte, ragazzi. Stop streaming.